Le mie prigioni di Silvio Pellico Capo 1 Il venerdì 13 ottobre 1820 fui arrestato a Milano e condotto a Santa Margherita. Erano le tre pomeridiane. Mi si fece un lungo interrogatorio per tutto quel giorno e per altri ancora. Ma di ciò non dirò nulla. Simile ad un amante maltrattato dalla sua bella e dignitosamente risoluto di tenerle il broncio, lascio la politica ovella sta e parlo d'altro. Alle nove della sera di quel povero venerdì l'attuario mi consegnò al custode e questi condottomi nella stanza a me destinata si fece da me rimettere con gentile invito per restituirmeli a tempo debito, orologio, denaro ed ogni altra cosa che io avessi in tasca e mi augurò rispettosamente la buonanotte. Fermatevi caro voi, gli dissi. Oggi non ho pranzato. Fatemi portare qualche cosa. Subito la locanda è qui vicina e sentirà il signore che buon vino. Vino non ne bevo. A questa risposta il signor Angiolino mi guardò spaventato e sperando che io scherzassi. I custodi di carceri che tengono bettola inorridiscono di un prigioniero ostemio. Non ne bevo davvero. Mi incresce per lei. Patirà al doppio la solitudine. E vedendo che io non mutava a proposito, uscì. Ed in meno di mezz'ora ebbe il pranzo. Mangiai pochi bocconi tra cannaio e bicchiere d'acqua e fui lasciato solo. La stanza era a piano terreno e metteva sul cortile. Carceri di qua, carceri di là, di sopra. Carceri di rimpetto. Mi appoggiai alla finestra e stetti qualche tempo ad ascoltare l'andare e venire dei carcerieri ed il frenetico canto di parecchi dei rinchiusi. Pensava. Un secolo fa questo era un monastero. Avrebbero mai le sante e penitenti vergiri che lo abitavano immaginato che le loro celle sonerebbero oggi non più di femminine, i gemiti e lini di volti, ma di bestemmie e di canzoni in vere conde e che conterrebbero uomini di ogni fatta e per lo più destinati agli ergastoli o alle porche. E fra un secolo chi respirerà in queste celle? Oh, fugacità del tempo! Oh, mobilità perpetua delle cose! Può chi vi considera affliggersi, se fortuna cessò di sorriderli, se viene sepolto in prigione, se gli si minaccia il patibolo. Ieri io era uno dei più felici mortali del mondo. Oggi non ho più alcuna delle dolcezze che conformavano la mia vita. Non più libertà, non più consorzio d'amici, non più speranze. No, illusingarsi sarebbe follia. Di qui non uscirò se non per essere gettato nei più orribili covili ho consegnato al carnefice. Ebbene, il giorno dopo la mia morte, sarà come se io fossi ispirato in un palazzo e portato alla sepoltura con i più grandi onori. Così il riflettere alla fugacità del tempo mi invigoriva l'animo, ma mi ricorsero alla mente il padre, la madre, due fratelle, due sorelle, un'altra famiglia che io amava quasi fosse la mia. Ed i ragionamenti filosofici nulla più valsero. Mi intenerì e piansi come un fanciullo. Capo 2 Tre mesi prima io era andato a Torino ed avea riveduto, dopo parecchi anni di separazione, i miei cari genitori, uno dei fratelli e le due sorelle. Tutta la nostra famiglia si era sempre tanto amata. Nessun figliolo era stato più di me colmato di benefici del padre e della madre. Oh, come al rivedere i venerati vecchi io mi era commosso, trovandoli notabilmente più aggravati dall'età che non mi immaginava. Quanto avrei allora voluto non abbandonarli più, consacrarmi a sollevare con le mie cure la loro vecchiaia. Quanto mi dolse, nei brevi giorni che io stetti a Torino, di avere parecchi doveri che mi portavano fuori del tetto paterno e di dare così poca parte del mio tempo agli amati congiunti. La povera madre diceva con melanconica amarezza «Ah, il nostro Silvio non è venuto a Torino per vederci!» Il mattino che ripartì per Milano la separazione fu dolorosissima. Il padre entrò in carrozza con me e mi accompagnò per un miglio. Tornò indietro soletto. Io mi voltava a guardarlo e piangeva e baciava un anello che la madre mi aveva dato. E mai non mi sentii così angosciato di allontanarmi dai parenti. Non credulo a presentimenti, io stupiva di non poter vincere il mio dolore. Ed era forzato a dire con mi spavento «Donde questa mia straordinaria inquietudine?» Parea mi pur di prevedere qualche grande sventura. Ora, nel carcere, mi risovvenivano quello spavento, quell'angoscia. Mi risovvenivano tutte le parole udite, tre mesi innanzi dai miei genitori. Quel lamento della madre, «Ah, il nostro Silvio non è venuto a Torino per vederci!» mi ripiommava nel cuore. Io mi rimproverava di non essermi mostrato loro mille volte più tenero. Li amo cotanto, e ciò dissi loro così debolmente. Non dovea mai più vederli, e mi saziai così poco dei loro cari volti, e fui così avaro delle testimonianze dell'amore mio. Questi pensieri mi straziavano l'anima. Chiusi la finestra. Passeggiai un'ora, credendo di non aver requie tutta la notte. Mi posi a letto, e la stanchezza mi addormentò. Capo 3 Lo svegliarsi la prima notte in carcere è cosa orrenda. «Possibile?» dissi ricordandomi dove io fossi. «Possibile io qui!» E non è ora un sogno il mio. Ieri dunque mi arrestarono. Ieri mi fecero quel lungo interrogatorio che domani è chissà fin quando dovrà continuarsi. «Ieri sera, avanti di addormentarmi, io piansi tanto pensando ai miei genitori!» Il riposo, il perfetto silenzio, il breve sonno che avea ristorato le mie forze mentali sembravano avere centuplicato in me la possa del dolore. In quell'assenza totale di distrazione, l'affanno di tutti i miei cari, e in particolare del padre e della madre, allorché udrebbero il mio arresto, mi si pingea nella fantasia con una forza incredibile. «In quell'istante, diceva io, dormono ancora tranquilli, o vegliano pensando forse con dolcezza a me e non punto presaghi del luogo vio sono. O felici, se Dio li togliesse dal mondo avanti che giunga a Torino la notizia della mia sventura, chi darà a loro la forza di sostenere questo colpo?» Una voce interna parì a rispondermi. «Colui che tutti gli afflitti invocano ed amano e sentono in sé stessi. Colui che dava la forza ad una madre di seguire il figlio al Golgotha e di stare sotto la sua croce. L'amico degli infelici, l'amico dei mortali». Quello fu il primo momento che la religione trionfò nel mio cuore, e dall'amor filiale debbo questo beneficio. Per l'addietro, senza essere avverso alla religione, io poco e male la seguiva. Le volgarie obiezioni con cui suole essere combattuta non mi parevano un granché, e tuttavia mille sofistici dubbi infievolivano la mia fede. Già da lungo tempo questi dubbi non cadevano più sull'esistenza di Dio e mi andava ridicendo che se Dio esiste, una conseguenza necessaria della sua giustizia è un'altra vita per l'uomo che patì in un mondo così ingiusto, quindi la somma ragionevolezza di aspirare ai beni di quella seconda vita. Quindi un culto di amore di Dio e del prossimo, un perpetuo aspirare a nobilitarsi con generosi sacrifici. Già da lungo tempo mi andava ridicendo tutto ciò e soggiungeva «E che altro è il cristianesimo se non questo perpetuo aspirare a nobilitarsi?» e mi meravigliava come sì pura, sì filosofica, sì inattaccabile, manifestandosi l'essenza del cristianesimo, fosse venuta un'epoca in cui la filosofia osasse dire «Farò io d'orinavanzi le sue veci». E in qual modo farai tu le sue veci? Insegnando il vizio? No, certo. Insegnando la virtù? Ebbene, sarà amore di Dio e del prossimo, sarà ciò che appunto il cristianesimo insegna. Adonta che io così da parecchi anni sentissi, sfuggiva di conchiudere «Sii dunque conseguente, sii cristiano, non ti scandalizzar più degli abusi, non malignar più su qualche punto difficile della dottrina della Chiesa, giacché il punto principale è questo ed è lucidissimo, ama Dio ed il prossimo». In prigione deliberai finalmente di stringere tale conclusione e la strinsi. Esitai alquanto, pensando che se taluno veniva a sapermi più religioso di prima, si crederebbe in dovere di reputarmi bacchettone ed avvilito dalla disgrazia, ma sentendo che io non era né bacchettone né avvilito, mi compiacqui di in un punto curare i possibili biasimi non meritati e fermai di essere e di dichiararmi d'ora in avanti cristiano. Capo quarto. Rimasi stabile in questa risoluzione più tardi, ma cominciai a ruminarla e quasi volerla in quella prima notte di cattura. Verso il mattino le mie smanie erano calmate ed io ne stupiva. Ripensava a genitori e agli altri amati e non disperava più della loro forza d'animo e la memoria dei virtuosi sentimenti che io aveva altre volte conosciuti in essi mi consolava. Perché di anzico tanta perturbazione in me, immaginando la loro ed orco tanta fiducia nell'altezza del loro coraggio, era questo felice cangiamento un prodigio? Era un naturale effetto della mia ravvivata credenza in Dio? E che importa chiamare prodigio noi reali sublimi benefizi della religione? A mezzanotte due secondini erano venuti a visitarmi e mi avevano trovato di pessimo umore. All'alba tornarono e mi trovarono sereno e cordialmente scherzoso. Stanotte, signore, ella aveva una faccia da basilisco, disse il Tirola. Ora è tutt'altro e ne godo, segno che non è, perdoni l'espressione, un birbante. Perché i birbanti i birbanti sono più arrabbiati il secondo giorno del loro arresto che il primo. Prende tabacco? Non ne soglio prendere ma non vor ricusare le vostre grazie. Quanto alla vostra osservazione, scusatemi, non è da quel sapiente che sembrate. Se stamane non ho più la faccia da basilisco non potrebbe egli essere che il mutamento fosse prova di insensatezza, di facilità ad illudermi e a sognar prossima la mia libertà? Ne dubiterei, signore, se egli fosse in prigione per altri motivi, ma per queste cose di stato al giorno d'oggi non è possibile di credere che finiscano così su due piedi. Ed ella non è sifattamente gonzo da immaginarselo. Perdoni, sa, vuole un'altra presa? Date qua. Ma come si può avere una faccia così allegra? Come avete? Vivendo sempre fra drisgraziati. Crederà che sia per indifferenza sui dolori altrui, non lo so nemmeno positivamente io a dir vero, ma l'assicuro che spesse volte il veder piangere mi fa male. E talora fingo di essere allegro affinché i poveri prigionieri sorridano anch'essi. Mi viene, buon uomo, un pensiero che non ho mai avuto, che si possa fare il carceriere ed essere d'ottima pasta. Il mestiere non fa niente, signore. Al di là di quel voltone che la vede oltre il cortile, vi è un altro cortile ed altre carceri, tutte per donne. Sono, non occorre dirlo, donne di malavita. Ebbene, signore, vi è né che sono angeli quanto al cuore. E se la fosse secondino, io, esco piede a ridere. Tirola restò sconcertato dal mio riso e non proseguì. Forse intendea che se io fossi stato secondino mi sarebbe riuscito malegevole non affezionarmi ad alcuna di quelle disgraziate. Mi chiese a ciò che io volessi per colazione. Uscì e qualche minuto dopo mi portò il caffè. Io lo guardavo in faccia, fissamente, con un sorriso malizioso che voleva dire «Porteresti tu un mio viglietto ad altro infelice al mio amico Pietro?» Ed egli mi rispose con un altro sorriso che voleva dire «No, signore, e se vi dirigete ad alcuno dei miei compagni il quale vi dica di sì, badate che vi tradirà». Non sono veramente certo che egli vi capisse né che io capissi lui. So bensì che io fui dieci volte sul punto di dimandargli un pezzo di carta ed una matita e non ardì perché vi era alcuno che negli occhi suoi che sembrava avvertirmi di non ridarmi di alcuno e meno d'altri che di lui. Capo 5 Se Tirola con la sua espressione di bontà non avesse anche avuto quegli sguardi così furbi se fosse stata una fisionomia più nobile io avrei ceduto alla tentazione di farlo mio ambasciatore e forse un mio viglietto giunto a tempo all'amico gli avrebbe data la forza di riparare qualche sbaglio e forse ciò salvava non lui poveretto che già troppo era scoperto ma parecchi altri e me pazienza doveva andare così fui chiamato alla continuazione dell'interrogatorio e ciò durò tutto quel giorno e parecchi altri con nessun altro intervallo che quello dei pranzi finché il processo non si chiuse i giorni volavano rapidi per me cotanto era l'esercizio della mente in quell'interminabile rispondere a sì varie domande e nel raccogliermi alle ore di pranzo e a sera per riflettere a tutto ciò che mi si era chiesto e che io aveva risposto e a tutto ciò su cui probabilmente sarei ancora interrogato alla fine della prima settimana mi accadde un gran dispiacere il mio povero Piero bramoso quanto lo ero io che potessimo metterci in comunicazione mi mandò un viglietto e si servì non da alcuno dei secondini ma di un disgraziato prigioniero che veniva con essi a fare qualche servizio delle nostre stanze era questo un uomo dai sessanta ai settant'anni condannato a non so quanti mesi di detenzione con una spilla che io aveva mi forai un dito e feci col sangue poche linee di risposta che rimisi al messaggero egli ebbe la malaventura di essere spiato frugato colto col biglietto addosso e se non erro bastonato intesi alte urla che mi parvero del misero vecchio e non rividi mai più chiamato a processo fremetti al vedermi presentata la mia cartolina vergata col sangue mi si chiese con che mi fossi tratto sangue mi si tolse la spilla e si rise dei burlati ah io non rise io non poteva levarmi dagli occhi il vecchio messaggero avrei volentieri sofferto qualunque castigo purché gli perdonassero e quando mi giunsero quelle urla che dubitai essere di lui il cuore mi si riempì di lacrime in vano chiesi parecchie volte di esso al custode e a secondini crollavano il capo e dicevano la pagata cara colui non ne farà più di simili gode un po' più di riposo ne volevano spiegarsi di più accennavano essi a prigionia ristretta in cui veniva tenuto quell'infelice o parlavano così perché egli fosse morto sotto le bastonate o in conseguenza di quelle un giorno mi parve di vederlo al di là del cortile sotto il portico con un fascio di legna sulle spalle il cuore mi palpitò come se io rivedessi un fratello capo 6 quando non fui più martirato dagli interrogatori e non ebbi più nulla che occupasse le mie giornate allora senti amaramente il peso della solitudine ben mi si permise che io avessi una bibbia e il Dante ben fu messa a mia disposizione dal custode la sua biblioteca consistente in alcuni romanzi di Scuderi del Piazzi e peggio ma il mio spirito era troppo agitato da potersi applicare a qualsiasi lettura imparava ogni giorno un canto di Dante a memoria e questo esercizio era tuttavia sì macchinale che io lo faceva pensando meno a quei versi che a casi miei lo stesso mi avveniva leggendo altre cose eccettuato alcune volte qualche passo della Bibbia questo divino libro che io aveva sempre amato molto anche quando pareami di essere incredulo veniva ora da me studiato con più rispetto che mai se non che ad onta del buon volere spessissimo io lo leggea con la mente ad alto e non capiva a poco a poco divenne capace di meditarvi più fortemente e di sempre meglio gustarlo se fatta lettura non mi diede mai la minima disposizione alla bacchettoneria cioè a quella divozione malintesa che rende pusillanime o fanatico bensì mi insegnava ad amare Dio e gli uomini a bramare sempre più il regno della giustizia ad abburrire l'iniquità perdonando agli iniqui il cristianesimo invece di disfare in me ciò che la filosofia poteva avervi fatto di buono lo confermava lo avvalorava di regioni più alte potenti un giorno avendo letto che bisogna pregare incessantemente e che il vero pregare non è borbottare molte parole alla guisa dei pagani ma adorare Dio con semplicità sì in parole sì in azioni e fare che le une e le altre siano l'adempimento del suo santo valore mi proposi di cominciare davvero questa incessante preghiera cioè di non permettermi più neppure un pensiero che non fosse animato dal desiderio di conformarmi ai decreti di Dio le formule di preghiera da me recitate in adorazione furono sempre poche non già per disprezzo ma perché io mi sento così fatto da non essere capace di recitarne molte senza vagare in distrazioni e porre l'idea del culto in oblio l'intento di stare di continuo alla presenza di Dio invece di essere un faticoso sforzo della mente un soggetto di tremore era per me suavissima cosa non dimenticando che Dio è sempre vicino a noi che Egli è in noi o piuttosto che noi siamo in esso la solitudine perdeva ogni giorno più il suo orrore per me non sono io in ottima compagnia mi andava dicendo e mi rasserenava e cantarellava e zufolava con piacere e tenerezza ebbene pensai non avrebbe potuto venirmi una febbre e portarmi in sepoltura tutti i miei cari che se sarebbero abbandonati al pianto perdendomi avrebbero pure acquistato a poco a poco la forza di rassegnarsi alla mia mancanza invece di una tomba mi divorò una prigione deghi io credere che Dio non li munisca di ugual forza il mio cuore alzava i più fervi di voti per loro talvolta con qualche lacrima ma le lacrime stesse erano miste di dolcezza io avevo piena fede che Dio sosterrebbe loro e me non mi sono ingannato capo 7 il vivere libero è assai più bello del vivere in carcere chi ne dubita eppure anche nelle miserie di un carcere quando Ivi si pensa che Dio è presente che le gioie del mondo sono fugaci che il vero bene sta nella coscienza e non negli oggetti esteriori si può con piacere sentire la vita io in meno di un mese avea pigliato non dirò perfettamente ma in compartevole guisa il mio partito vedi che non volendo commettere l'indegna azione di comprare l'impunità col procacciare la rovina altrui la mia sorte non poteva essere se non il patibolo o una lunga prigionia era necessità adattarvi sì respirerò finché mi lasciano fiato disse e quando me lo terranno farò come tutti i malati allorché sono giunti all'ultimo momento morrò mi studiava di non lagnarmi di nulla e di dare all'anima mia tutti i godimenti possibili il più consueto godimento sia era di andarmi rinnovando l'enumerazione dei beni che avevano abbelliti i miei giorni un ottimo padre un'ottima madre fratelli e sorelle eccellenti tali e tali amici una buona educazione l'amore delle lettere eccetera chi più di me era stato dotato di felicità perché non ringraziare il Dio sebbene ora mi fosse temperata dalla sventura da allora facendo quell'enumerazione mi inteneriva e piangeva un istante ma il coraggio e la letizia tornavano fin dai primi giorni io aveva acquistato un amico non era il custode non alcuno dei secondini non alcuno dei signori processanti parlo peraltro di una creatura umana chi era? un fanciullo sordo e muto di cinque o sei anni il padre e la madre erano ladroni e la legge li aveva colpiti il misero orfanello veniva mantenuto dalla polizia con parecchi altri fanciulli della stessa condizione abitavano tutti in una stanza in faccia la mia e a certe ore aprivasi loro la porta affinché uscissero a prendere aria nel cortile il sordo e muto veniva sotto la mia finestra e mi sorrideva e gesticolava io gli gettavo un bel pezzo di pane e lo prendeva facendo un salto di gioia correva i suoi compagni le dava a tutti e poi veniva a mangiare la sua porzioncella presso la mia finestra esprimendo la sua gratitudine con il sorriso dei suoi begli occhi gli altri fanciulli mi guardavano da lontano ma non ardiano avvicinarsi il sordo muto aveva una gran simpatia per me ne già perso la cagione di interesse alcune volte ei non sapea che fare del pane che io gli gettavo e facea segni che egli e i suoi compagni avevano mangiato bene e non potevano prendere maggior cibo se i vedea venire un secondino nella mia stanza e egli dava il pane perché me lo restituisse benché nulla aspettasse allora da me e continuava a ruzzare innanzi alla finestra con una grazia amabilissima godendo che io lo vedessi una volta un secondino permise al fanciullo di entrare nella mia prigione questi appena entrato corse ad abbracciarmi le gambe mettendo un grido di gioia lo prese fra le braccia ed è indicibile il trasporto con cui mi colmava di carezze quanto amore in quella cara animetta come avrei voluto poterlo far educare e salvarlo dall'abiezione in che si trovava non ho mai saputo il suo nome egli stesso non sapeva di averne uno era sempre lieto e non lo vidi mai piangere se non una volta che fu battuto non so perché dal carceriere cosa strana vivere in luoghi simili sembra il colmo dell'infortunio eppure quel fanciullo aveva certamente tanta felicità quanta possa averne a quell'età il figlio di un principe io faceva questa riflessione e imparava che possi rendere l'umore indipendente dall'uovo governiamo l'immaginativa e staremo bene quasi dappertutto un giorno è presto passato e quando la sera uno si mette a letto senza fame senza acuti dolori che importa se quel letto è piuttosto fra mura che si chiamino prigione o fra mura che si chiamino casa o palazzo ottimo ragionamento ma come si fa a governare l'immaginativa io mi vi provava e ben pareami talvolta di riuscirvi a meraviglia ma altre volte la tirannia trionfava ed io indispettito stupiva della mia debolezza capo 8 nella mia sventura sono pur fortunato dicevo io che mi abbiano data una prigione a pian terreno su questo cortile dove a quattro passi da me viene quel caro fanciullo con cui converso alla muta si dolcemente mirabile intelligenza umana quante cose ci diciamo egli ed io con le infinite espressioni degli sguardi e della fisionomia come compone i suoi moti con grazia quando gli sorrido come li corregge quando vede che mi spiacciono come capisce che lo amo quando accarezza o regala alcuno dei suoi compagni nessuno al mondo se lo immagina eppure io stando alla finestra posso essere una specie di educatore per quella povera creaturina a forza di ripetere il mutuo esercizio dei segni perfezioneremo la comunicazione delle nostre idee più sentirà di istruirsi e ingentilirsi con me più mi si affezionerà io sarò per lui il genio della ragione e della bontà egli imparerà a confidarmi i suoi dolori i suoi piaceri le sue brame io a conoscerlo a nobilitarlo a dirigerlo in tutta la sua condotta chissà che tenendosi indecisa la mia sorte di mese in mese non mi lasci non invecchiare qui chissà che quel fanciullo non cresca sotto i miei occhi e non sia adoperato a qualche servizio in questa casa con tanto ingegno quanto mostra di avere che potrà egli riuscire ahimè niente di più che un ottimo secondino o qualche altra cosa di simile ebbene non avrò io fatto buon'opera se avrò contribuito ad ispirargli il desiderio di piacere la gente onesta o a se stesso a dargli l'abitudine dei sentimenti amorevoli questo solidoquio era naturalissimo ebbi sempre molta inclinazione per i fanciulli e l'ufficio di educatore mi parea sublime io adempiva simile ufficio da qualche anno verso Giacomo e Giulio Porro due giovinetti di belle speranze che io amavo come figli miei e come tali amerò sempre Dio sa quante volte in carcere io pensavo a loro quanto mi affliggessi di non poter compiere la loro educazione quanti ardenti voti formassi perché incontrassero un nuovo maestro che mi fosse uguale nell'amarli talvolta esclamavo tra me che brutta parodia è questa invece di Giacomo e Giulio fanciulli ornati dei più splendidi incanti che natura e fortuna possono dare mi tocca per discepolo un poveretto sordo muto stracciato figlio di un ladrone che al più diverrà secondino il che in termine un po' meno garbato si direbbe spirro queste riflessioni mi confondeano mi sconfortavano ma appena sentivo a io lo strillo del mio mutolino che mi si rimescolava il sangue come a un padre che sente la voce del figlio e quello strillo e la sua vista dissipavano in me ogni idea di bassezza a suo riguardo e che colpa ha egli se si è stracciato e difettoso e di razza di ladri un'anima umana nell'età dell'innocenza è sempre rispettabile così dicevo e lo guardavo ogni giorno più con amore e mi pareva che crescesse in intelligenza e confermavami nel dolce divisamento di applicarmi ad ingentirirlo e fantasticando su tutte le possibilità pensavo che forse sarei un giorno uscito di carcere e avrei avuto mezzo di far mettere quel fanciulo nel collegio dei sordi e dei muti e aprirli così alla via a una fortuna più bella che essere sbirro mentre io mi occupavo così deliziosamente del suo bene un giorno due secondini vengono a prendermi si cangia alloggio signore che intendete dire ci ha comandato di trasportarla in un'altra camera perché qualche altro grosso uccello è stato preso e questa essendo la migliore caserma capisce bene capisco è la prima posa dai nuovi arrivati e mi trasportarono alla parte del cortile opposta ma oimè non più a piano terreno non più atta al conversare col mutolino traversando quel cortile vidi quel caro ragazzo seduto a terra attonito mesto capì che ei mi perdeva dopo un istante si alzò mi corse incontro i secondini volevano cacciarlo io lo presi fra le braccia e su dicetto come era lo baciai e ribaciai con tenerezza e mi staccai da lui devo dirlo con gli occhi grondanti di lacrime capo nove povero mio cuore tu ami sì facilmente sì caldavente ed o a quante separazioni sei già stato condannato questa non fu certo la meno dolorosa e la sentii tanto più che il nuovo mio alloggio era tristissimo una stanzaccia oscura lurida con finestra avente non vetri alle imposte ma carta con pareti contaminate da goffe e pitturacce di colore non oso dir quale e nei luoghi non dipinti erano iscrizioni molte portavano semplicemente nome cognome e patria di qualche infedice con la data del giorno funesto della sua cattura altre aggiungevano esclamazioni contro false amici contro se stesso contro una donna contro il giudice eccetera altre erano compendi di autobiografia altre contenevano sentenze morali vi erano queste parole di pascal coloro che combattono la religione imparino almeno quale la sia prima di combatterla se questa religione si vantasse di avere una veduta chiara di Dio e di possederlo senza velo sarebbe un combatterla il dire che non si vede niente del mondo che lo mostri con tanta evidenza ma poiché dice anzi essere gli uomini nelle tenebre lontani da Dio il quale si è nascosto la loro cognizione ed essere appunto il nome che egli si dà nelle scritture Deus Absconditus qual vantaggio possono essi trarre allorché nella negligenza che professano quanto alla scienza della verità gridano che la verità non viene loro mostrata più sotto era scritto non trattasi qui del lieve interesse di qualche persona straniera trattasi di noi medesimi e del nostro tutto l'immortalità dell'anima è cosa che tanto importa e che tocca ci si profondamente che bisogna aver perduto ogni senno per essere nell'indifferenza di sapere chi ne sia un altro scritto diceva benedico la prigione poiché mi ha fatto conoscere l'ingratitudine degli uomini la mia miseria e la ponta di Dio accanto a queste umidi parole erano le più violente e superbe impregazioni di uno che si diceva ateo e che si scagliava contro Dio come se si dimenticasse di aver detto che non vi era Dio dopo una colonna di tali bestemmie ne seguiva una di ingiurie contro i vigliacchi così le chiamava egli che la sventura del carcere fa religioci mostrai quelle scelleratezze ad uno dei secondini e chiesi chi l'avesse scritte ho piacere di aver trovata questa iscrizione disse ve ne son tante ed ho sì poco tempo da cercare e senz'altro di essi con un coltello a grattare il muro per farla sparire perché ciò dissi perché il povero diavolo che l'ha scritta e fu condannato a morte per omicidio premeditato se ne pentì e mi fece parecare di questa carità Dio gli perdoni esclamai qual omicidio era il suo non potendo uccidere un suo nemico si vendicò uccidendogli il figlio il più bel fanciullo che si desse sulla terra e non ridì a tanto può giungere la ferocia e si fatto mostro otteneva il linguaggio insultante di un uomo superiore a tutte le debolezze umane uccidere un innocente un fanciullo capo 10 in quella mia nuova stanza così tetra e così immonda privo della compagnia del caro muto io ero oppresso di tristezza stavo molte ore alla finestra la quale metteva sopra una galleria e al di là della galleria si vedevano le estremità del cortile e la finestra della mia prima stanza chi era mi succeduto colà io vi vedeva un uomo che molto passeggiava con la rapidità di chi è pieno di agitazione due o tre giorni da poi vidi che gli avevano dato da scrivere e allora se ne stava tutto il dia al tavolino finalmente lo riconobbi egli usciva della sua stanza accompagnato dal custode andava agli esami era Melchiorre gioia mi si strinse il cuore anche tu valentuomo sei qui fu più fortunato di me dopo alcuni mesi di detenzione veneri messo in libertà la vista di qualunque creatura buona mi consola mi affeziona mi fa pensare ah pensare ed amare sono un gran bene avrei dato la mia vita per salvare Melchiorre gioia di carcere eppure il vederlo mi sollevava dopo essere stato lungo tempo a guardarlo a congetturare dai suoi moti se fosse tranquillo d'animo inquieto a far vuoti per lui io mi sentivo maggiore forza maggiore abbondanza di idee maggior contento di me ciò vuol dire che lo spettacolo di una creatura umana alla quale si abbia amore basta attemprare la solitudine mi aveva dapprima recato questo beneficio un povero bambino muto ed ormelo recava alla lontana vista di un uomo di gran merito forse qualche secondino gli disse dove ero una mattina aprendo la sua finestra fece sventolare il fazzoletto in atto di saluto io gli risposi con lo stesso segno o quale piacere mi non do l'anima in quel momento mi pareva che la distanza fosse sparita che fossimo insieme il cuore mi balzava come a un innamorato che rivede l'amata gesticolavamo senza capirci e con la stessa premura come se ci capissimo o piuttosto ci capivamo realmente quei gesti volevano dire tutto ciò che le nostre anime sentivano e l'una non ignorava ciò che l'altra sentisse qual conforto sembravami dovesse essere in avvenire quei saluti e l'avvenire giunse ma quei saluti non furono più replicati ogni volta che io rivede a gioia alla finestra io faceva sventolare il fazzoletto in vano i secondini mi dissero che gli era stato proibito di eccitare i miei gesti o rispondervi pensi guardavami egli spesso ed io guardava lui e così ci dicevamo ancora molte cose capo undici sulla galleria che era sotto la finestra a livello medesimo della mia prigione passavano e ripassavano da mattina a sera altri prigionieri accompagnati da secondini andavano agli esami e ritornavano erano per lo più gente bassa vidi non di meno anche qualche d'uno che paria di condizione civile benché non potessi gran fatto fissare gli occhi su di loro tanto era fuggevole il loro passaggio pure attraevano la mia attenzione tutti qual più qual meno mi commuovevano questo triste spettacolo ai primi giorni accresceva i miei dolori ma poco a poco mi vi a sue feci e finì per diminuire anch'esso l'orrore della mia solitudine mi passavano parimente sotto gli occhi molte donne arrestate da quella galleria si andava per un voltone sopra un altro cortile e là erano le carceri moliebri e l'ospedale delle sifilitiche un muro solo ed assai sottile mi divideva da una delle stanze delle donne spesso le poverette mi assordavano con le loro canzoni talvolta con le loro risse a tarda sera quando i rumori erano cessati io le udiva conversare se avessi voluto entrare in colloquio avrei potuto me ne astenni ma non so perché per timidità per alterezza per prudente riguardo di non affezionarmi a donne degradate dovevano esservi questi motivi tutti e tre la donna quando è che ciò debba essere è per me una creatura sì sublime il vederla l'udirla il parlarle mi arricchisce la mente di nobili fantasie ma avvilita spareggevole mi perturba mi affligge mi spoetizza il cuore eppure fra quelle voci femminili ve ne erano di suavi e queste mi erano care ed una di quelle era più suave delle altre si udiva più di rado e non proferiva pensieri volgari cantava poco e per lo più questi soli due patetici versi chi rende alla meschina la sua felicità alcune volte cantava le litanie le sue compagne la secondavano ma io aveva il dono di discernere la voce di Maddalena dalle altre che purtroppo sembravano accanite a ripirimerla sì quella disgraziata si chiamava Maddalena quando le sue compagne raccontavano i loro dolori ella le compativa e gemeva e ripeteva coraggio mia cara il Signore non abbandona nessuno chi poteva impedirmi di immaginarmi la più bella infelice che colpevole nata per la virtù capace di ritornarvi se errasse chi potrebbe biasimarmi se io mi inteneriva udendola se io l'ascoltava con venerazione se io pregava per lei con un fervore particolare l'innocenza è veneranda ma quanto lo è pure il pentimento il migliore degli uomini l'uomo Dio sdegnava egli di porre il suo pietoso sguardo sulle peccatrici di rispettare la loro confusione di aggregarle fra le anime che ei più onorava perché disprezziamo noi tanto la donna caduta nell'ignominia ragionando così fui cento volte tentato di alzar la voce e fare una dichiarazione di amore fraterno Maddalena una volta avevo già cominciato la prima sillaba avvocativa mai cosa strana il cuore mi batteva come ad un ragazzo di 15 anni innamorato e sì che io non aveva 31 che non è più l'età dei palpiti infantili non potei andare avanti ricominciai mad mad e fu inutile mi trovai ridicolo e gridai dalla rabbia matto e non mad capo 12 così finì il mio romanzo con quella poveretta se non che lei fu debitore di dolcissimi sentimenti per parecchie settimane spesso io era melanconico e la sua voce mi esilarava spesso pensando alla viltà e all'ingratitudine degli uomini io mi irritava contro di loro io disamava l'universo e la voce di Maddalena tornava a dispormi a compassione ed indulgenza possa tu o incognita peccatrice non essere stata condannata a grave pena o a qualunque pena sii tu stata condannata possa tu profittarne e rinobilitarti e vivere e morire cara al Signore possa tu essere compianta e rispettata da tutti quelli che ti conoscono come lo fosti da me che non ti conobbi possa tu ispirare in ognuno che ti vecca la pazienza la dolcezza la brama della virtù la fiducia in Dio come le ispiravi in colui che ti ha mossa senza vederti la mia immaginativa può errare figurandoti bella di corpo ma l'anima tua ne sono certo era bella le tue compagne parlavano grossolanamente e tu con pudore e gentilezza bestemmiavano e tu benedicevi Dio garrivano e tu componevi le loro liti se alcuno la porto la mano per sottrarti dalla carriera del disonore se ti ha beneficata con delicatezza se asciugate le tue lacrime tutte le consolazioni piovano su di lui sui suoi figli e sui figli dei suoi figli contigua la mia era una prigione abitata da parecchi uomini io li udiva anche parlare uno di loro superava gli altri in autorità non forse per maggiore finezza di condizione ma per maggiore facondia ed audacia questi facea come si dice il dottore rissava e metteva in silenzio i contendenti con l'imperiosità della voce e con la fuga delle parole dettava loro ciò che dovevano pensare e sentire e quelli dopo qualche renitenza finivano per dargli ragione in tutto infelici non uno di loro che temperasse le spiacevolezze della prigione esprimendo qualche suave sentimento qualche poco di religione e di amore il caporione di quei vicini mi salutò e risposi mi chiese come io passassi quella maledetta vita gli dissi che sebbene triste nessuna vita era maledetta per me e che sino alla morte bisognava procacciare di godere il piacere di pensare e di amare si spieghi signore si spieghi mi spiegai e non fui capito e quando dopo ingegnose elucubrazioni preparatorie ebbi il coraggio di accennare come esempio la tenerezza carissima che in me veniva destata dalla voce di Maddalena il caporione diede in una grandissima risata che cos'è gridarono i suoi compagni il profano ridisse con caricature le mie parole e le risate scoppiarono in coro ed io feci lì pienamente la figura dello sciocco avviene in prigione come nel mondo quelli che pongono la loro salvezza nel fremere nell'agnarsi nel bilipendere credono follia il compatire l'amare il consolarsi con belle fantasie che onorino l'umanità e il suo autore capo tredici lasciai ridere e non opposi sillaba i vicini mi diressero due o tre volte le parole io stetti zitto non sarà più alla finestra se ne sarà ito tenderà l'orecchio ai sospiri di Maddalena si sarà offeso delle nostre risate così andarono dicendo per un poco e finalmente il caporione impose silenzio agli altri che sussurravano sul mio conto taccete bestioni che non sapete quel che diavolo vi dite qui il vicino non è un si grandasino come credete voi non siete capaci di riflettere su niente io sghignazzo ma poi rifletto io tutti i villani mascalzoni sanno fare gli arrabbiati come facciamo noi un po' più di dolce allegria un po' più di carità un po' più di fede nei benefici del cielo di che cosa vi pare sinceramente che sia indizio o che ci rifletto anch'io rispose uno mi pare che sia indizio di essere alquanto meno mascalzone bravo gridò il caporione con urlo stentorio questa volta torno ad avere qualche stima della tua zucca io non insuperviva molto ad essere solamente reputato alquanto meno mascalzone di loro eppure provava una specie di gioia che quei disgraziati si ricredessero circa l'importanza di coltivare i sentimenti benevoli mossi l'imposta dalla finestra come se tornassi allora il caporione mi chiamò risposi sperando che avesse voglia di moralizzare a modo mio mi ingannai gli spiriti volgari sfuggono i ragionamenti seri se una nobile verità tra luce loro sono capaci di applaudirla un istante ma subito dopo ricordano da essa lo sguardo e non resistono alla libidene di ostentare senno ponendo quella verità in dubbio e scherzandoci sopra mi chiese dopo se io ero in prigione per debiti no forse accusato di truffa intendo accusato falsamente sa sono accusato di tutt'altro di cose d'amore no di domicilio no di carboneria appunto e che sono questi carbonari li conosco così poco che non saprei dirvelo un secondino ci interruppe con gran collera e dopo di aver colmato di improperie i miei vicini si volse a me con la gravità di uno sbirro ma ad un maestro e disse vergogna signore degnarsi di conversare con ogni sorta di gente sa ella che costoro sono ladri arrossì e poi arrossì di aver arrossito e mi parve che il degnarsi di conversare con ogni specie di infelici sia piuttosto bontà che colpa capo 14 il mattino seguente andai alla finestra per vedere Merchior e Gioia ma non conversai più coi ladri risposi al loro saluto e dissi che mi era vietato di parlare venne l'attuario che mi aveva fatto gli interrogatori e mi annunciò con mistero una visita che mi avrebbe recato piacere e quando gli parve di avermi abbastanza preparato disse insomma è suo padre se compiaccia di seguirmi lo seguì a basso negli uffici palpitando di contento e tenerezza e sforzandomi di avere un aspetto sereno che tranquillasse il mio povero padre allorché aveva saputo il mio arresto egli aveva sperato che ciò fosse per sospetti da nulla e che io tosto uscissi ma vedendo che la detenzione durava era venuto a sollecitare il governo austriaco per la mia liberazione misere illusioni dell'amor paterno e non poteva credere che io fossi stato così temerario da espormi al rigor delle leggi e la studiata ilarità con gli parlai lo persuasi che io non aveva sciagure a temere il breve colloquio che ci fu conceduto mi agitò indicibilmente tanto più che io reprimevo ogni apparenza di agitazione il più difficile fu di non manifestarla quando convenne separarci nelle circostanze in cui era l'italia io tenevo per fermo che l'austria avrebbe dato esempi straordinari di rigore e che io sarei stato condannato a morte o a molti anni di prigionia dissimulare questa credenza ad un padre lusingarlo con la dimostrazione di fondate speranze di prossima libertà non prorompere in lacrime abbracciandolo parlandogli della madre dei fratelli e delle sorelle che io pensavo non riveder più mai sulla terra precarlo con voce non angusciata che venisse ancora a vedermi se poteva nulla mai mi costò tanta violenza egli si divise consolatissimo da me ed io tornai nel mio carcere con il cuore straziato appena mi vidi solo sperai di potermi sollevare abbandonandomi al pianto questo sollievo mi mancò io scoppiavo in singhiozzi e non potevo versare una lacrima la disgrazia di non piangere è una delle più crudeli nei sommi dolori e oh quante volte l'ho provata mi prese una febbre ardente con fortissimo mal di capo non inghiottì un cucchiaio di minestra in tutto il giorno fosse questa una malattia mortale dicevo che abbreviasse i miei martiri stolte codarda Baram il dio non l'esaudì ed or ne lo ringrazio e ne lo ringrazio non solo perché dopo dieci anni di carcere ho riveduto la mia cara famiglia e posso dirmi felice ma anche perché i patimenti aggiungono valore all'uomo e voglio sperare che non siano stati inutili per me capo quindici due giorni appresso mio padre tornò io avevo dormito bene la notte ed ero senza febbre mi ricomposi a disinvolte liete maniere e nienuno dubitò di ciò che il mio cuore avesse sofferto e soffrisse ancora confido mi disse il padre che fra prochi giorni sarai mandato a Torino già ti abbiamo apparecchiato la stanza e ti aspettiamo con grande ansia i miei doveri d'impiego mi obbligano a ripartire procura te ne prego procura di raggiungermi presto la sua tenera e melanconica amorevolezza mi squarciava l'anima il fingere mi pareva comandato da pietà eppure io fingeva con una specie di rimorso non sarebbe stata cosa più degna di mio padre e di me se io gli avessi detto probabilmente non ci vedremo più in questo mondo separiamoci da uomini senza mormorare senza gemere e che io ho da pronunciare sul mio capo la paterna benedizione questo linguaggio mi sarebbe mille volte più piaciuto della finzione ma io guardavo gli occhi di quel venerando vecchio i suoi lineamenti i suoi grigi capelli e non mi sembrava che l'infedice potesse avere la forza di udire tali cose e se per non volerlo incannare io l'avessi veduto abbandonarsi alla disperazione forse svenire forse essere colpito da morte nelle mie braccia non potei dirgli il vero né lasciarglielo tralucere la mia affoggiata serenità lo illuse pienamente ci dividemmo senza lacrime ma ritornato nel carcere fui angosciato come l'altra volta o più fieramente ancora e in vano pure invocai il dono del pianto rassegnarmi a tutto l'orrore di una lunga prigionia rassegnarmi al patibolo era nella mia forza ma rassegnarmi all'immenso dolore che ne avrebbero provato padre madre fratelli e sorelle questo era quello a cui la mia forza non bastava mi prostrai allora in terra con un fervore quale io non aveva mai avuto si forte e pronunciai questa preghiera mio dio accetto tutto dalla tua mano ma invigorisci sì prodigiosamente i cuori a cui io era necessario che io cessi di essere loro tale e la vita di alcuno di loro non abbia perciò ad abbreviarsi pur di un giorno o beneficio della preghiera stetti più ore con la mente elevata a dio e la mia fiducia cresceva a misura che io meditava sulla bontà divina a misura che io meditava sulla grandezza dell'anima umana quando esce del suo egoismo e si sforza di non avere più altro volere che il volere dell'infinita sapienza sì ciò si può ciò è il dovere dell'uomo la ragione che è la voce di dio la ragione ne dice che bisogna tutto sacrificare alla virtù e sarebbe compiuto il sacrificio di cui siamo debitori alla virtù se nei casi più dolorosi luttassimo contro il volere di colui che di ogni virtù è il principio quando il patibolo o qualunque altro martirio è inevitabile il temerlo codardamente il non saper muovere adesso benedicendo il signore è segno di miserabile degradazione o ignoranza ed è non solamente d'uopo consentire alla propria morte ma all'afflizione che ne proveranno i nostri cari altro non lice se non dimandare che Dio la temperi che Dio tutti ci regga tal preghiera è sempre esaudita capo 16 volsero alcuni giorni ed io ero nello stesso stato cioè in una mestizia dolce piena di pace e pensieri religiosi pareami di aver trionfato di ogni debolezza e di non essere più accessibile ad alcuna inquietudine folle illusione l'uomo deve tendere alla perfetta costanza ma non vi giunge mai sulla terra che mi turbò la vista di un amico infelice la vista del mio buon Piero che passò pochi palmi di distanza da me sulla galleria mentre io ero alla finestra l'avevano tratto dal suo covile per condurlo alle carceri criminali egli e coloro che l'accompagnavano passarono così presto che appena ebbi campo a riconoscerlo a vedere il suo cenno di saluto e a restituirglielo povero giovane nel fiore dell'età con un ingegno di splendide speranze con un carattere onesto delicato amantissimo fatto per godere gloriosamente della vita precipitato in prigione per cose politiche in tempo da non poter certamente evitare i più severi fulmini della legge mi prese tal compassione di lui tale affanno di non poterlo redimere di non poterlo almeno confortare con la mia presenza e le mie parole che nulla valeva rendermi un poco di calma io sapeva quant'egli amasse sua madre suo fratello le sue sorelle il cognato i nipotini quant'egli agognasse contribuire alla loro felicità quanto fosse riamato da tutti quei cari oggetti io sentiva qual dovesse essere l'afflizione di ciascuno di loro a tanta disgrazia non vi sono termini per esprimere la smania che allora si impadronì di me e questa smania si prolungò cotanto che io disperava di più sedarla anche questo spavento era un'illusione o afflitti che vi credete preda di un ineluttabile orrendo sempre crescente dolore pazientate alquanto e vi disingannerete né somma pace né somma inquietudine possono durare qua giù conviene persuadersi di questa verità per non insuperbire nelle ore felici e non avvelirsi in quelle del perturbamento a lunga smania successe stanchezza ed apatia ma l'apatia neppure non è durevole e temetti di dover quindi in poi alternare senza rifugio tra questa e l'opposto eccesso in orridì alla prospettiva di simile avvenire e ricorsi anche questa volta ardentemente alla preghiera io domandai a Dio di assistere il mio misero Pietro come me e la sua casa come la mia solo ripetendo questi voti potei veramente tranquillarmi capo 17 ma quando l'animo era quietato io riflettevo alle smanie sofferte e attirandomi della mia debolezza studiavo il modo di guarirne giovòmi a tal uopo questo espediente ogni mattina mia prima occupazione dopo breve omaggio al creatore era il fare una diligente coraggiosa rassegna di ogni possibile evento atto a commuovermi su ciascuna fermava vivamente la fantasia e mi vi preparava dalle più care visite fino alla visita del carnefice io le immaginava tutte questo tristo esercizio sembrava per alcuni giorni incomportevole ma vogli essere perseverante e in breve ne fui contento al primo dell'anno 1821 il conte Luigi Porro ottenne di venirmi a vedere la tenera e calda amicizia che era tra di noi il bisogno che avevamo di dirci tante cose l'impedimento che a questa effusione era posto dalla presenza di un attuario pare a dovermi mettere una delle più terribili tempesta nel cuore separato da quel caro amico mi sentì in calma intenerito ma in calma tale è l'efficacia del premonirsi contro le forti emozioni il mio impegno di acquistare una calma costante non muoveva tanto dal desiderio di diminuire la mia infelicità quanto dall'apparirmi brutta indegna dell'uomo l'inquietudine una mente agitata non ragiona più avvolta fra un turbine irresistibile di idee esagerate si forma una logica sciocca furibonda maligna e in uno stato assolutamente antifilosofico anticristiano se io fossi predicatore insisterei spesso sulla necessità di bandire l'inquietitudine non si può essere buono ad altro patto com'era pacifico con sé con gli altri colui che dobbiamo tutti imitare non vi è grandezza d'animo non vi è giustizia senza idee moderate senza uno spirito tendente più a sorridere che ad adirarsi degli avvenimenti di questa breve vita l'ira non ha qualche valore se non nel caso rarissimo che sia presumibile di umiliare con essa un malvagio e ritirarlo dall'iniquità forse si danno smanie di natura diversa da quella che io conosco e meno condannevoli ma quella che mi aveva fino allora fatto suo schiavo non era una smania di pura afflizione vi si mescolava sempre molto odio molto prurito di maledire di dipingermi la società o questi o quegli individui coi colori più esecrabili malattia epidemica nel mondo l'uomo si reputa migliore abborrendo gli altri pare che tutti gli amici si dicano all'orecchio amiamoci solamente fra di noi gridando che tutti sono ciurmaglia sembrerà che siamo semi dei curioso fatto che il vivere arrabbiato piaccia tanto vi si pone una specie di eroismo se l'oggetto contro cui ieri si fremeva è morto se ne cerca subito un altro di chi mi lamenterò oggi chi odierò sarebbe mai quello il mostro oh gioia l'ho trovato venite amici laceriamolo così va il mondo e senza lacerarlo posso ben dire che va male capo 18 non vi era molta malignità nel lamentarmi dell'orridezza delle stanze ove mi avevano posto per buonaventura restò vuota una migliore e mi si fece l'amabile sorpresa di darmela non avrei io dovuto essere contentissimo a tale annunzio eppure tant'è non ho potuto pensare a Maddalena senza rincrescimento che fanciullaggine affezionarsi sempre a qualche cosa anche con motivi per verità non molto forti uscendo di quella cameraccia voltai indietro lo sguardo verso la parete alla quale io mi erassi sovente appoggiato mentre forse un palmo più in là vi si appoggiava dal lato opposto la misera peccatrice avrei voluto sentire ancora una volta quei due patetici versi chi rende alla meschina la sua felicità vano desiderio ecco una separazione di più della mia sciagurata vita non voglio parlarne lungamente per non far ridere di me ma sarei un'ipocrita se non confessassi che ne fu immesto per più giorni nell'andarmene salutai due dei poveri ladri miei vicini che erano alla finestra il caporione non vi era ma avvertito dai compagni vi accorse e mi risalutò anch'egli si mise quindi a cantarellare l'aria chi rende alla meschina voleva egli burlarsi di me scommetto che se facessi questa domanda cinquanta persone quarantanove risponderebbero si ebbene adonta di tanta pluralità di voti inclino a credere che il buon ladro intendea di farmi una gentilezza io la ricevetti come tale e gliene fui grato e gli diedi ancora un'occhiata ed egli sporgendo il braccio fuori dai ferri col berretto in mano faceami ancora cenno all'orchio voltava per discendere la scala quando fui nel cortile ebbi una consolazione vi era il mutolino sotto il portico mi vide mi riconobbe e voleva corrermi incontro la moglie del custode chissà perché la ferrò per collare e lo cacciò in casa mi spiacque di non poterlo abbracciare ma i saltetti che ei fece per correre a me mi commossero deliziosamente è così si dolce l'essere amato era giornata di grandi avventure due passi più in là mossi vicino alla finestra della stanza già mia e nella quale ora stava gioia buongiorno Melchiorre gli dissi passando alzò il capo e balzando verso di me gridò buongiorno Silvio ah e non mi fu dato di fermarmi un istante voltai sotto il portone salì una scaletta e veni posto in una cameruccia pulita al di sopra di quella di gioia fatto portare il letto e lasciato solo dai secondini mio primo affare fu di visitare i muri vi erano alcune memorie scritte quali con matita quali con carbone quali con punta incisiva trovai graziose due strofe francesi che ormi incresce di non avere imparate a memoria erano firmate le duc de Normandie presi a cantarle adattandovi alla meglio l'aria della mia povera Maddalena ma ecco una voce vicinissima che le ricanta con altra aria come ebbe finito gli gridai bravo ed egli mi salutò gentilmente chiedendomi se io era francese no sono italiano e mi chiamo Silvio Pellico l'autore della Francesca da Rimini appunto e qui un gentile complimento e le naturali condoglianze sentendo che io fossi in carcere mi domandò di qual parte d'Italia fossi nativo di Piemonte dissi sono saluzzese e qui nuovo gentile complimento sul carattere e l'ingegno dei piemontesi e particolare menzione dei valentuomini saluzzesi e in specie di bidoni quelle poche lodi erano fine come si fanno da persona di buona educazione or mi sia lecito gli dissi di chiedere a voi signore chi siete avete cantata una mia canzoncina quelle due belle strofette che stanno sul muro sono vostre sì signore voi siete dunque l'infelice duca di Normandia capo 19 il custode passava sotto le nostre finestre e ci fece tacere quale infelice duca di Normandia andava io ruminando non è questo il titolo che davasi al figlio di Luigi XVI ma quel povero fanciullo è indubitamente morto ebbene il mio vicino sarà uno dei disgraziati che si sono provati a farlo rivivere già parecchi si spacciarono per Luigi XVII e furono riconosciuti impostori qual maggiore credenza dovrebbe questi ottenere sebbene io cercasse di stare in dubbio un'invincipile incredulità prevaleva in me ed ogni ora continuò a prevalere non di meno determinai di non mortificare l'infelice qualunque frottola fosse per raccontarmi pochi istanti da poi ricominciai a cantare indirevigliamo la conversazione alla mia domanda sull'essere suo rispose che egli era appunto Luigi XVII e si diede a declamare con forza contro Luigi XVIII suo zio usurpatore dei suoi diritti ma questi diritti come non li faceste valere al tempo della ristorazione io mi trovava allora mortalmente ammalato a Bologna appena risanato volai a Parigi mi presentai alle alte potenze ma qualche era fatto era fatto l'iniquo mio zio non volle riconoscermi mia sorella si unì a lui per oprimermi il solo buon principe di Condè mi accolse a braccia aperte ma la sua amicizia nulla poteva una sera per le vie di Parigi fui assalito da sicari armati di pugnali e a stento mi sottrassi ai loro colpi dopo aver vagato qualche tempo in Normandia tornai in Italia e mi fermai a Modena di lì scrivendo incessantemente ai monarchi di Europa e particolarmente all'imperatore Alessandro che mi rispondea con la massima gentilezza io non disperava di ottenere finalmente giustizia o se per politica volevano sacrificare i miei diritti al trono di Francia che almeno mi si assegnasse una decente appannaggio venne arrestato condotto ai confini del Ducato di Modena e consegnato al governo austriaco or da otto mesi sono qui sepolto ed io sa quando uscirò non prestai fede a tutte le sue parole ma che io fosse lì sepolto era una verità e mi ispirò una viva compassione lo pregai di raccontarmi in compendio la sua vita mi disse con minutezza tutti i particolari che io già sapeva intorno Luigi XVII quando lo misero con lo scelerato Simonca al solaio quando lo indussero ad attestare un'infame calunnia contro i costumi della povera regina sua madre eccetera eccetera e finalmente che essendo in carcere venne gente una notte a prenderlo un fanciullo stupido per nome Maturin fu posto in sua vece ed ei fu trafugato vi era nella strada una carrozza a quattro cavalli ed uno dei cavalli era una macchina di legno nella quale ei fu celato andarono felicemente al Reno e passati i confini il generale mi disse il nome ma non me lo ricordo che l'avea liberato gli fece per qualche tempo da educatore da padre lo mandò o condusse quindi in America là il giovane re senza regno ebbe molte peripazie patì la fame né desertì militò visse onorato e felice alla corte del re del Brasile fu calognato perseguitato costretto a fuggire tornò in Europa in sul finire dell'impero napoleonico fu tenuto prigione a Napoli da Giovacchino Murat e quando si rivide libero e in procinto di reclamare il trono di Francia lo colpì a Bologna quella funesta malattia durante la quale Luigi XVIII fu incoronato capo venti Ehi raccontava questa storia con una sorprendente aria di verità io non potendo crederlo pur l'ammirava tutti i fatti della rivoluzione francese gli erano notissimi ne parlava con molta spontanea eloquenza e riferiva ad ogni proposito aneddoti curiosissimi vi era alcunché di soldatesco nel suo dire ma senza mancare di quella eleganza che è data dall'uso della fine società mi permetterete gli dissi che io vi tratti alla buona che io non vi dia titoli questo è ciò che desidero rispose dalla sventura ho almeno tratto questo guadagno che so sorridere di tutte le vanità vi assicuro che mi pregio più di essere uomo che di essere re mattina e sera conversavamo lungamente insieme e adonta di ciò che io reputava essere commedia in lui l'anima sua mi pareva buona candida desiderosa di ogni bene morale più volte fui per dirgli perdonate io vorrei credere che foste Luigi XVII ma sinceramente vi confesso che la persuasione contraria domina in me abbiate tanta franchezza da rinunciare a questa finzione e ruminava tra me una bella predicuccia da farli sulla vanità di ogni bugia anche delle bugie che sembrano innocue di giorno in giorno differiva sempre aspettava che l'intimità nostra crescesse ancora di qualche giorno e mai non ebbi ardire di eseguire il mio intento quando rifletto a questa mancanza di ardire talvolta la scusa come urbanità necessaria onesto timore di affliggere e che so io ma queste scuse non mi accontentano e non posso dissimulare che sarei più soddisfatto di me se non mi fossi tenuta sul gozzo l'idea predicuccia fingere di prestare fede a un'impostura e posillanimità parmi che non farei più sì posillanimità certo che per quanto si involva in delicati preamboli e aspra cosa al dire ad uno non vi credo e si sdegnerà perderemo il piacere della sua amicizia ci colmerà forse di ingiurie ma ogni perdita è più onorevole del mentire e forse il disgraziato che ci colmerebbe di ingiurie vedendo che una sua impostura non è creduta ammirerebbe poscia in secreto la nostra sincerità e gli sarebbe motivo di riflessioni che il ritrattebbero a miglior via i secondini inclinavano a credere che ei fosse veramente Luigi XVII e avendo già veduto tante mutazioni di fortune non disperavano che costui non fosse per ascendere un giorno al trono di Francia e si ricordasse della loro devotissima servitù tranne il favorire la sua fuga gli usavano tutti i riguardi che ei desiderava fu debitore a ciò dell'onore di vedere il gran personaggio era di statura mediocre dai 40 ai 55 anni alquanto pingue e di fisionomia propriamente borbonica e gli è verosimile che un'accidentale somiglianza coi borboni l'abbia indotto a rappresentare quella trista parte capo 21 di un altro indegno rispetto umano bisogna che io mi accusi il mio vicino non era ateo ed anzi parlava talvolta dei sentimenti religiosi come uomo che li apprezza e non via straniero ma servava tuttavia molte prevenzioni ragionevoli contro il cristianesimo il quale ei guardava meno nella sua vera essenza che nei suoi abusi la superficiale filosofia che in francia precedette seguì la rivoluzione l'aveva abbagliato gli pareva che si potesse adorare dio con maggiore purezza che secondo la religione del vangelo senza avere gran cognizione di condillac e tresi li venerava come sommi pensatori e si immaginava che quest'ultimo avesse dato il compimento a tutte le possibili indagini metafisiche io che aveva spinto più oltre i miei studi filosofici che sentiva la debolezza della dottrina sperimentale che conosceva i grossolani errori di critica con cui il secolo di Voltaire aveva preso a voler diffamare il cristianesimo io che avevo lottato Ghenea ad altri valenti smascheratori di quella falsa critica io che era persuaso non potersi con rigore di logica ammettere dio e ricusare il vangelo io che trovava tanto volgare cosa il seguire la corrente delle opinioni anticristiane e non sapersi elevare a conoscere quanto il cattolicesimo non veduto in caricatura sia semplice e sublime io ebbi la viltà di sacrificare al rispetto umano le facezie del mio vicino mi confondevano sebbene non potesse sfuggirmi la loro leggerizza dissimulai la mia credenza esitai riflettei se fosse o no tempestivo il contraddire mi dissi che era inutile e vogli persuadermi di essere giustificato viltà viltà che importa il baltanzoso vigore di opinioni accreditate ma senza fondamento è vero che uno zelo intempestivo è indiscrezione e può maggiormente irritare chi non crede ma il confessare con franchezza e modestia ad un tempo ciò che fermamente si tiene per importante verità il confessarlo anche laddove non è presumibile di essere approvato né di evitare un poco di scherno egli è preciso dovere e si fatta nobile confessione può sempre adempirsi senza prendere inopportunamente il carattere di missionario egli è dovere di confessare un'importante verità in ogni tempo perroché se non è sperabile che venga subito riconosciuta può pure dare tal preparamento all'anima altrui il quale produca un giorno maggiore imparzialità di giudizi e il conseguente trionfo della luce capo 22 stetti in quella stanza un mese e qualche di la notte dai 18 al 19 di febbraio 1821 sono svegliato da rumore di catenacci e chiavi vedo entrare parecchi uomini con lanterna la prima idea che mi si presentò fu che venissero a scannarmi ma mentre io guardava perplesso quelle figure ecco avanzarsi gentilmente il conte B il quale mi dice che io abbia la compiacenza di vestirmi presto per partire quest'annunzio mi sorprese ed ebbi la follia di sperare che mi si conducesse ai confini del Piemonte possibile che si gran tempesta si rileguasse così io riacquisterei ancora la dolce libertà io rivedrei i miei carissimi genitori fratelli sorelle questi illusinghevoli pensieri mi agitarono brevi istanti mi vestii con grande celerità e seguii i miei accompagnatori senza pur poter salutare ancora il mio vicino mi pare di aver udito la sua voce e mi increbbe di non potergli rispondere dove si va disse al conte montando in carrozza con lui e con un ufficiale di gendarmeria non posso significarglielo finché non siamo un miglio al di là di Milano vidi che la carrozza non andava verso porta Vercellina e le mie speranze furono svanite da qui era una bellissima notte con lume di luna io guardava quelle care vie nelle quali aveva passeggiato tanti anni così felice quelle case quelle chiese tutto mi rinnovava mille suavi rimembranze o corsia di porta orientale o pubblici giardini ovvio aveva tante volte vagato con Foscolo con Monti con Lodovico di Preme con Pietro Borsieri con Porro e i suoi figlioli con tanti altri diletti mortali conversando in sigaran pienezza di vita e speranze o come nel dirmi che io vi vedeva per l'ultima volta o come al vostro rapido fuggire ai miei sguardi io sentiva di avervi amato e amarvi quando fumo usciti dalla porta tirai alquanto il cappello sugli occhi e piansi non osservato lasciai passare più di un miglio poi dissi al conte B suppongo che si vada a Verona si va più in là rispose andiamo a Venezia ove debbo consegnarla ad una commissione speciale viaggiamo per posta senza fermarci e giungemmo il 20 febbraio a Venezia nel settembre dell'anno precedente un mese prima che mi arrestassero io era a Venezia ed aveva fatto un pranzo in numerosa e lietissima compagnia all'albergo della luna cosa strana sono appunto dal conte e dal gendarme condotto all'albergo della luna un cameriere strabiliò vedendomi e accorgendosi che io ero nelle mani della forza mi rallegrai di questo incontro persuaso che il cameriere parlerebbe del mio arrivo a più di uno pranzammo indi fui condotto al palazzo del doce ovè ora sono i tribunali passai sotto quei cari portici delle procurazie ed innanzi al caffè Florian ovvio aveva goduto si belle sere nell'autunno trascorso non mi imbattei in alcuno dei miei conoscenti si traversa la piazzetta e su quella piazzetta nel settembre dietro un mendico mi aveva detto queste singolari parole si vede che lo è forestiero signore ma io non capisco come ella e tutti i forestieri ammirino questo luogo per me è un luogo di disgrazia e vi passo unicamente per necessità vi sarà qui accaduto qualche malanno si signore un malanno orribile e non a me solo iddio la scampi signore iddio la scampi e se ne andò in fretta o ripassando io colà era impossibile che non vi sovvenissero le parole del mendico e fu ancora su quella piazzetta che l'anno seguente io ascesi il palco dove intesi leggermi la sentenza di morte e la commutazione di questa pena in quindici anni di carcere duro se io fossi testa un po' delirante di misticismo farei gran caso di quel mendico predicentemi così energicamente esser quello un luogo di disgrazia io non noto questo fatto se non come uno strano accidente salimmo al palazzo il conte B parlò con i giudici indi mi consegnò al carceriere e congedandosi da me mi abbracciò intenerito capo 23 seguì in silenzio il carceriere dopo aver traversato parecchi anditi e parecchie sale arrivamo ad una scaletta che ci condusse sotto i piombi famose parigioni di stato fin dal tempo della Repubblica Veneta Ivi il carceriere prese registro del mio nome indi mi chiuse nella stanza destinatami i cosiddetti piombi sono la parte superiore del già palazzo del Doge coperta tutta di piombo la mia stanza avea una gran finestra con un'enorme inferriata e guardava sul tetto parimente di piombo della chiesa di San Marco al di là della chiesa io vedeva in lontananza il termine della piazza e da tutte parti un'infinità di cupole e di campanili il gigantesco campanile di San Marco era solamente separato da me dalla lunghezza della chiesa ed io udiva coloro che in cima di esso parlavano alquanto forte vedevasi anche al lato sinistro della chiesa una porzione del gran cortile del palazzo ed una delle entrate in quella porzione di cortile sta un pozzo pubblico ed Ivi continuamente veniva gente a cavare acqua ma la mia prigione essendo così alta gli uomini laggiù mi parevano fanciulli ed io non discerneva le loro parole se non quando gridavano io mi trovavo assai più solitario che non era nelle carceri di Milano nei primi giorni le cure del processo criminale che dalla commissione speciale mi veniva intentato mi attristarono alquanto e vi si aggiunge a forse quel penoso sentimento di maggior solitudine inoltre io era più lontano dalla mia famiglia e non avevo più di essa notizie le facce nuove che io vedevo non mi erano antipatiche ma servavano una serità quasi spaventata la fama aveva esagerato loro le trame dei milanesi e del resto d'Italia per l'indipendenza e dubitavano che io fossi uno dei più imperdonabili motori di quel delirio la mia piccola celebrità letteraria era nota al custode a sua moglie alla figlia ai due figli maschi e persino ai due secondini i quali tutti chissà che non si immaginassero che un autore di tragedie fosse una specie di mago erano seri diffidenti avidi che io loro dessi maggior contentezza di me ma pieni di garbo dopo i primi giorni si manso e fecero tutti e li trovai buoni la moglie era quella che più manteneva il contegno e il carattere del carceriere era una donna di viso asciutto asciutto verso i 40 anni di parole asciutte asciutte non dante il minimo segno di essere capace di qualche benevolenza ad altri chi è i suoi figli sole a portarmi il caffè mattina e dopo pranzo acqua biancheria eccetera la seguivano ordinariamente sua figlia fanciula di 15 anni non bella ma di pietosi sguardi e due figliuoli uno di 13 l'altro di 10 si ritiravano quindi con la madre e i tre giovani sembianti si rivoltavano dolcemente a guardarmi chiudendo la porta il custode non veniva da me se non quando aveva da condurmi nella sala ove si adunava la commissione per esaminarmi i secondini venivano poco perché attendevano alla prigione di polizia collocati a un piano inferiore ovvero sempre molti ladri uno di quei secondini era un vecchio di più di 70 anni ma atto ancora a quella faticosa vita di correre sempre su e giù per le scale ai diversi carceri l'altro era un giovanotto di 24 25 anni più voglioso di raccontare i suoi amori che di badare al suo servizio capo 24 ah sì le cure di un processo criminale sono orribili per un prevenuto di nemicizia allo stato quanto timore di nuocere altrui quanta difficoltà di lottare contro tanti accusi contro tanti sospetti quanta verosimiglianza che tutto non si intrichi sempre più funestamente se il processo non termina presto se nuovi arresti vengono fatti se nuove imprudenze si scoprono anche di persone non conosciute ma della fazione medesima ho fermato di non parlare di politica e bisogna quindi che io sopprima ogni relazione concernente il processo solo dirò che spesso dopo essere stato lunghe ore al costituto io tornava nella mia stanza così esagerbato così fremente che mi sarei ucciso se la voce della religione e la memoria dei cari parenti non mi avessero contenuto l'abitudine di tranquillità che già mi pareva a Milano di avere acquistato era disfatta per alcuni giorni disperai di riempirgliela e furono giorni di inferno allora cessai di pregare dubitai della giustizia di Dio maledissi agli uomini e all'universo e rivolsi nella mente tutti i possibili sofismi sulla vanità della virtù l'uomo infelice e arrabbiato è tremendamente ingegnoso a calugnare i suoi simili e lo stesso creatore l'ira è più immorale più scelerata che generalmente non si pensa siccome non si può riuscire della mattina alla sera per settimane e l'anima la più dominata dal furore ha di necessità i suoi intervalli di riposo quegli intervalli sogliono risentirsi dell'immoralità che li ha preceduti allora sembra di essere in pace ma è una pace maligna e religiosa un sorriso selvaggio senza carità senza dignità un umore di disordine di ebrezza di scherno in simile stato io cantava per ore intere con una specie di allegrezza affatto sterile di buoni sentimenti io celiava con tutti quelli che entravano nella mia stanza mi sforzavo di considerare tutte le cose con una sapienza volgare la sapienza dei cinici quell'infame tempo durò poco sei o sette giorni la mia bibbia era polverosa uno dei ragazzi del custode accarezzandomi disse da che ella non legge più quell'ibaraccio non ha più tanta milanconia mi pare ti pare gli dissi e presa la bibbia ne tolsi col fazzoletto la polvere e sbadatamente apertola mi caddero sotto gli occhi queste parole et ait at discipulos suos impossibile est ut non veniant scandala ve autem illi per quem veniant utilius est illi silapis molaris imponatur circa collum eius et progiciatur in male quam ut scandalizet unum depusillis insistis fui colpito di trovare queste parole e arrossì che quel ragazzo si fosse accorto dalla polvere che hai sopra vedeavi che io non più leggeva la bibbia e che hai presumesse che io fossi divenuto più amabile divenendo incurante di dio scappestratello gli dissi con amorevole rimprovero e dolendomi di averlo scandalizzato questo non è un libraccio ed alcuni giorni che non leggo sto assai peggio quando tua madre ti permette di stare un momento con me mi industrio di cacciar via il malumore ma se tu sapessi come questo mi vince allorché son solo allorché tu mi odi cantare qual forse è nato capo 25 il ragazzo era uscito ed io provavo un certo godimento di aver ripreso in mano la bibbia di aver confessato che io stava peggio senza di lei mi parea di aver dato soddisfazione a un amico generoso ingiustamente offeso di essermi riconciliato con esso e ti avevo abbandonato mio dio gridai e mi era pervertito e avea potuto credere che l'infame riso del cinismo convenisse alla mia disperata situazione e dissi ai suoi discepoli è impossibile che non avvengano scandali ma guai a colui per colpa del quale avvengono meglio sarebbe per lui che gli si legasse una macina da mulino al collo e lo si gettasse in mare piuttosto che essere di scandalo a uno solo di questi fanciulli Luca 17 pronunciai queste parole con una emozione indicibile posi la bibbia sopra una sedia mi inginocchiai in terra a leggere e quelli che io si difficilmente piango proruppi in lacrime quelle lacrime erano mille volte più dolci di ogni allegrezza bestiale io sentiva di nuovo Dio lo amava mi pentiva di averlo oltraggiato degradandomi e protestavo di non separarmi mai più da lui mai più ho come un ritorno sincero alla religione consola ed eleva lo spirito lessi e piansi più di un'ora e mi alzai pieno di fiducia che Dio fosse con me che Dio mi avesse perdonato ogni stoltezza allora le mie sventure i tormenti del processo e il verosimile patibolo mi sembrarono poca cosa esultai di soffrire poiché ciò mi dava occasione di adempiere qualche dovere poiché soffrendo con rassegnato animo io obbedivo al Signore la Bibbia grazie al cielo io sapevo leggere non era più il tempo che io lo giudicava con la meschina critica di Voltaire vilipendendo espressioni le quali non sono risibili o false se non quando per vera ignoranza o malizia non si penetra nel loro senso mi appariva chiaramente quanto fosse ella il codice della santità e quindi della verità quanto l'offendersi per certe sue imperfezioni di stile fosse cosa infilosofica e simile all'orgoglio di chi disprezza tutto ciò che non ha forme eleganti quanto fosse cosa assurda l'immaginare che una tal collezione di libri religiosamente venerati avessero un principio non autentico quanto la superiorità di tali scritture sul Corano e sulla teologia degli Indi fosse innegabile molti ne abusarono molti volero farne un codice di ingiustizia una sanzione alle loro passioni scellerate ciò è vero ma siamo sempre lì di tutto può se abusare e quando mai l'abuso di cosa ottima dovrà far dire che ella è in se stessa malvagia Gesù Cristo lo dichiarò tutta la legge e i profeti tutta questa collezione di sacri libri si riduce al percetto di amar tra Dio e gli uomini e tali scritture non sarebbero verità adatta a tutti i secoli non sarebbero la parola sempre viva dello Spirito Santo ridestate in me queste riflessioni rinnovai il proponimento di coordinare alla religione tutti i miei pensieri sulle cose umane tutte le mie opinioni sui progressi dell'incivilimento la mia filantropia il mio amor patrio tutti gli affetti dell'anima mia i pochi giorni che io aveva passati nel cinismo ma vi erano molto contaminato ne sentii gli effetti per lungo tempo e dovetti faticare per vincerli ogni volta che l'uomo cede alquanto alla tentazione di snobilitare il suo intelletto di guardare le opere di Dio con la infernal lente dello scherno di cessare dal benefico esercizio della preghiera il guasto che egli opera nella propria ragione lo dispone a facilmente ricadere per più settimane fui assalito quasi ogni giorno da forti pensieri di incredulità vuolsi tutta la potenza del mio spirito per respingerli capo 26 quando questi combattimenti furono cessati e sembrò mi di essere di nuovo fermo nell'abitudine di onorare Dio in tutte le mie volontà gustai per qualche tempo una dolcissima pace gli esami a cui sottoponeami ogni due o tre giorni la commissione per quanto fossero tormentosi non mi traevano più a durevole inquietudine io procurava in quell'ardua posizione di non mancare i miei doveri di onestà e di amicizia e poi dicea faccia a Dio il resto tornava ad essere esatto nella pratica di prevedere giornalmente ogni sorpresa ogni emozione ogni sventura supponibile e si fatto esercizio giovavami nuovamente assai la mia solitudine intanto si accrebbe i due figlioli del custode che da prima mi facevano talvolta un po' di compagnia furono messi a scuola e stando quindi pochissimo in casa non venivano più da me la madre e la sorella che allorché c'erano i ragazzi si fermavano anche spesso a Favellarmeco or non comparivano più se non per portarmi il caffè e mi lasciavano per la madre mi rincresceva poco perché non mostrava animo compassionevole ma la figlia benché bruttina aveva certa suavità di sguardia e di parole che non erano per me senza pregio quando questa mi portava il caffè e diceva l'ho fatto io mi pareva sempre eccellente quando diceva l'ha fatto la mamma era acqua calda vedendosi di rado creature umane diedi retta ad alcune formiche che venivano sulla mia finestra le cibai sontuosamente quelle andarono a chiamare un esercito di compagna e la finestra fu piena dei siffatti animali diedi parimente retta ad un bel ragno che tappezzava una delle mie pareti cibai questo con moscerini e zanzare e mi si amicò sino a venirmi sul letto e sulla mano e prendere la preda dalle mie dita fossero quelli stati i soli insetti che mi avessero visitato eravamo ancora in primavera e già le zanzare si moltiplicavano posso proprio dire spaventosamente l'inverno era stato di una straordinaria dolcezza e dopo pochi venti in marzo seguì il caldo e così indicibile come si infocò l'area del copile che io abitava situato a pretto mezzogiorno sotto un tetto di piombo e con la finestra sul tetto di san marco pure di piombo il cui riverbero era tremendo io soffocava io non aveva mai avuto idea di un calore si opprimente a tanto supplizio si aggiungevano le zanzare in tal moltitudine che per quanto io mi agitassi e ne struggessi io ne era coperto il letto il tavolino la sedia il suolo le pareti la volta tutto ne era coperto e l'ambiente ne conteneva infinite sempre andanti e benienti per la finestra e facenti un ronzio infernale le punture di quegli animali sono dolorose e quando se ne riceve da mattina a sera e da sera a mattina e si deve avere la perenna molestia di pensare a diminuirne il numero si soffre veramente assai e di corpo e di spirito allorché veduto simile flagello ne conobbi la gravezza e non potei conseguire che mi mutassero di carcere qualche tentazione di suicidio mi prese e talvolta temei di impazzire ma grazie al cielo erano smani non durevoli e la religione continuava a sostenermi essa mi persuadeva che l'uomo deve patire e patire con forza mi facea sentire una certa volutà del dolore la compiacenza di non soggiacere di vincere tutto io dicevo quanto più dolorosa mi si fa la vita tanto meno sarò atterrito se giovane come sono mi vedrò condannato al supplizio senza questi patimenti preliminari sarei forse morto codardamente e poi ho io tali virtù da meritare felicità dove sono esse ed esaminandomi con giusto rigore non trovavo negli anni da me vissuti se non pochi tratti alquanto plausibili tutto il resto erano passioni stolte idolatrie orgogliosa e falsa virtù ebbene concludevo soffri indegno se gli uomini e le zanzare ti uccidessero anche per furore senza diritto riconosci gli strumenti della giustizia divina e taci capo 27 all'uomo bisogno di sforzo per umiliarsi sinceramente per avvisarsi peccatore non è egli vero che in generale sprechiamo la gioventù in vanità ed invece da doverare le forze tutti ad avanzare nella carriera del bene ne adopriamo gran parte a degradarci vi saranno eccezioni ma confesso che queste non riguardano la mia povera persona e non ho alcun merito ad essere scontento di me quando si vede una lucerna dar più fumo che fuoco non vi vuol gran sincerità dire che non arde come dovrebbe sì senza avvilimento senza scrupoli di pinzocchero guardandomi con tutta la tranquillità possibile di intelletto io mi scorgevo degno dei castigli di Dio una voce interna mi diceva simili castigli se non per questo ti sono dovuti per quello valgano a ricondurti verso colui che è perfetto e che i mortali sono chiamati secondo le finite loro forze ad imitare con qual ragione mentre io ero costretto a condannarmi di mille infedeltà a Dio mi sarei lagnato se alcuni uomini mi parevano vili ed alcuni altri iniqui se le prosperità del mondo mi erano rapite se io dovea consumarmi in carcere o perire di morte violenta procacciai di imprimermi bene nel cuore tali riflessioni si giuste e si sentite e ciò fatto io vedeva che bisognava essere conseguente e che non poteva esserlo in altra guisa se non benedicendo i reti giudizi di Dio amandoli ed estinguendo in me ogni volontà contraria ad essi per vi è meglio di venire costante in questo proposito pensai di svolgere con diligenza di orinanzi tutti i miei sentimenti scrivendoli il male si era che la commissione permettendo che io avessi calamaio e carta mi numerava i fogli di questa con improdizione di distruggerne alcuno e riservandosi ad esaminare in che li avessi adoperati per supplire la carta ricorsi all'innocente artificio di levigare con un pezzo di vetro un rozzo tavolino che io avevo e su quello quindi scrivevo ogni giorno lunghe meditazioni intorno ai doveri degli uomini e di me in particolare non esagero dicendo che le ore così impiegate mi erano talvolta deliziose malgrado la difficoltà di respiro che pativo per l'enorme caldo e le morsicature dolorosissime delle zanzare per diminuire la molteplicità di queste ultime ero obbligato ad onta del caldo di involgermi bene il capo e le gambe e di scrivere non solo con i guanti ma affasciato i polsi affinché le zanzare non entrassero nelle maniche quelle mie meditazioni avevano un carattere piuttosto biografico io faceva la storia di tutto il bene e il male che in me si erano formati dall'infanzia in poi discutendo meco stesso ingegnandomi di sciorre ogni dubbio ordinando quanto meglio io sapea tutte le mie cognizioni tutte le mie idee sopra ogni cosa quando tutta la superficie adoperabile del tavolino era piena di scrittura io leggevo e rileggevo meditavo sul già meditato e al fine mi risolveva a riaschiar via ogni cosa col vetro per riavere atta quella superficie a ricevere nuovamente i miei pensieri continuava quindi la mia storia sempre rallentata da digressioni di ogni specie da analisi or di questo or di quel punto di metafisica di morale di politica di religione e quando tutto era pieno tornava a leggere e rileggere poi a riaschiare non volendo avere alcuna ragione di impedimento nel ridire a me stesso con la più libera fedeltà i fatti che io ricordava e le opinioni mie e prevedendo possibile qualche visita inquisitoria io scrivevo in gergo cioè con trasposizioni di lettere e abbreviazioni alle quali io ero avvezzatissimo non mi accadde però mai alcuna visita si è fatta e niuno si accorgeva che io passassi così bene il mio tristissimo tempo quando io udiva il custode o altri aprire la porta copriva il tavolino con una tovaglia e vi mettea sopra il calamaio e il legale quinternetto di carta capo ventotto quel quinternetto aveva anche alcune delle mie ore a lui consacrate e talvolta un intero giorno o un'intera notte ivi scriveva io di cose letterarie composi allora Lester Dengaddi e Ligini Adasti e le cantiche intitolate Tancreda Rosilde Eligi e Balafrido Adello oltre parecchi scheletri di tragedie e di altre produzioni e fra altri quello di un poema sulla Lega Lombarda e di un altro su Cristoforo Colombo siccome l'ottenere che mi si rinnovasse il quinternetto quando era finito non era sempre cosa facile e pronta facevo il primo oggetto di ogni componimento sul tavolino o su cartaccia in cui mi faceva portare fichi secchi o altri frutti talvolta dando il mio pranzo ad uno dei secondini e facendogli credere che io non aveva appunto appetito io li inducevo a regalarmi qualche foglio di carta ciò veniva solo in certi casi che il tavolino era già in gombro di scrittura e non poteva ancora decidermi a raschiarla allora pativo la fame e sebbene il custode avesse in deposito denari miei non gli chiedevo in tutto il giorno da mangiare parte perché non sospettasse che io avevo dato via il pranzo parte perché il secondino non si accorgesse che io aveva mentito assicurandolo della mia inappetenza a sera mi sosteneva con un potente caffè e supplicava che lo facesse la signora Zanzi questa era la figliola del custode la quale se poteva farlo di nascosto della mamma lo faceva straordinariamente carico tale che stante la votezza dello stomaco mi cagionava una specie di convulsione non dolorosa che tenea mi desto tutta la notte in questo stato di mite ebrezza sentivo raddoppiarmi si le forze intellettuali e potevo e filosofavo e pregavo fino all'alba con meraviglioso piacere una repentina spossatezza mi assaliva quindi allora mi cettavo sul letto e malgrado le zanzare a cui riusciva benché io mi inviluppassi di venirmi a suggere il sangue dormivo profondamente un'ora due si fatte notti agitate da forte caffè preso a stomaco vuoto e passate in si dolce esaltazione mi parevano troppo benefiche da non dovermele procurare sovente perciò anche senza aver bisogno di carta dal secondino prendevo non di rado il partito di non gustare un boccone a pranzo per ottenere a sera il desiderato incanto della magica bevanda felice me quando io conseguiva lo scopo più di una volta mi accadde che il caffè non era fatto dalla pietosa zanze ed era broda inefficace allora la burla mi metteva un poco di malumore invece di venire elettrizzato languiva sbavigliava sentiva la fame mi gettava sul letto e non poteva dormire io me ne lagnava con la zanze ed ella mi compativa un giorno che me la sgridai aspramente quasi che mi avesse ingannato la poveretta pianse e mi disse signore io non ho mai ingannato alcuno e tutti mi danno dell'ingannatrice tutti oh sta a vedere che sono il solo che si arrabbia per quella broda non voglio dire questo signore se la sapesse se potesse versare il mio misero cuore nel suo ma non piangete così che diamine avete vi domando perdono se vi ho sgridato a torto credo benissimo che non sia per vostra colpa che mi ebbi un caffè così cattivo e non piango perciò signore il mio amor proprio restò alquanto mortificato ma sorrisi piangete adunque all'occasione della mia sgridata ma per tutt'altro veramente sì chi vi ha dato dell'ingannatrice un amante e si coperse il volto dal rossore e nella sua ingenua fiducia mi raccontò un idillio comico serio che mi commosse capo 29 da quel giorno divenni non so perché il confidente della fanciulla e tornò a trattenersi lungamente con me mi diceva signore ella è tanto buona che io la guardo come potrebbe una figlia guardare suo padre voi mi fate un brutto complimento rispondeva io respingendo la sua mano ho appena 32 anni e già mi guardate come vostro padre via signore dirò come fratello e mi prendeva per forza la mano e me la toccava con affezione e tutto ciò era innocentissimo io diceva poi tra me fortuna che non è una bellezza altrimenti quest'innocente familiarità potrebbe sconcertarmi altre volte dicevo fortuna che è così immatura di ragazze di tale età non vi sarebbe pericolo che io mi innamorassi altre volte mi veniva un po' di inquietudine parendomi che io mi fossi ingannato nel giudicarla bruttina ed era obbligato di convenire che i contorni e le forme non erano irregolari se non fosse così pallida dicevo io e non avesse quelle poche lenti sul volto potrebbe passare per bella il vero è che non è possibile di non trovare qualche incanto nella presenza negli sguardi nella favella di una giovinetta vivace ed affettuosa io poi non avevo fatto nulla per cattivarmi la sua benevolenza e le era caro come padre e come fratello a mia scelta perché? perché la aveva letto la Francesca da Rimini e l'Eufemio e i miei versi la facevano piangere tanto e poi perché io ero prigioniero senza avere diceva ella né rubato né ammazzato insomma io che mi ero affezionato a Maddalena senza vederla come avrei potuto essere indifferente alle sorrellevoli primure alle graziose adulazioncelle agli ottimi caffè della venezianina adolescente sbirra sarei un impostore se attribuissi a saviezza il non essermene innamorato non me ne innamorai unicamente perché ella avea un amante da quel che era pazza guai a me se fosse stato altrimenti ma se il sentimento che ella mi destò non fu quello che si chiama amore confesso che alquanto vi si avvicinava io desideravo che ella fosse felice che la riuscisse a farsi sposare da colui che piacea le non avea la minima gelosia la minima idea che potesse scegliere me per oggetto dell'amor suo ma quando io udiva aprir la porta il cuore mi battea sperando che fosse le azanze e se non era ella io non era contento e se era il cuore mi battea più forte e si rallegrava i suoi genitori che già avevano preso un buon concetto di me e sapeano che ella era pazzamente invaghita di un altro non si facevano per un riguardo di lasciarla venire quasi sempre a portarmi il caffè del mattino e talor quello della sera ella avea una semplicità e un'amorevolezza seducenti mi diceva sono tanto innamorata di un altro eppure sto così volentieri con lei quando non vedo il mio amante mi annoio dappertutto fuorché qui ne sai tu il perché? non lo so te lo dirò io perché ti lascio parlare del tuo amante sarà benissimo ma parmi che sia anche perché la stimo tanto tanto povera ragazza ella avea quel benedetto vizio di prendermi sempre la mano e stringermela e non si accorgeva che ciò a un tempo mi piaceva e mi turbava si è ringraziato il cielo che posso rammemorare quella bella creatura senza il minimo rimorso capo 30 queste carte sarebbero certamente più dilettevoli se la zanza fosse stata innamorata di me o se io almeno avessi farneticato per essa eppure quella qualità di semplice benevolenza che ci univa mi era più cara dell'amore e se in qualche momento io temea che potesse nello stolto mio cuore mutar natura allora seriamente mi si rattristava una volta nel dubbio che ciò stesse per accadere desolato di trovarla cento volte più bella che non mi era sembrata da principio sorpreso della melanconia che io talvolta provavo lontano da lei e della gioia che recavami la sua presenza presi a fare per due giorni il burbero immaginando che ella si divezzerebbe alquanto dalla familiarità con Trattameco il ripiego vale a poco quella ragazza era sì paziente sì compassionevole appoggiava il suo gomito sulla finestra e stava a guardarmi in silenzio poi mi diceva signore è la parsecata della mia compagnia eppure se potessi stare qui tutto il giorno appunto perché vedo che ella ha bisogno di distrazione quel cattivo umore è l'effetto naturale della solitudine ma si provi a ciarlare alquanto e il cattivo umore si dissiperà e se ella non vuol ciarlare ciarlerò io del vostro amante eh? eh no non sempre di lui so anche parlare d'altro e cominciava infatti a raccontarmi dei suoi interessucci di casa della sprezza della madre della buonarietà del padre delle ragazzate dei fratelli e i suoi racconti erano pieni di semplicità e di grazia ma senza vedersene ricadeva poi sempre nel tema prediletto il suo sventurato amore io non voleva cessare di essere burbero e sperava che se ne indispettisse ella fosse già in abbedutezza o arte non se ne dava per intesa e bisognava che io finissi per rasserenarmi sorridere commuovermi ringraziarla della sua dolce pazienza con me lasciai andare l'ingrato pensiero di volerla indispettire e a poco a poco i miei timori si calmarono veramente io non erano invaghito esaminai in lungo tempo i miei scrupoli scrissi le mie riflessioni su questo soggetto e lo svolgimento di esse mi giovava l'uomo talvolta si atterrisce di spauracchi da nulla a fine di non temerli bisogna considerarli con più attenzione e più da vicino e che colpa vi era se io desideravo contenere inquietudine le sue visite se io ne apprezzava la dolcezza se godea di essere compianto da lei e retribuirle pietà per pietà da che i nostri pensieri relativi uno all'altro erano puri come i più puri pensieri dell'infanzia da che le sue stesse toccate di mano i suoi più amorevoli sguardi turbandomi mi è in pieno di salutare riverenza una sera effondendo nel mio cuore una grande afflizione che l'avea provato l'infelice mi gettò le braccia al collo e mi coperse il volto delle sue lacrime in quest'amplesso non vi era la minima idea propana una figlia non può abbracciare con più rispetto il suo padre se non che dopo il fatto la mia immaginativa ne rimase troppo colpita quell'amplesso mi tornava spesso alla mente e allora io non potevo più pensare ad altro un'altra volta che ella si abbandonò a simile slancio di filiale confidenza io tosto mi svincolai dalle sue care braccia senza stringerla a me senza baciarla e le dissi balbettando vi prego zanze non mi abbracciate mai ciò non va bene mi affissò gli occhi in volto li abbassò e arrossì e certo fu la prima volta che lesse nell'anima mia la possibilità di qualche debolezza a suo riguardo non cessò di essermi cofamiliare dall'ora in poi ma la sua familiarità divenne più rispettosa più conforme al mio desiderio e gliene fui grato capo 31 io non posso parlare del male che affligge gli altri uomini ma quanto a quello che toccò in sorte a me e da che vivo bisogna che io confessi che esaminatolo bene lo trovai sempre ordinato a qualche mio giovamento sì perfino quell'orribile calore che mi opprimeva e quegli eserciti di zanzare che mi faceva in guerra si feroce mille volte vi ho riflettuto senza uno stato di perenne tormento come era quello avrei io avuto la costante vigilanza necessaria per serbarmi invulnerabile ai dardi di un amore che mi minacciava e che difficilmente sarebbe stato un amore abbastanza rispettoso con un'indole si allegra e accarezzante qual era quella della fanciulla se io talora tremava di me in tale stato come avrei io potuto governare le vanità della mia fantasia in un'area alquanto piacevole alquanto consentaneo alla letizia stante l'imprudenza dei genitori della zanze che cotanto si fidavano di me stante l'imprudenza di lei che non prevedeva di potermi essere cagione di colpevole ebrezza stante la poca sicurezza della mia virtù non vi è dubbio che il soffocante calore di quel forno e le crudeli zanzare erano salutare cosa questo pensiero mi riconciliava alquanto con quei flagelli e allora mi domandavo vorresti tu esserne libero e passare in una buona stanza consolata da qualche fresco respiro e non veder più quell'affettuosa creatura devo dire il vero io non aveva coraggio di rispondere al quesito quando si vuole un po' di bene a qualche d'uno è indicibile il piacere che fanno le cose in apparenza più nulle spesso una parola della zanza è un sorriso una lacrima una grazia del suo dialetto veneziano l'agilità del suo braccio in parere col fazzoletto col ventaglio le zanzare a sé e a me mi infondero nell'animo una contentezza fanciullesca che durava tutto il giorno principalmente mi era dolce il vedere che le sue afflizioni scemassero parlandomi che la mia pietà le fosse cara che i miei consigli la persuadessero e che il suo cuore si infiammasse allorché ragionavamo di virtù di Dio quando abbiamo parlato insieme di religione diceva ella io prego più volentieri e con più fede e talvolta troncando a un tratto un ragionamento frivolo prendeva la Bibbia l'apriva baciava a caso un versetto e volea quindi che io glielo traducessi e commentassi e dicea vorrei che ogni volta che rileggerà questo versetto ella si ricordasse che vi ho impresso un bacio non sempre per verità i suoi baci cadeano a proposito massimamente se capitava aprire il cantico dei cantici allora per non farla arrossire io profittava della sua ignoranza del latino e mi prevaliva di frasi in cui salva la santità di quel volume salvassi pur l'innocenza di lei ambe le quali mi ispiravano altissima venerazione in tali casi non mi permisi mai di sorridere era tuttavia non picciolo imbarazzo per me quando alcune volte non intendendo ella bene la mia pseudo versione mi pregava di tradurle il periodo parola per parola e non mi lasciava passare fuggevolmente ad altro soggetto nulla è durevole qua giù la zanze ammalò nei primi giorni della sua malattia veniva a vedermi lagnandosi di grandi dolori di capo piangeva e non mi spiegava il motivo del suo pianto solo balbettò qualche lagnanza contro l'amante è uno scellerato diceva ella ma Dio gli perdoni per quanto io la pregassi di sfogare come soleva il suo cuore non potei sapere ciò che a tal segno la dolorasse tornerò domattina mi disse una sera ma il di seguente il caffè mi fu portato da sua madre gli altri giorni da secondini e la zanze era gravemente inferma i secondini mi dicevano cose ambigue dell'amore di quella ragazza le quali mi facevano drizzare i capelli una seduzione ma forse erano calugne confesso che vi prestai fede e fui conturbatissimo di tanta sventura mi giova tuttavia a sperare che mentissero dopo più di un mese di malattia la poveretta fu condotta in campagna e non la vidi più è indicibile quanto io ho già messi di questa perdita o come la mia solitudine divenne più orrenda o come cento volte più amaro della sua lontananza erami il pensiero che quella buona creatura fosse infelice e l'aveami tanto con la sua dolce compassione consolato nelle mie miserie e la mia compassione era sterile per lei ma certo sarà stata persuasa che io la piangeva che io avrei fatto non lievi sacrifici per recarle se fosse stato possibile qualche conforto che io non cesserei mai di benedirla e di far voti per la sua felicità ai tempi della zanza e le sue visite benché pur sempre troppo brevi rompendo ababilmente la monotonia del mio perpetuo meditare e studiare in silenzio intessendo alle mie idee e altre idee eccitandomi qualche affetto suave abbellivano veramente la mia avversità e mi doppiavano la vita dopo tornò la prigione ad essere per me una tomba fui per molti giorni oppresso di mestizie a segno di non trovare più nemmeno alcun piacere nello scrivere la mia mestizia era peraltro tranquilla in paragone delle smanie che io aveva per l'addietro provate voleva ciò dire che io fosse già più addimesticato con l'infortunio più filosofo più cristiano ovvero solamente che quel soffocante calore della mia stanza valesse a prostrare persino le forze del mio dolore ah non le forze del dolore mi sovviene che io lo sentiva potentemente nel fondo dell'anima e forse più potentemente perché io non aveva voglia di espanderlo gridando e agitandomi certo il lungo tirocinio mi aveva già fatto più capace di patire nuove afflizioni rassegnandomi alla volontà di Dio io mi era si spesso detto essere viltà e lagnarsi che finalmente sapea contenere le lagnanze vicine a prorompere e vergognava che pur fossero vicine a prorompere l'esercizio di scrivere i miei pensieri avea contribuito a rinforzarmi l'animo a disingannarmi delle vanità a ridurre la più parte dei ragionamenti a queste conclusioni vi è un Dio dunque infallibile giustizia dunque tutto ciò che mi avviene è ordinato a ottimo fine dunque il patire dell'uomo sulla terra è per il bene dell'uomo anche la conoscenza della zanze mi era stata benefica mi avea raddolcito l'indole il suo suave applauso era mi stato impulso a non ismentire per qualche mese il dovere che io sentiva incombere a ogni uomo di essere superiore alla fortuna e quindi paziente e qualche mese di costanza mi piegò alla rassegnazione la zanze mi vide due sole volte andare in collera una fu quella che già notai per il cattivo caffè l'altra fu nel caso seguente ogni due o tre settimane mi era portata dalla custode una lettera della mia famiglia lettera passata prima per le mani della commissione e rigorosamente mutilata con cassature di nerissimi inchiostro un giorno accadde che invece di cassarmi solo alcune frasi tirarono l'orribile riga su tutta quanta la lettera eccettuate le parole carissimo Silvio che stavano a principio e il saluto che era infine ti abbracciamo tutti di cuore fui così arrabbiato di ciò che alla presenza della zanze proruppi in urla e maledissi non so chi la povera fanciulla mi compatì capo 32 un giorno uno dei secondini entrò nel mio carcere con aria misteriosa e mi disse quando vi era la signora zanze siccome il caffè lo veniva portato da essa e si fermava a lungo tempo a discorrere e io temeva che la forbaccia esplorasse tutti i suoi secreti signore non esplorò per uno gli dissi in collera ed io se ne avessi non sarei gonzo da lasciarmeli tirar fuori continuate perdoni sa non dico già che ella sia un gonzo ma io della signora zanze non mi fidava ed ora signore che ella non ha più alcuno che venga a tenerle compagnia mi fido e di che spiegatemi una volta mi giuri prima di non tradirmi e per giurare di non tradirmi lo posso non ho mai tradito alcuno dice dunque davvero che giura sì giuro di non tradirvi ma sappiate bestia che siete che uno il quale fosse capace di tradire sarebbe anche capace di violare un giuramento trasse di tasca una lettera e me la consegnò tremando e scongiurandomi di distruggerla quando io l'avessi letta fermatevi gli dissi aprendola appena letta la distruggerò in vostra presenza ma signore bisognerebbe che ella rispondesse io non posso aspettare faccia con comodo soltanto mettiamoci in questa intelligenza quando ella sente venire alcuno badi che se sono io canterellerò sempre l'aria sognai mi gera un grado allora ella non ha a temere di sorpresa e può tenersi in tasca qualunque carta ma se non ode questa cantilena sarà segno che o non sono io o vengo accompagnato in tal caso non si fidi mai di tenere alcuna carta nascosta perché potrebbe esservi perquisizione ma se ne avesse una la stracci sollecitamente la getti dalla finestra state tranquillo vedo che siete accorto e lo sarò anch'io eppure ella mi ha dato della bestia fate bene a rimproverarmelo gli dissi stringendogli la mano perdonatemi se ne andò e lessi sono e qui diceva il nome uno dei vostri ammiratori so tutta la vostra Francesca da Rimini a memoria mi arrestarono per e qui diceva la causa della sua cattura e la data e darei non so quante libere del mio sangue per avere il bene di essere con voi o di avere almeno un carcere contiguo al vostro affinché potessimo parlare insieme da che intesi da Tremerello così chiameremo il confidente che voi signore eravate preso e per qual motivo arsi di desiderio di dirvi che nessuno vi compiange più di me che nessuno vi ama più di me sareste voi tanto buono da accettare la seguente proposizione cioè che alleggerissimo entrambi il peso della nostra solitudine scrivendoci vi prometto da uomo d'onore che anima il mondo da me non lo saprebbe mai persuaso che la stessa secretezza se accettate mi posso sperare da voi intanto perché abbiate qualche conoscenza di me vi darò un sunto della mia storia eccetera seguiva il sunto capo 33 ogni lettore che abbia un po' di immaginativa capirà agevolmente quanto un foglio simile debba essere elettrico per un povero prigioniero massimamente per un prigioniero di indole niente affatto selvatica e di cuore amante e il mio primo sentimento fu di affezionarmi a quell'incognito di commuovermi sulle sue sventure si esclamai accetto la tua proposizione generoso possono le mie lettere darti ugual conforto a quel che mi daranno le tue e lessi e rilessi quella lettera con un giubilo da ragazzo e benedissi cento volte chi l'avea scritta e pare a me che ogni sua espressione rivelasse un'anima maschietta e nobile il sole tramontava era l'ora della mia preghiera o come sentivo Dio come io lo ringraziava di trovare sempre nuovo modo di non lasciar languire le potenze della mia mente e del mio cuore io ero ritto sul finestrone le braccia tra le sbarre le mani incrocchiate la chiesa di San Marco era sotto di me una moltitudine prodigiosa di colombi indipendenti amoreggiava svolazzava nidificava il più magnifico cielo mi stava dinnanzi io dominavo tutta quella parte di Venezia che era visibile dal mio carcere un rumore lontano di voci umane mi feriva dolcemente l'orecchio in quel luogo infelice ma stupendo io conversava con colui gli occhi soli del quale mi vedeano gli raccomandava mio padre mia madre e ad una a una tutte le persone a me care e sembravami che lei mi rispondesse t'affidi la mia bontà io esclamava sì la tua bontà mi affida e chiudea la mia orazione intenerito confortato e poco curante delle morsicature che fra tanto mi avevano allegramente dato le zanzare quella sera dopo tanta esaltazione la fantasia cominciando a calmarsi le zanzare cominciando a divenirmi insoffribili il bisogno di avvolgermi faccia e mani tornando a farmi si sentire un pensiero volgare e maligno mi entrò a un tratto nel capo mi fece ribrezzo vogli cacciarlo e non potei tremerello mi aveva accennato un infame sospetto intorno alla zanze che fosse un'esploratrice dei miei segreti ella quell'anima candida che nulla sapeva di politica che nulla voleva saperne il lei mi era impossibile dubitare ma mi chiesi ho io la stessa certezza intorno a tremerello e se quel mariuolo fosse strumento di indagini suddole se la lettera fosse fabbricata da chissà chi per indurmi a fare importanti confidenze al novello amico forse il preteso prigione che mi scrive non esiste neppure forse esiste ed è un perfido che cerca di acquistare secreti per far la sua salute rivelandoli forse è un galantuomo sì ma il perfido è tremerello che vuol rovinarci tutti e due per guadagnare un appendice al suo salario oh brutta cosa ma troppo naturale a chi geme in carcere il temere dappertutto nemicizie e frode tali dubbi mi angustiavano e mi avvivivano no per la zanza io non aveva mai potuto averli un momento tuttavia da che tremerello avea scagliata quella parola riguardo a lei un mezzo dubbio pur mi cruciava non sovressa ma su coloro che la lasciavano venire nella mia stanza le avessero per proprio zelo per volontà superiore dato l'incarico di esploratrice ma circa la lettera dell'incognito che fare appigliarsi ai severi segretti consigli della paura che si intitola prudenza rendere la lettera a tremerello e dirgli non voglio rischiare la mia pace e se non vi fosse alcuna frode e se l'incognito fosse un uomo degnissimo della mia amicizia degnissimo che io rischiassi alcunché per temperargli le angosce della solitudine file tu stai forse a due passi dalla morte la feral sentenza può pronunciarsi da un giorno all'altro e ricuseresti di fare ancora un atto d'amore rispondere a rispondere io debbo ma venendo per disgrazia scoprirsi questo carteggio e nessuno potesse pure in coscienza farcene delitto non è egli vero tuttavia che un fiero castigo caprebbe sul povero tremerello questa considerazione non è e la bastante a impormi come assoluto dovere il non imprendere carteggio clandestino capo 34 fui agitato tutta sera non chiusi occhio la notte fra tante incertezze non sapea che risolvere balzai dal letto prima dell'alba salì sul finestrone e pregai nei casi ardui bisogna consultarsi fiducialmente con Dio ascoltare le sue ispirazioni e attenervisi così feci e dopo lunga preghiera discesi scossi le zanzare mi accarezzai con le mani le guance morsicate e il partito era preso esporre a tremerello il mio timore che da quel carteggio potesse a lui tornare danno passeggiai finché intesi canterellare sognai mi c'era angato e mi te accarezzavi tremerello mi portava il caffè gli dissi il mio scrupolo non risparmiai parola per mettergli paura lo trovai saldo nella volontà di servire diceva egli due così compiti signori ciò era assai in opposizione con la faccia di coiglio che egli avea e col nome di tremerello che gli davamo ebbene fui saldo anch'io io vi lascerò il mio vino gli dissi fornitemi la carta necessaria a questa corrispondenza e fidatevi che se odo suonare le chiavi senza la cantilena vostra distruggerò sempre in un attimo qualunque oggetto clandestino eccole appunto un foglio di carta gliene darò sempre finché vuole e riposo perfettamente sulla sua correttezza mi bruciai il palato per ingogliare presto il caffè Tremerello se ne andò e mi posi a scrivere facevo bene? era la risoluzione che io prendeva ispirata veramente da Dio non era piuttosto un trionfo del mio naturale ardimento del mio anteporre ciò che mi piace appenosi i sacrifici un misto d'orgogliosa compiacenza per la stima che l'incognito mi attestava e di timore di parere un posillanime se io preferissi un prudente silenzio o una corrispondenza alquanto rischiosa come sciogliere questi dubbi io li esposi candidamente al concattivo rispondendoli e soggiunsi non di medo essere mio avviso che quando sembra taluno di operare con buone ragioni e senza manifesta ripugnanza della coscienza ei non debba più paventare di colpa egli tuttavia riflettesse parimente con tutta la serietà dell'assunto che imprendevamo e mi dicisse schietto con qual grado di tranquillità o inquietudine vi si determinasse che se per nuove riflessioni ei giudicava l'assunto troppo temerario facessimo lo sforzo di rinunciare al conforto promessoci dal carteggio e ci contentassimo di esserci conosciuti con lo scambio di poche parole ma indelebili e mallavadrici di alta amicizia scrissi quattro pagine caldissime del mio più sincero affetto accennai brevemente il soggetto della mia prigionia parlai con effusione di cuore della mia famiglia e di alcuni altri miei particolari e mirai a farmi conoscere nel fondo dell'anima a sera la mia lettera fu portata non avendo dormito la notte precedente ero stanchissimo capo 35 la risposta venne col caffè saltai al collo di tremarello e gli dissi con tenerezza iddio ti rimuneri di tanta carità i miei sospetti su lui e l'incognito erano dissipati non so neanche a dir perché perché mi erano odiosi perché avendo la cautela di non parlare mai follemente di politica mi apparivano inutili perché mentre sono ammiratore dell'ingegno di tacito ho tuttavia pochissima fede nella giustezza del taciteggiatore del veder molto le cose in nero Giuliano cominciava la lettera con un preambolo di gentilezze e si diceva senza alcuna inquietudine sull'impreso carteggio Indy scherzava dapprima moderatamente sul mio esitare poi lo scherzo acquistava alcunché di pungente al fine dopo un eloquente elogio sulla sincerità mi dimandava perdono se non poteva nascondermi il dispiacere che aveva provato ravvisando in me diceva egli una certa scrupolosa titubanza una certa cristiana sottigliezza di coscienza che non può accordarsi con la vera filosofia vi stiverò sempre soggiungeva egli quando anche non possiamo accordarci su ciò ma la sincerità che professo mi obbliga a dirvi che non ho religione che le aborro tutte che prendo per modestia il nome di Giuliano perché quel buon imperatore era nemico dei cristiani ma che realmente io vado molto più in là di lui il coronato Giuliano credeva in Dio e aveva certe sue bigotterie io non ne ho alcuna non credo in Dio pongo ogni virtù nell'amare per la verità e per chi la cerca e nell'odiare chi non mi piace e di questa foggia continuando non recava ragioni di nulla inveiva a dritto e a rovescio contro il cristianesimo lo dava con pomposa energia l'altezza della virtù e religiosa e prendeva con istile parte serio e parte faceto a far l'elogio dell'imperatore Giuliano per la sua apostasia e per il filantropico tentativo di cancellare dalla terra tutte le tracce del Vangelo temendo quindi di aver troppo urlate le mie opinioni tornava a dimandarmi perdono e a declamare contro la tanto frequente mancanza di sincerità ripeteva il suo grandissimo desiderio di stare in relazione con me e mi salutava una poscritta diceva non ho altri scrupoli se non di non essere schietto abbastanza non posso quindi tacervi di sospettare che il linguaggio cristiano che teneste meco sia finzione lo bravo ardentemente in tal caso gettate la maschera vi ho dato l'esempio non saprei dire l'effetto strano che mi fece quella lettera io palpitava come un innamorato ai primi periodi una mano di ghiaccio sembrava quindi stringermi il cuore quel sarcasmo sulla mia coscienziosità mi offese mi pentì di aver aperto una relazione con se fatto uomo io che dispregio tanto il cinismo io che lo credo la più infilosofica la più villana di tutte le tendenze io a cui l'arroganza impone si poco letta l'ultima parola pigliai la lettera fra il pollice e l'indice di una mano e il pollice e l'indice dell'altra e alzando la mano sinistra tirai giù rapidamente la destra cosicché ciascuna delle due mani rimase in possesso di una mezza lettera capo 36 guardai qui i due brani e meditai un istante sull'incostanza delle cose umane e sulla falsità delle loro apparenze poc'anzi tanta brama di questa lettera e ora lo straccio per risdegno poc'anzi tanto presentimento di futura amicizia con questo compagno di sventura tanta persuasione di mutuo conforto tanta disposizione a mostrarmi con lui affettuosissimo ed ora lo chiamo insolente stesi i due brani uno sull'altro e collocato di nuovo come prima l'indice e il pollice di una mano e l'indice e il pollice dell'altra tornai ad alzare la sinistra e attirai giù rapidamente la destra era per replicare la stessa operazione ma uno dei quarti mi cadde di mano mi chinai per prenderlo e nel breve spazio di tempo del chinarmi e rialzarmi mutai proposito e mi invogliai di rileggere quella superba scritta siedo fo combaciare i quattro pezzi sulla Bibbia e rileggo le lascio in quello stato passeggio rileggo ancora intanto penso se io non gli rispondo e giudicherà che io sia annichilito di confusione che io non osi ricomparire al cospetto di tanto Ercole rispondiamogli facciamoli vedere che non temiamo il confronto delle dottrine dimostramogli con buona maniera non esservi alcuna viltà nel maturare i consigli nell'ondeggiare quando si tratta di una risoluzione alquanto pericolosa e più pericolosa per altri che per noi impari che il vero coraggio non istà nel ridersi della coscienza che la vera dignità non istà nell'orgoglio spieghiamogli la ragionevolezza del cristianesimo e l'insussistenza dell'incredulità e finalmente se codesto Giuliano si manifesta di opinioni così opposte alle mie se non mi risparmia pungenti sarcasmi se degna così poco di cattivarmi non è ciò provo almeno che non è una spia se non che non potrebbe egli essere un raffinamento d'arte quel menar ruvidamente la frusta addosso al mio amore proprio malignità volgare che condannai mille volte in altri via dal mio cuore no Giuliano è quel che è e non più è un insolente è non una spia ed ho io veramente il diritto di dare l'odioso nome di insolenza a ciò che egli reputa sincerità ecco la tua umiltà ipocrita basta che uno per errore di mente sostenga opinioni false e derida la tua fede subito ti arroghi e devi dipenderlo Dio sa se questa umiltà rabbiosa e questo zelo malevolo nel petto di me cristiano non è peggiore dell'audace sincerità di quelli increduli forse non gli manca se non un raggio della grazia perché quel suo energico amore del vero si muti in religione più solida della mia non farei io meglio di pregare per lui che di adirarmi e suppormi migliore chissà che mentre io stracciava fuorrentemente la sua lettera e non rilegcesse con dolcezza la mia e si fidasse tanto della mia bontata credermi incapace di offendermi delle sue schiette parole qual sarebbe il più iniquo dei due uno che ama e dice non sono cristiano ovvero uno che dice sono cristiano e non ama è cosa difficile conoscere un uomo dopo averlo visto con lui e io vorrei giudicare costui da una lettera fra tante possibili non avvi egli quella che senza confessarlo assemedissimo ehi non sia appunto tranquillo del suo ateismo e che indimi stuzzichi a combatterlo con la secreta speranza di dover cedere o fosse pure o grandio in mano di cui tutti gli strumenti più indegni possono essere efficaci sceglimi sceglimi a quest'opera detta a me tai potenti e sante ragioni che convincano quell'infelice che lo tragano a benedirti a imparare che lungi da te non vi è virtù la quale non sia contraddizione capo 37 stracciai più minutamente ma senza residuo di collera i quattro pezzi di lettera andai alla finestra stesi la mano e mi fermai a guardare la sorte dei diversi bocconcini di carta in balia del vento alcuni si posarono sui piombi della chiesa altri girarono lungamente per aria e discesero a terra vidi che andavano tanto dispersi da non esservi pericolo che alcuno li raccogliesse e ne capisse il mistero scrissi poscia a giuliano e presi tutta la cura per non essere per non apparire indispettito scherzai sul suo timore che io portassi la sottigliezza di coscienza a un grado non accordabile con la filosofia e dissi che sospendesse almeno intorno a ciò i suoi giudizi lo dai la professione che facea di sincerità l'assicurai che mi avrebbe trovato uguale a sé in questo riguardo e soggiunsi che per dargliene prova io mi accingevo a difendere il cristianesimo ben persuaso dicevo che come sarò sempre pronto a udire amichevolmente tutte le vostre opinioni così abbiate la liberalità di udire in pace le mie quella difesa io mi proponevo di farla poco a poco e intanto la incominciavo analizzando con fedeltà l'essenza del cristianesimo culto di dio spoglio di superstizioni fratellanza fra gli uomini aspirazione perpetua alla virtù che di più filosofico e di più grande intendeva poscia dimostrare come tanta sapienza era più o meno debolmente traspassa a tutti coloro che coi lumi della ragione avevano cercato il vero ciò che sommi filosofi mai non poterono l'abbattimento dell'idolatria e la predicazione generale della fratellanza si eseguisce con pochi rozzi messaggeri allora l'emancipazione degli schiavi diviene ogni ora più frequente finalmente appare una civiltà senza schiavi una rassegna della storia da Gesù Cristo in qua dovea per ultimo dimostrare come la religione da lui stabilita si era sempre trovata adattata a tutti i possibili gradi di incivilimento quindi è falso che l'incivilimento continuando a progredire il Vangelo non sia più accordabile con esso scrissi a minutissimo carattere e assai lungamente ma non potei tuttavia andare molto oltre perché mi mancò la carta lessi e rilessi quella mia introduzione mi parve ben fatta non vi era pure una frase di risentimento sui sarcasmi di Giuliano e le espressioni di benevolenza abbondavano e avea le dettate il cuore già pienamente ricondotto a tolleranza spedii la lettera e il mattino seguente mi aspettava con ansietà la risposta Tremerello venne e mi disse quel signore non ha potuto scrivere ma la prega di continuare il suo scherzo scherzo? esclamai e che non avrà detto scherzo avrete capito male Tremerello si strinse nelle spalle ma avrò capito male ma vi par proprio che abbia detto scherzo? come mi pare di sentire in questo punto i colpi di San Marco suonava appunto il campanone bevi il caffè e tacqui ma ditemi aveva quel signore già letto tutta la mia lettera? mi figuro di sì perché rideva rideva come un matto e faceva di quella lettera una palla e la gettava per aria e quando gli dissi che non dimenticasse poi di distruggerla la distrusse subito va benissimo e restituì a Tremerello la chicchera dicendogli che si conosceva che il caffè era stato fatto dalla signora Bettina l'ha trovato cattivo? pessimo eppure l'ho fatto io e all'assicuro che l'ho fatto carico e non vi erano fondi non avrò forse la bocca buona capo 38 passeggiai tutta mattina fremendo che razza d'uomo è questo Giuliano perché chiamare la mia lettera uno scherzo perché ridere giocare alla palla con essa perché non rispondermi pure una riga tutti gli increduli sono così sentendo la debolezza delle loro opinioni se alcuno si accinge a confutarle non ascoltano ridono ostentano una superiorità d'ingegno la quale non ha più bisogno di esaminare nulla sciagurati e quando mai vi fu filosofia senza esame senza serietà se è vero che Democrito ridesse sempre egli era un buffone ma ben mi sta perché imprendere questa corrispondenza che io mi facessi illusione un momento era perdonabile ma quando vedi che colui insolentiva non fui io uno stolto di scrivergli ancora era risoluto di non più scrivergli a pranzo Tremerello prese il mio vino se lo versò in un fiasco e mettendosela in saccoccia oh mi accorgo disse che ho qui te la carta da darle e me la porse se ne andò e io guardando quella carta bianca mi sentivo venire la tentazione di scrivere un'ultima volta a Giuliano di congedarlo con una buona lezione sulla turpitudine dell'insolenza bella tentazione dissi poi rendergli disprezzo per disprezzo fargli odiare e vi è più il cristianesimo mostrandogli mia cristiana impazienza e orgoglio no ciò non va cessiamo affatto il carteggio e se lo cesso così asciuttamente non dirà colui del pari che impazienza e orgoglio mi vinsero conviene scriverli ancora una volta senza fiele ma se posso scrivere senza fiele non sarebbe meglio non darmi per inteso delle sue risate e del nome di scherzo che egli ha gratificato alla mia lettera non sarebbe meglio continuare buonamente la mia apologia del cristianesimo ci pensai un poco e poi mi attenni a questo partito la sera spedì il mio piego e il mattino seguente ricevetti alcune ricche di ringraziamento molto fredde però senza espressioni mordaci ma anche senza il minimo cenno di approvazione né di invito a proseguire tal biglietto mi spiacque non di meno fermai di non desistere sino alla fine la mia tesi non poteva trattarsi in breve e fu soggetto di cinque o sei altre lunghe lettere a ciascuna delle quali mi veniva risposto un laconico ringraziamento accompagnato da qualche declamazione strane al tema ora imprecando i suoi nemici ora ridendo di averli imprecati e dicendo essere naturale che i forti opprimano i deboli e non rincrescerli altro che di non essere forte ora confidandomi i suoi amori e l'impero che questi esercitavano sulla sua tormentata immaginativa non di meno all'ultima mia lettera sul cristianesimo ei diceva che mi stava apparecchiando una lunga risposta aspettai più di una settimana intanto ei mi scriveva ogni giorno di tutt'altro e per lo più di oscenità lo pregai di ricordarsi la risposta di cui mi era debitore e gli raccomandai di volere applicare il suo ingegno a pesare veramente tutte le ragioni che io gli avea portate mi rispose alquanto rabiosamente prodigandosi gli attributi di filosofo di uomo sicuro di uomo che non aveva bisogno di pesare tanto per capire che le lucciole non erano lanterne e tornò a parlare allegramente di avventure scandalose capo 39 io pazientava per non farmi dare del bigotto e dell'intollerante e perché non disperava che dopo quella febbre di erotiche buffonerie venisse un periodo di serietà intanto gli andavo manifestando la mia disapprovazione alla sua irrilevanza per le donne al suo profano modo di fare all'amore compiangeva quelle infelici che ei mi diceva essere state sue vittime ei fingeva di credere poco alla mia disapprovazione e ripeteva che che borbottiate di moralità sono certo di divertirvi con i miei racconti tutti gli uomini amano il piacere come io ma non hanno la franchezza di parlarne senza velo ve ne dirò tante che vi incanterò e vi sentirete obbligato in coscienza di applaudirmi ma di settimana in settimana ei non desisteva mai da questa infamie ed io leggevo tutto e l'anima mia restava non già sedotta ma pur conturbata allontanata dai pensieri nobili e santi il conversare con gli uomini degradati degrada se non sia una virtù molto maggiore della comune molto maggiore della mia ecco ti punito dicevo a me stesso della tua presunzione ecco ciò che si guadagna a voler fare il missionario senza la santità da ciò un giorno mi risolse a scrivergli queste parole mi sono sforzato fino ora di chiamarvi ad altri soggetti e voi mi mandate sempre novelle che vi dissi schiettamente di spiacermi se vi aggrada che favelliamo di cose più degne continueremo la corrispondenza altrimenti tocchiamoci la mano e ciascuno se ne stia con sé fui per due giorni senza risposta e da prima ne gioi oh benedetta solitudine andava sclamando quanto meno amara tu sei di una conversazione inarmonica e snobilitante invece di crociarmi leggendo impudenze invece di faticarmi in vano oppor loro l'espressione di aneliti che onore l'umanità tornerò a conversare con Dio con le care memorie della mia famiglia e dei miei veri amici tornerò a leggere maggiormente la Bibbia scrivere i miei pensieri sulla tavola studiando il fondo del mio cuore e procacciando di migliorarlo tutte le volte che Tremerello entrava nel mio carcere mi diceva non ho ancora risposta va bene rispondevo io il terzo giorno mi disse il signor nn è in mezzo ammalato chi ha non lo dice ma è sempre stato sul letto non mangia non beve ed è di malumore mi commossi pensando che egli pativa e non aveva alcuno che lo confortasse mi sfuggì dalle labbra o piuttosto dal cuore gli scriverò due righe le porterò stasera disse Tremerello e se ne andò io ero alquanto imbarazzato mettendomi al tavolino fu io bene a ripigliare il carteggio non benediceva io dinanzi la solitudine come un tesoro riacquistato che in costanza è dunque la mia eppure quell'infelice non mangia non beve sicuramente è ammalato è questo il momento di abbandonarlo l'ultimo mio viglietto era aspro avrà contribuito ad affliggerlo forse a onta dei nostri diversi modi di sentire e non avrebbe mai risciolta la nostra amicizia il mio viglietto gli sarà sembrato più malevolo che non era e l'avrà preso per un assoluto sprezzante congedo capo 40 scrissi così sento che non estate bene e me ne duole vivamente vorrei di tutto cuore esservi vicino e prestarvi tutti gli uffici di amico spero che la vostra poca buona salute sarà stata l'unico motivo del vostro silenzio da tre giorni in qua non vi sareste già offeso del mio viglietto dell'altro dì lo scrissi vi assicuro senza la minima malevolenza e col solo scopo di trarvi a più seri soggetti di ragionamento se lo scrivere vi fa male mandatemi soltanto nuove esatte della vostra salute io vi scriverò ogni giorno qualcosetta per distrarvi e perché vi sovvenga che vi voglio bene non mi sarei mai aspettato la lettera che hai mi rispose cominciava così ti disdico l'amicizia se non sai che fare della mia io non so che fare della tua non sono uomo che perdoni offese non sono uomo che ricettato una volta ritorni perché mi sai infermo ti riaccosti ipocritamente a me sperando che la malattia indebolisca il mio spirito e mi traga ad ascoltare le tue prediche e andava innanzi di questo modo vituperandomi con violenza schernendomi ponendo in caricatura tutto ciò che io gli aveva dato di religione e di morale protestando di vivere e morire sempre lo stesso cioè col più grande odio e disprezzo contro tutte le filosofie diverse dalla sua restai svalordito le belle conversazioni che io fo dicevo io con dolore e intorpidimento dio mi è testimone se le mie intenzioni non erano pure no queste ingiurie non le ho meritate è bene pazienza è un disinganno di più tal sia di colui se si immagina offese per avere la volutà di non perdonarle più di quel che ho fatto non sono obbligato di fare tuttavia dopo alcuni giorni il mio sdegno si mitigò e pensai che una lettera frenetica poteva essere stata frutto di un esaltamento non durevole forse ai gias se ne vergogna dicevo io ma è troppo altero da confessare il suo torto non sarebbe opera generosa ora che egli ha avuto tempo di calmarsi lo scrivergli ancora mi costava assai far tanto sacrificio di amor proprio ma lo feci chi si umilia senza bassi fili non si degrada qualunque ingiusto spregio gli eleturni ebi per risposta una lettera meno violenta ma non meno insultante l'implagato mi diceva che egli ammirava la mia evangelica moderazione or dunque ripigliamo pure proseguiva egli la nostra corrispondenza ma parliamo chiaro noi non ci amiamo ci scriveremo per trasturlare ciascuno se stesso mettendo sulla carta liberamente tutto ciò che ci viene in capo voi le vostre immaginazioni serafiche ed io le mie bestemmie voi la vostra estasi sulla dignità dell'uomo e della donna io l'ingenuo racconto delle mie profanazioni sperando io di convertire voi e voi di convertire me rispondetemi se vi piace il patto risposi il vostro non è un patto ma uno scherno abbandonai in buon volere con voi la coscienza non mi obbliga più ad altro che augurarvi tutte le felicità per questa e l'altra vita così finì la mia clandestina relazione con quell'uomo chissà forse più inesprito della sventura e delirante per disserzione che malvagio capo 41 benedissi un'altra volta davvero la solitudine e i miei giorni passarono di nuovo per alcun tempo senza vicende finì l'estate nell'ultima metà di settembre il caldo scemava ottobre venne io mi rallegravo allora di avere una stanza che nel verno doveva essere buona ecco una mattina il custode che mi diceva avere ordine di mutarmi e di carcere e dove si va a pochi passi in una camera più fresca e perché non pensarci quando io moriva del caldo e l'aria era tutte zanzare il letto tutte cimici il comando non è venuto prima pazienza andiamo il luogo dove mi posero era pur sotto i piombi ma tramontana e ponente con due finestre una di qua l'altra di là soggiorno di perpetui raffreddori e di orribile ghiaccio nei mesi rigidi la finestra ponente era grandissima quella tramontana era piccola e alta al di sopra del mio letto mi affacciai prima a quella e vidi che metteva verso il palazzo del patriarca altre prigioni erano presso la mia in un'ala di poca estensione a destra e in uno sporgimento di fabbricato che mi stava di rimpetto in quello sporgimento stavano due carceri una sull'altra la inferiore aveva un finestrone enorme per il quale io vedevo dentro passeggiare un uomo signorilmente vestito era il signor caporali di cesena questi mi vide mi fece qualche segno e ci dicemmo i nostri nomi voli quindi esaminare dove guardasse l'altra mia finestra mi fermai a considerare quella bella vetuta e udando che si apriva la porta non mi mossi era il custode il quale scorgendomi il suo arrampicato dimenticò che io non poteva passare come un sorcio attraverso le sbarre pensò che io tentassi di fuggire e nel rapido istante del suo turbamento salto sul letto a onta di una sciatica che lo tormentava e mi afferrò per le gambe ridando come un'aquila ma non vedete gli dissi ho smemorato che non si può fuggire per causa di queste sbarre non capite che salì per sola curiosità vedo si or vedo capisco ma la cali giù le dico le cali queste le son tentazioni da scappar e mi convenne di scendere e ridere capo 42 alle finestre delle prigioni laterali conobbi sei altri detenuti per cose politiche ecco dunque che mentre io mi disponevo a una solitudine maggiore che in passato mi trovo in una specie di mondo a principio mi increbbe sia che il lungo vivere romito avesse già fatto alquanto insocievole l'indole mia sia che il dispiacente esito della mia conoscenza con Giuliano mi rendesse diffidente non di meno quel poco di conversazione che prendemmo a fare parte a voce parte a segni parve mi in breve un beneficio se non come stimolo e allegrezza almeno come divagamento della mia relazione con Giuliano non feci motto con alcuno c'eravamo egli ed io dato parola d'onore che il segreto resterebbe sepolto in noi se ne fa vello in queste carte gli è perché sotto gli occhi di chiunque andassero gli sarebbe impossibile indovinare chi di tanti che giacevano in quelle carceri fosse Giuliano alle nuove mentovate conoscenze di concaptivi si aggiunse un'altra che mi fu pure dolcissima dalla finestra grande io vedevo oltre lo spargimento di carceri che mi stava in faccia una estensione di tetti ornata di camini di altane di campanidi di cupole la quale andava a perdersi con la prospettiva del mare e del cielo nella casa più vicina a me che era un'ala del patriarcato abitava una buona famiglia che acquistò diritti alla mia riconoscenza mostrandomi con i suoi saluti la pietà che io le ispirava un saluto una parola d'amore agli infelici e una grande carità cominciò Colà da una finestra ad alzare le sue manine verso me un ragazzetto di nove o dieci anni e l'intesi gridare mamma mamma ha un posto qualche d'uno lassù nei piombi o povero prigioniero chi sei io sono Silvio Pellico risposi un altro ragazzo a più grandicello corse anch'iglia alla finestra e gridò tu sei Silvio Pellico sì e voi cari fanciulli io mi chiamo Antonio S e mio fratello Giuseppe poi si voltava indietro e diceva che cos'altro debbo domandarli e una donna che suppongo essere stata loro madre e stava mezzo nascosta suggeriva parole gentili a quei cari figlioli ed essi le dicevano ed io li ringraziavo con la più viva tenerezza quelle conversazioni erano piccola cosa e non bisognava abusarne per non far gridare il custode ma ogni giorno ripetevansi con mia grande consolazione all'alba a mezzodì e a sera quando accendevano il lume quella donna chiudeva la finestra i fanciulli gridavano buonanotte Silvio ed ella fatta coraggiosa dall'oscurità ripetea con voce commossa buonanotte Silvio coraggio quando qui i fanciulli facevano colazione o merenda mi dicevano oh se potessimo darti del nostro caffè e latte oh se potessimo darti dei nostri buzzolai il giorno che andrai in libertà son vengati di venirci a vedere ti daremo dei buzzolai belli e caldi e tanti baci capo 43 il mese di ottobre era la ricorrenza del più brutto dei miei anniversari io ero stato arrestato il 13 di esso mese dell'anno antecedente parecchie tristi memorie mi ricorrevano inoltre in quel mese due anni prima in ottobre si era per funesto accidente annegato nel Ticino un valentuomo che io molto onoravo tre anni prima in ottobre si era involontariamente ucciso con uno schioppo Odoardo Briche giovinetto che amavo quasi fosse stato mio figlio ai tempi della mia prima gioventù in ottobre un'altra grave afflizione mi avea colpito bench'io non sia superstizioso il riscontrarsi fatalmente in quel mese ricordanze così infelici mi rendea tristissimo favellando dalla finestra con quei fanciulli e con i miei concaptivi io mi fingevo lieto ma appena rientrato nel mio antro un peso inenarrabile di dolore mi piombava sull'anima prendevo la penna per comporre qualche verso o per attendere ad altra cosa letteraria e una forza irresistibile pare a costringermi a scrivere tutt'altro che? lunghe lettere che io non potevo mandare lunghe lettere alla mia cara famiglia nelle quali io versavo tutto il mio cuore io le scrivevo sul tavolino e poi le reschiava erano calde espressioni di tenerezza e rimembranze della felicità che avevo goduto presso genitori fratelli e sorelle così indulgenti così amanti il desiderio che io sentivo di loro mi ispirava a un'infinità di cose appassionate questo era sotto una nuova forma un ripetermi la mia biografia e illudermi ridipingendo il passato un forza mia a tener gli occhi sul tempo felice che non era più ma Dio quante volte dopo aver rappresentato con animatissimo quadro un tratto della mia più bella vita dopo aver inebriata la fantasia fino a parermi che io fossi con le persone a cui parlava mi ricordava repentinamente del presente e mi cadea la penna e inorridiva momenti veramente spaventosi erano quelli avea li già provati altre volte ma non mai con convulsioni pari a quelle che ora mi assalivano io attribuivo tali convulsioni e tali orribili angosce al troppo eccitamento degli affetti a cagione della forma epistolare che davo a quegli scritti e del dirigerli a persone siccare vogli far altro e non potevo vogli abbandonare almeno la forma epistolare e non potevo presa la penna e mosso mi a scrivere ciò che ne risultava era sempre una lettera piena di tenerezza e dolore non sono io più libero del mio volere andavo dicendo questa necessità di fare ciò che non vorrei fare ed essa uno stravolgimento del mio cervello ciò per l'addietro non mi accadeva sarebbe stata cosa spiegabile nei primi tempi della mia detenzione ma ora che sono maturato alla vita carceraria ora che la fantasia dovrebbe essersi calmata su tutto ora che mi sono cotanto un trito di riflessioni filosofiche e religiose come divento schiavo delle cieche brame del cuore e pargoleggio così applichiamoci ad altro capo 44 simile stato era una vera malattia non so se debbo dire una specie di sonnambulismo era senza dubbio effetto di una grande stanchezza operata dal pensare e dal vegliare andò più oltre le mie notti divennero costantemente insonni e per lo più febbrili in Darno cessai di prendere caffè la sera l'insonnia era la stessa ma pareva che me fossero due uomini uno che voleva sempre scrivere lettere e l'altro che voleva fare altro ebbene dicevo io transigiamo scrivi pure lettere ma scrivile in tedesco così impareremo quella lingua quindi in poi scrivevo tutto in un cattivo tedesco il mattino dopo lunga veglia il cervello spossato cadeva in qualche sopore talvolta in quei brevissimi sogni sembravami di udire la madre consolare gli altri entrando con essi nel mio carcere e volgermi le più sante parole sul dovere della rassegnazione per uscire di tanta miseria provai di non andare più affatto a letto tenevo acceso il lume l'intera notte e stavo al tavolino a leggere e scrivere ma che veniva il momento che leggevo testissimo ma senza capire nulla e che assolutamente la testa più non mi reggeva a comporre pensieri eppure se andavo a letto era peggio nessuna posizione mi era tollerabile giacendo mi agitavo convulso e convenivo di alzarmi ovvero se alquanto dormiva quei disperanti sogni mi facevano più male del vegliare in quelle orrende notti l'immaginativa mi si esaltava talora in guisa che parea mi sebbene svegliato or di udire gemiti nel mio carcere or di udire risa soffocate dall'infanzia in poi non era mai stato credulo a streghe e folletti ed ora quelle rise e quei gemiti mi atterrivano e non sapea come spiegare ciò ed era costretto a dubitare se io non fossi il ludibrio di incognite maligne potenze più volte mi venne il dubbio che mi avessero tolto dalla prima stanza e trasportato in questa perché ivi fosse qualche trabocchello stando al tavolino or pareami che alcuno mi tirasse per il vestito or che fosse data una spinta a un libro il quale cadeva a terra or che una persona dietro a me soffiasse sul lume per rispegnerlo allora balzavo in piedi guardavo intorno passeggiavo con diffidenza e chiedevo a me stesso se fossi impazzato o in senno non sapea più che cosa di ciò che io vedea e sentiva fosse realtà o illusione ed esclamavo con angoscia Deus meus Deus meus ut quid deliriquesti me capo 45 una volta andato a letto alquanto prima dell'alba mi parve di avere la più gran certezza di aver messo il fazzoletto sotto il cappezale dopo un momento di sopore mi destai al solito e mi sembrava che mi strangolassero sento di avere il collo strettamente avvolto cosa strana era avvolto col mio fazzoletto legato forte a più nodi avrei giurato di non aver fatto quei nodi di non aver toccato il fazzoletto da che l'avea messo sotto il cappezale convieni che io avessi operato sognando o delirando senza più osservarne alcuna memoria capisco quanto simili vaneggiamenti debbano essere ridicoli altrui ma a me che li provai facevano tal male che ne raccapriccio ancora si dileguavano ogni mattino e finché durava la luce del dì mi sentivo l'animo così rinfrancato contro quei terrori che mi sembrava impossibile di doverli mai più patire ma al tramonto del sole cominciavo a rabrividire e ciascuna notte riconduceva le brutte stravaganze della precedente nessuno udendomi scherzare come facevo si sarebbe immaginato la miseria e infermità che soffrivo sperava con quelli sforzi di rinvigorirmi e a nulla raggiungavano quelle apparenze notturne che il giorno io chiamava sciocchezze la sera tornavano ad essere per me in realtà spaventevoli se avessi ardito avrei supplicato la commissione di mutarmi distanza ma non seppi mai indurmi essendo vani tutti i razziocini tutti i proponimenti tutti gli studi le preghiere l'orribile idea di essere totalmente per sempre abbandonato da Dio si impadronì di me tutti quei maligni sofismi contro la provvidenza che in stato di ragione poche settimane prima mi apparivano si stolti or vennero a frullarmi nel capo bestialmente e mi sembrarono attendibili sconobbi la bontà della religione dissi come avea udito dire da rabbiosi atei e come testè Giuliano scriveami la religione non vale ad altro che a indebolire le menti mi arrogai di credere che rinunciando a Dio la mente mi si rinforzerebbe forse è nata fiducia io negavo Dio e non sapea negare gli invisibili malefici enti che sembravano circondarmi e pascersi dei miei dolori come qualificare quel martirio basta egli il dire che era una malattia o era egli nello stesso tempo un castigo divino per abbattere il mio orgoglio e farmi conoscere che senza un lume particolare potevo divenire incredulo come Giuliano e più insensato di lui che che ne sia Dio mi liberò di tanto male quando meno me l'aspettavo una mattina preso il caffè mi vennero vomiti violenti e coliche pensai che mi avessero avvelenato dopo la fatica dei vomiti era tutto in sudore e stetti a letto verso mezzogiorno mi addormentai e dormi placidamente fino a sera mi svegliai sorpreso di tanta quiete e parendomi di non avere più sonno mi alzai stando alzato disse io sarò più forte contro i soliti terrori ma i terrori non vennero giubilai e nella piena della mia riconoscenza tornando a sentire il Dio mi gettai a terra ad adorarlo e chiedergli perdono di averlo per più giorni negato quelle fusione di gioia esaurì le mie forze e fermatomi in ginocchio alquanto appoggiato a una sedia fui ripigliato dal sonno e mi addormentai in quella posizione di lì non so se a un'ora o più ore mi desto a mezzo ma appena ho tempo di buttarmi vestito sul letto e ridormo fino all'aurora fui sonno lento ancora tutto il giorno la sera mi coricai presto e dormi l'intera notte qual crisi erasi operata in me lo ignoro ma io ero guarito capo 46 cessarono le nausee che pativa da lungo tempo il mio stomaco cessarono i dolori di capo e mi venne un appetito straordinario digerivo eccellentemente crescevo in forze mirabile provvidenza ella mi aveva tolto le forze per umiliarmi ella me la rendea perché appressavasi l'epoca delle sentenze e volea che io non soccombessi al loro annunzio il 24 novembre uno dei nostri compagni il dottor foresti fu tolto dalle carceri dei piombi e trasporartato non sapevamo dove il custode sua moglie e i secondini erano atterriti e che cosa vuole ella sapere dicea mi tremarello se nulla via di buono a sanare le ho detto già troppo le ho detto troppo già su via che serve il tacere gridai raccapricciando non vi ho capito egli è dunque condannato a morte chi egli il dottor foresti tremarello esitava ma la voglia di chiacchierare non era l'infima delle sue virtù non dica poi che sono ciarlone io non voleva proprio aprir bocca su queste cose si ricordi che mi ha costretto si si vi ho costretto ma animo ditemi tutto che c'è nel povero foresti ah signore gli fecero passare il ponte dei sospiri egli è nelle carceri criminali la sentenza di morte è stata letta a lui e ad altri due e si seguirà quando miseri e chi sono gli altri due non so altro io non so altro le sentenze non sono ancora pubblicate si dice per venezia che vi saranno parecchie computazioni di pena dio volesse che la morte non si eseguesse per nessuno di loro dio volesse che se non sono tutti salvi da morte e l'almeno lo fosse io ho messo a lei tale affezione perdoni la libertà come se fosse un mio fratello e se ne andò commosso il lettore può pensare in quale agitazione mi trovassi tutto quel dì e la notte seguente e tanti altri giorni che nulla di più potei sapere capo 47 era mio unico pensiero il morire cristianamente e col debito coraggio ebbi la tentazione di sottrarmi al patibolo col suicidio ma questa sgombrò qual merito ebbi a non lasciarsi ammazzare da un carnefice ma rendersi invece carnefice di sé per salvare l'onore e non è una fanciullaggine il credere che sia vi più onore nel fare una burla al carnefice che nel non fargliela quando pur sia forza morire anche se non fosse stato cristiano il suicidio riflettendovi mi sarebbe sembrato un piacere sciocco una inutilità se il termine della mia vita è venuto mi andava dicendo non sono fortunato che sia inguisa da lasciarmi tempo per raccogliermi e purificare la coscienza con desideri e pentimenti degni di un uomo volgarmente giudicando l'andare al patibolo è la peggiore delle morti giudicando da savio non è dessa migliore delle tante morti che avvengono per malattia con grande indebolimento di intelletto la giustezza di tal ragionamento mi penetrò si forte nello spirito che l'orrore della morte di quella specie di morte si dileguava interamente da me meditai molto sui sacramenti che dovevano invigorirmi al solenne passo e mi parea di essere in grado di riceverli con tali disposizioni da provarne l'efficacia quell'altezza d'animo che credevo di avere quella pace quella indulgente affezione verso coloro che mi odiavano quella gioia di poter sacrificare la mia vita alla volontà di Dio le avrei serbate se fossi stato condotto al supplizio ah che l'uomo è pieno di contraddizioni e quando sembra essere più gagliardo e più santo può cadere fra un istante in debolezza e in colpa se allora io sarei morto degnamente Dio solo lo sa meditai ciò che dovevo scriverle per l'ultima volta alla mia famiglia e partitamente al padre alla madre a ciascuno dei fratelli e a ciascuna delle sorelle e volgendo in mente quelle espressioni di affetti sì profondi e sì sacri mi inteneriva con molta dolcezza e piangeva e quel pianto non infiacchiva la mia rassegnata volontà come non sarebbe ritornata l'insonnia ma quanto era diversa dalla prima non udiva né gemiti né risa nella stanza non vaneggiava né di spiriti né di uomini nascosti la notte mi era più deliziosa del giorno perché mi concentravo di più nella preghiera verso le quattro ore solevo mettermi a letto e dormivo placidamente circa due ore svegliato mi stavo nel letto tardi per riposare mi alzavo verso le undici una notte mi ero coricato alquanto prima del solito e avea dormito appena un quarto d'ora quando ridesto mi apparve un'immensa luce nella parete in faccia a me temetti di essere ricaduto nei passati deliri ma ciò che vedevo non era un'illusione quella luce veniva dal finestruolo a tramontana sotto il quale giacevo balzo a terra prendo il tavolino lo metto sul letto vi sovrappongo una sedia ascendo e vecco uno dei più belli e terribili spettacoli di fuoco che potessi immaginarmi era un grande incendio a un tiro di schioppo dalle nostre carceri prese alla cassa ovvero i forni pubblici e la consumò la notte era oscurissima e tanto più spiccavano quei vasti globi di fiamme e di fumo agitati come erano da furioso vento palpitando raccapricciando ammirando stetti sino all'aurora a quella finestra poi discesi oppresso da tristezza mortale figurandomi molto più danno che non era avvenuto Tremerello mi disse non essere arsi se non i forni e gli annessi magazzini con grande quantità di sacchi di farina capo 48 la mia fantasia era ancora vivamente colpita dall'aver veduto quell'incendio allorché poche notti appresso ecco voci poco lontane erano quelle del custode di sua moglie e dei loro figli dei secondini il fogo il fogo oh beata vergine non ho i perduti il freddo mi cessò in un istante balzai tutto sudato in piedi e guardai intorno se già si vedevano fiamme non se ne vedevano uno dei secondini gridava ma sior paron cosa faremmo desti siori in gabbi se il fogo s'avanza e dov'era quella eroica rassegnazione che teniami così sicuro di possedere pensando alla morte perché l'idea di bruciare vivo mi mette alla febbre ecco dissi io quale sarà il mio coraggio se scampato dal fuoco verrò condotto a morte mi frenerò nasconderò altrui la mia viltà ma tremerò se non che non è egli pure coraggio l'operare come se non si sentissero tremiti e sentirli non è egli generosità lo sforzarsi di dar volentieri ciò che rincresce di dare non è egli obbedienza l'obbedire ripugnando il trambusto nella casa del custode era si forte che indicava un pericolo sempre crescente e il secondino ito a chiedere la permissione di trarci di quei luoghi non ritornava finalmente sembrò mi di intendere la sua voce ascoltai e non distinzi le sue parole possibile che non siasi conceduto di traslocarci in salvo dal fuoco e se non ci fosse più modo di scampare tant'è ribigliavo io questa non è filosofia questa non è religione non farei io meglio di apparecchiarmi a vedere le fiamme entrare nella mia stanza e divorarmi intanto i rumori scenavano la continuazione del silenzio mi calmò con obbi che il fuoco doveva essere spento andai a letto e mi rimproverai come viltà l'affanno sofferto e or che non si trattava più di bruciare mi increbbe di non essere bruciato piuttosto che avere fra pochi giorni ad essere ucciso dagli uomini la mattina seguente intesi da Tremerello quale fosse stato l'incendio e risi della paura che Eimi disse di aver avuta quasi che la mia non fosse stata uguale o maggiore della sua capo 49 l'11 gennaio 1822 verso le 9 del mattino Tremerello coglie un'occasione per venire da me e tutto agitato mi dice se ella che nell'isola di San Michele di Murano qui poco lontano da Venezia vi è una prigione dove sono forse più di 100 carbonari me l'avete già detto altre volte bene che volete dire su parlate avvene forse di condannati appunto quali non lo so vi sarebbe mai il mio infelice maroncelli ah signore non so non so chi vi sia e andassone turbato e guardandomi con atti di compassione poco appresso viene il custode accompagnato dai secondini e da un uomo che io non aveva mai veduto l'uomo nuovo prese la parola signore la commissione ha ordinato che ella venga con me andiamo dissi e a voi dunque chi siete sono il custode delle carceri di san michele dove la deve essere tradotta il custode dei piombi consegnò a questo i denari miei che egli avea nelle mani vi mandai e ottenni la permissione di fare qualche regalo ai secondini misi in ordine la mia roba presi la bibbia sotto il braccio e partii scendendo quelle infinite scale fremerello mi strinse furtivamente la mano pari a volermi dire sciagurato tu sei perduto uscimmo da una porta che mettea sulla laguna e qui vi era una gondola con due secondini del nuovo custode entrai in gondola e apposti sentimenti mi commuovevano un certo rincrescimento di abbandonare il soggiorno dei piombi ove molto aveva patito ma ove pure io mi era affezionato ad alcuno il piacere di trovarmi dopo tanti mesi di reclusione all'aria aperta di vedere il cielo e la città e le acque il ricordarmi la lieta gondola che in tempo tanto migliore mi portava per quella laguna medesima e le gondole del lago di Como e quelle del lago Maggiore oh ridenti anni svaniti e chi era stato al mondo felice al pari di me nato dai più amorevoli parenti in quella condizione che non è povertà e che avvicinandoti quasi ugualmente al povero e al ricco ti agevole il vero conoscimento dei due stati io dopo un'infanzia consolata da dolcissime cure domestiche era passato a Lione presso un vecchio cugino materno ricchissimo e degnissimo delle sue ricchezze dove tutto ciò che può esservi d'incanto per un cuore bisognoso di eleganza e di amore avea deliziato il primo fervore della mia gioventù di lì tornato in Italia e domiciliato coi genitori a Milano avea proseguito a studiare e amare la società e i libri non trovando che amici egregi e lusinghevole plauso Monti e Foscolo sebbene avversarli fra loro mi erano benevoli ugualmente mi affezionai più a quest'ultimo e si fatto il racondo uomo che con le sue asprezze provocava tanti a disarmarlo era per me tutto dolcezza e cordialità gli altri letterati d'onore mi amavano anch'essi come li riamava io niente 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 mi assalì mai alla caduta del regno d'Italia mio padre avea riportato il suo domicilio a Torino col resto della famiglia fra altri ottimi amici tre in Milano predominavano sul mio cuore Pietro Borsieri Monsignor Lodovico di Breme e il conte Luigi Porro Lambertenghi mi si aggiunse in appresso il conte Federico Confalonieri fatto mio educatore di due bambini di Porro io era quelli come un padre era loro padre come un fratello in quella casa affluiva tutto ciò non solo che aveva di più colto la città ma copia di ragguardevoli viaggiatori ivi conobbila stael schlengen davis byron hobbaos brongham e molti altri illustri di varie parti d'europa sì io ero felice io non avrei mutato mai la mia sorte con quella di un principe e da sorte si gioconda balzare tra sgherri passare di carcere in carcere e finire per essere struzzato oh mio malgrado perire nei ceppi capo volgendo tali pezzieri giunsi a san michele e fu chiuso in una stanza a chi aveva la vista di un cortile della laguna e della bella isola di murano chiesi di maroncelli al custode alla moglie sua e a quattro secondini ma mi facevano visite brevi e piene di diffidenza e non volevano dirmi niente non di meno dove sono cinque o sei persone e gli è difficile che non se ne trovi una vogliosa di compatire e di parlare io trovai tal persona e seppi quanto segue maroncelli dopo esser stato lungamente solo era stato messo col conte camillo laderchi quest'ultimo era uscito di carcere da pochi giorni come innocente e il primo tornava ad essere solo dai nostri compagni erano anche usciti come innocenti il professor signor Canova erano insieme il professor Ressi giace a moribondo in un carcere vicino a quello di questi due di quelli che non sono usciti disse io le condanne sono dunque venute e che si aspetta a palesarcele forse che il povero Ressi muoia o sia in grado di udire la sentenza non è vero credo di sì tutti i giorni io dimandava dell'infelice ha perduto la parola l'ha riacquistata ma vaneggia e non capisce dà pochi segni di vita sputa sovente sangue e vaneggia ancora sta peggio sta meglio è in agonia tali risposte mi si diedero per più settimane finalmente una mattina mi si disse è morto versai una lacrima per lui e mi consolai pensando che egli aveva ignorato la sua condanna il di seguente 21 febbraio 1822 il custode viene a prendermi erano le 10 antimeridiane mi conduce nella sala della commissione e si ritira stavano seduti e si alzarono il presidente l'inquisitore e i due giudici assistenti il presidente con atto di nobile commiserazione mi disse che la sentenza era venuta e che il giudizio era stato terribile l'inquisitore mi lesse la sentenza condannato a morte poi lesse il riscritto imperiale la pena è commutata in 15 anni di carcere duro da scontarsi nella fortezza di Spielberg risposi sia fatta la volontà di Dio e mia intenzione era veramente di ricevere da cristiano questo orrendo colpo e non mostrare né nutrire il risentimento contro chi che sia il presidente lo dò la mia tranquillità e mi consigliò di serbarla sempre dicendomi che da questa tranquillità poteva dipendere l'essere forse fra due o tre anni creduto meritevole di maggiore grazia anche gli altri giudici mi volsero parole di gentilezza e di speranza ma uno di loro che nel processo mi era ogni ora sembrato molto ostile mi disse alcunché di cortese che pur parea mi pungente e quella cortesia giudicai che fosse smentita dagli sguardi nei quali avrei giurato essere un riso di gioia e d'insulto or non giurerai più che fosse così posso benissimo essermi ingannato ma il sangue allora mi si rimescolò e stentai a non prorompere in furore dissimulai e mentre ancora mi lodavano della mia cristiana pazienza io ce l'avea in segreto perduta dimani disse l'inquisitore ci rincresce di doverle annunciare la sentenza in pubblico ma è formalità impreteribile sia pure dissi a quest'istante le concediamo soggiunse la compagnia del suo amico e chiamato il custode mi consegnarono di nuovo a lui dicendogli che fossi messo con maroncelli capo 51 qual dolce istante fu per l'amico e per me il rivederci dopo un anno e tre mesi di separazione e tanti dolori mi strappai non di meno tosto dalle sue braccia per prendere la penna e scrivere a mio padre bravavo ardentemente che l'annuncio della mia triste sorte giungesse alla famiglia da me piuttosto che da altri affinché lo strazio di quegli amati cuori venisse temperato dal mio linguaggio di pace e religione dopo ciò maroncelli mi parlò del suo processo e io del mio ci confidammo parecchie carcerarie per i pezzie andammo alla finestra salutammo tre amici che erano alle finestre loro due erano Canova e Rezia che trovavasi insieme il primo condannato a sei anni di carcere duro e il secondo a tre il terzo era il dottor Cesare Armari che nei mesi precedenti era stato mio vicino nei piombi il favellare con gli uni e con gli altri fu piacevole distrazione per tutto il dia e la sera ma andati a letto spento il lume e fatto silenzio non mi fu possibile dormire la testa mi ardeva e il cuore sanguinava pensando a casa mia reggerebbero i miei vecchi genitori a tanta sventura tutti erano amati quanto io e valevano più di me ma un padre e una madre trovavano essi mai nei figli che loro restavano un compenso per quelli che perdono avessi solo pensato a congiunti e qualche altra diletta persona la loro ricordanza mi affliggeva e mi inteneriva ma pensai anche al creduto riso di gioia e di insulto di quel giudice al processo al perché delle condanne alle passioni politiche alla sorte di tanti miei amici e non seppi più giudicare con indulgenza alcuno dei miei avversari il Dio mi metteva in una grande prova mio debito sarebbe stato di sostenerla con virtù non potei non vogli la volutà dell'odio mi piacque più del perdono passai una notte d'inferno il mattino non pregai l'universo mi pareva opera di una potenza nemica del bene altre volte era già stato così caluniatore di Dio ma non avrei creduto di ridivenirlo e ridivenirlo in poche ore Giuliano nei suoi massimi furori non poteva essere più empio di me io mi sentivo infelice di non poter pregare ma o verigna superbia non rinvienzi altro Dio che se medesimo avrei voluto raccomandare a un supremo soccorritore i miei desolati parenti e più in lui non credevo Capo 52 Alle nove antimeridiane Maroncelli ed io fummo fatti entrare in gondola e ci condussero in città a Prodammo al palazzo del Doge e salimo alle carceri ci misero nella stanza dove pochi giorni prima era il signor Caporali ignoro dove questi fosse stato tradotto nove o dieci sbirri sedevano a farci guardia e noi passeggiando aspettavamo l'istante di esser tratti in piazza l'aspettazione fu lunga comparve soltanto a mezzodì l'inquisitore e annunciarci che bisognava andare il medico si presentò suggerendoci di bere un bicchierino d'acqua di menta accettammo e fummo grati non tanto di questa quanto della profonda compassione che il buon vecchio ci dimostrava era il dottor Dosmo si avanzò quindi il caposbirro e ci pose le manette seguimmo lui accompagnati dagli altri sbirri scendemmo la magnifica scala dei giganti ci ricordammo del Doge Marinfaliero ivi decapitato entrammo nel Gran Portone che dal cortile del palazzo mette sulla piazzetta e qui giunti voltammo verso la laguna a mezzo della piazzetta era il palco dove dovemmo salire dalla scala dei giganti fino a quel palco stavano due file di soldati tedeschi passammo in mezzo ad esse montati là sopra guardammo intorno e vedemmo in quell'immenso popolo il terrore per varie parti in lontananza schieravansi altri armati ci fu detto esservi i cannoni con le micce accese dappertutto ed era quella piazzetta dove nel settembre 1820 un mese prima del mio arresto un mendico avea mi detto questo è luogo di disgrazia sovvenemmi di quel mendico e pensai chissà che in tante migliaia di spettatori non si aveva anche egli e forse mi ravvisi il capitano tedesco gridò che ci volgessimo verso il palazzo e guardassimo in alto regnò profondo silenzio sino all'espressione condannati a morte allora si alzò un generale mormorio di compassione successe nuovo silenzio per udire il resto della lettura nuovo mormorio si alzò all'espressione condannati a carcere duro maroncelli per vent'anni e pellico per quindici il capitano ci fece cenno di scendere gettammo un'altra volta lo sguardo intorno e scendemmo capo 53 quelli che erano stati condannati avanti a noi erano già partiti per l'Ubiana e per lo Spielberg accompagnati da un commissario di polizia ora aspettavasi il ritorno del medesimo commissario perché conducesse noi al destino nostro questo intervallo durò un mese la mia vita era l'ora di molto favellare e di udir favellare per distrarmi inoltre maroncelli mi leggeva le sue composizioni letterarie ed io gli leggevo le mie una sera lessi della finestra Lester Dengaddi a Canova Ressia ed Armari e la sera seguente Ligini ad Asti ma la notte io fremmevo e piangevo e dormivo poco o nulla bramavo e paventavo a un tempo di sapere come la notizia del mio infortunio fosse stata ricevuta dai miei parenti finalmente venne una lettera di mio padre qual fu il mio dolore vedendo che l'ultima da me diretta non gli era stata spedita subito come avevo tanto pregato l'inquisitore l'infelice padre l'usingatosi sempre che sarei uscito senza condanna presa un giorno la gazzetta di Milano vi trovò la mia sentenza egli stesso mi narrava questo crudele fatto e mi lasciava immaginare quanto l'anima sua ne rimanesse straziata oh come insieme all'immensa pietà che sentì di lui della madre di tutta la famiglia arsi di stegno perché la lettera mia non fosse stata sollecitamente spedita non vi sarà stata malizia in questo ritardo ma io la supposi infernale credetti di sconvolgervi un raffinamento di barbarie un desiderio che il flagello avesse tutta la gravezza possibile anche per gli innocenti miei congiunti avrei voluto poter versare un mare di sangue per punire questa sognata in umanità or che giudico pacatamente non la trovo verosimile quel ritardo non nacque senza dubbio da altro che da non curanza furibondo quale io era fremetti udendo che i miei compagni si proponeano di far la pasqua prima di partire e sentì che io non doveva farla stante la niuna mia volontà di perdonare avessi dato questo scandalo capo 54 il commissario giunse al fine di Germania e venne a dirci che fra due giorni partiremmo ho il piacere soggiunse di poter dar loro una consolazione tornando dallo Spielberg vidi a Vienna sua maestà l'imperatore il quale mi disse che i giorni di piena di lorsignori vuol valutarli non di 24 ore ma di 12 con questa espressione intende significare che la pena è dimezzata questo dimezzamento non ci venne poi mai annunziato ufficialmente ma non vi era alcuna probabilità che il commissario mentisse tanto più che noi ci diede già quella nuova in segreto ma conscia la commissione io non seppi neppure allergarmene nella mia mente erano poco meno orribili sette anni e mezzo di ferri che 15 anni mi pareva impossibile di vivere sì lungamente la mia salute era di nuovo assai misera pativa dolore di petto gravi con tosse crede alesi i polmoni mangiavo poco e quel poco non lo digerivo la partenza fu nella notte tra il 25 e il 26 marzo ci fu permesso di abbracciare il dottor Cesare Armani nostro amico uno sbirro ci incatenò trasversalmente la mano destra e il piede sinistro finché ci fosse impossibile fuggire scendemmo in gondola e le guardie remigrarono verso Fusina i vi giunti trovammo allestiti due legni montarono Rezia e Canova nell'uno Maroncelli ed io nell'altro in uno dei legni era coi due prigioni il commissario nell'altro un sottocommissario con gli altri due compivano il convoglio sei o sette guardie di polizia armate di schioppo e sciavola distribuite parte dentro i legni parte sulla cassetta del vetturino essere costretto da sventura ad abbandonare la patria è sempre doloroso ma abbandonarla incatenato condotto in climi orrendi destinato a languire per anni fra sgherri è cosa si straziante che non vi attermini per accennarla prima di varcare le Alpi via piumi si faceva gara d'ora in ora la mia nazione stante la pietà che dappertutto ci dimostravano quelli che incontravamo in ogni città in ogni villaggio per ogni sperso casolare la notizia della nostra condanna essendo già pubblica da qualche settimana eravamo aspettati in parecchi luoghi i commissari e le guardie stentavano a dissipare la folla che ne circondava era ammirabile il benevolo sentimento che veniva palesato a nostro riguardo in Udine ci accadde una commovente sorpresa giunti alla locanda il commissario fece chiudere la porta del cortile e respingere il popolo ci assegnò una stanza e disse ai camerieri che ci portassero da cena e l'occorrente per dormire ecco un istante appresso entrare tre uomini con materassi sulle spalle qual è la nostra meraviglia accorgendoci che solo uno di loro è al servizio della locanda e che gli altri sono due nostri conoscenti fingemmo di aiutarli a por giù i materassi e toccammo loro furtivamente la mano i commissari non si avvidero di quella pietosa scena ma dubitai che una delle guardie penetrasse il mistero nell'atto che il buon Dario mi stringeva la mano quella guardia era un vereto mirò in volto Dario e me in pallidì sembrò tentennare se dovesse alzare la voce ma attacque e pose gli occhi altrove dissimulando se non indovinò che quelli erano amici nostri pensò almeno che fossero camerieri di nostra conoscenza capo 55 il mattino partivamo di Udine e albeggiava appena quell'affettuoso Dario era già nella strada tutto mantellato ci salutò ancora e ci seguì lungo tempo oi Dio benedica tutte le anime generose che non si adontano d'amare gli sventurati a tanto più le apprezzo da che negli anni della mia calamità ne conobbi pur di Coudard che mi rinnegarono e credettero vantaggiarsi ripetendo improperii contro di me ma queste ultime furono poche e il numero delle prime non fu scarso mi ingannava stimando che quella compassione che trovavamo in Italia dovesse cessare laddove fossimo in terra straniera e il buono è sempre compatriota degli infelici quando fummo in paesi illirici e tedeschi avveniva lo stesso che nei nostri questo gemito era universale arme erren poveri signori talvolta entrando in qualche paese le nostre carrozze erano obbligate a fermarsi avanti di decidere dove si andasse ad alloggiare allora la popolazione si serrava intorno a noi e udivano parole di compianto che veramente prorompevano dal cuore la consolazione che io indi traeva diminuiva persino i miei sdegni contro coloro che nomava miei nemici chissà pensavo io se vedessi da vicino i loro volti e se essi vedessero me e se potessi leggere nelle anime loro ed essi nella mia chissà che io non fossi costretto a confessare non esservi alcuna scelleratezza in loro ed essi non esservene alcuna in me chissà che non fossimo costretti a compatirci a vicenda e ad amarci purtroppo sovente gli uomini si abborrano perché reciprocamente non si conoscono e se scambiassero insieme qualche parola uno darebbe fiducialmente il braccio all'altro ci fermammo un giorno a Lubiana dove Canova e Rezia furono divisi da noi e condotti nel castello è facile immaginarsi quanto questa separazione fosse dolorosa per tutti i quattro la sera del nostro arrivo a Lubiana e il giorno seguente venne a farci cortese compagnia un signore che ci dissero se io bene intesi essere un segretario municipale era molto umano e parlava affettuosamente e dignitosamente di religione dubitai che fosse un prete i preti in Germania sogliono vestire affatto come secolari era di quelle facce sincere che ispirano stima mi increbbe di non poter fare più lunga conoscenza con lui e mi incresce di aver avuto la storditezza di dimenticare il suo nome quanto dolce mi sarebbe di sapere il nome di ciascuno di voi o venerandi padri e madri di famiglia che in diversi luoghi vi accostaste a noi per dimandarci se avevamo genitori e intendendo che si impallidivate esclamando oh restituiscavi presto il Dio a quei miseri vecchi capo 56 arrivammo al luogo della nostra destinazione il 10 di aprile la città di Brun è capitale della Moravia e Ivi risiede il governatore delle due province di Moravia e Slesia è situata in una valle ridente e ha un certo aspetto di ricchezza molte manifatture di panni prosperavano Ivi allora le quali poscia decaddero la popolazione era di circa 30.000 anime accosto alle sue mura a ponente si alza un monticello e sovra esso siede l'infausta rocca di Spielberg altre volte reggia dei signori di Moravia oggi il più severo ergastolo della monarchia austriaca era cittadella assai forte ma i francesi la bombardarono e preso nei tempi della famosa battaglia di Austerlitz non fu più ristaurata da poter servire da fortezza ma si rifece una parte della cinta che era diroccata circa 300 condannati per lo più ladri ed assassini sono Ivi custoditi quali a carcere duro quali a durissimo il carcere duro significa essere obbligati al lavoro portare la catena ai piedi dormire su nudi tavolacci e mangiare il più povero cibo immaginabile il durissimo significa essere incatenati più orribilmente con una cerchia di ferro intorno ai fianchi e la catena infitta nel muro in guisa che appena si possa camminare rasente il tavolaccio che serve di letto il cibo è lo stesso quantunque la legge dica pane e acqua noi prigionieri di stato eravamo condannati al carcere duro salendo per l'erta di quel monticello volgevamo gli occhi indietro per dire addio al mondo incerti se il baratro che vivi ci ingoiava si sarebbe più schiuso per noi io era appaccato esteriormente ma dentro di me ruggiva indarno volea ricorrere alla filosofia per acquetarmi la filosofia non aveva ragioni sufficienti per me partito di venezia in cattiva salute il viaggio mi avea stancato miseramente la testa e tutto il corpo mi dolevano ardea dalla febbre il male fisico contribuiva a tenermi iracondo e probabilmente l'ira aggravava il male fisico fummo consegnati al sopraintendente dello Spielberg e i nostri nomi vennero da questo iscritti fra i nomi dei ladroni il commissario imperiale ripartendo ci abbracciò ed era intenerito raccomando allorsignori particolarmente la docilità disse egli la minima infrazione e la disciplina può venire punita dal signor sopraintendente con pene severe fatta la consegna Maroncelli ed io fummo condotti in un corridoio sotterraneo dove ci si apersero due tenebrose stanze non contigue ciascuno di noi fu chiuso nel suo copile capo 57 acervissima cosa dopo aver già detto addio a tanti oggetti quando non si è più che in due amici ugualmente sventurati acervissima cosa il dividersi Maroncelli nel lasciarmi vedea mi infermo e compiangeva in me un uomo che ei probabilmente non vedrebbe mai più io compiangea in lui un fiore splendido di salute rapito forse per sempre alla luce vitale del sole e quel fiore infatti oh come appassì rivide un giorno la luce ma oh in quale stato allorché mi trovai solo in quell'orrido antro e intesi serrarsi i catenacci e distinzi al barlume che discendeva ad alto finestruolo il nudo pancone datomi per letto e un'enorme catena al muro mi assisi fremente su quel letto e presa quella catena e misurai la lunghezza pensando fosse destinata per me mezz'ora da poi ecco stridere le chiavi la porta si apre il capo carceriere mi portava una brocca d'acqua questo è per bere disse con voce burbera e domattina porterò la pagnotta grazie buon uomo non sono buono riprese peggio per voi gli dissi sdegnato e questa catena soggiunsi è forse per me si signore se mai ella non fosse quieta se infuriasse se dicesse insolenze ma se sarà ragionevole non le porremo altro che una catena ai piedi il fabbro la sta apparecchiando ei passeggiava lentamente su e giù agitando quel villano mazzo di grosse chiavi ed io con occhio erato mirava la sua gigantesca magra vecchia persona e adonta dei lineamenti non volgari del suo volto tutto in lui mi sembrava l'espressione odiosissima di un brutale rigore oh come gli uomini sono ingiusti giudicando dall'apparenza e secondo le loro superbe prevenzioni colui che io mi immaginavo agitasse allegramente le chiavi per farmi sentire la sua trista potestà colui che io riputava impudente per lunga consuetudine di incrudelire volgeva pensieri di compassione e certamente non parlava a quel modo con accento burbero se non per nascondere questo sentimento avrebbe voluto nasconderlo a fine di non parer debole e per timore che io ne fossi indegno ma nello stesso tempo supponendo che forse io era più infelice che in il cuo avrebbe desiderato di palesarmelo noiato della sua presenza e più della sua aria da padrone stimai opportuno di umiliarlo dicendogli imperiosamente quasi asservitore datemi da bere e mi guardò e pare a significare arrogante qui bisogna di pezzarsi dal comandare ma tacque chinò la sua lunga schiena prese in terra la brocca e me la porse mi avvidi pigliandola che ei tremava e attribuendo quel tremito alla sua vecchiezza un misto di pietà e reverenza temperò il mio orgoglio quanti anni avete gli dissi con voce amorevole settantaquattro signore ho già veduto molte sventure e mie ed altrui questo cenno sulle sventure sue e altrui fu accompagnato da un nuovo tremito nell'atto che ei ripigliava la brocca e dubitai fosse effetto non della sola età ma di un certo nobile perturbamento si fatto dubbio cancellò dall'anima mia l'odio che il suo primo aspetto mi avea impresso come vi chiamate gli dissi la fortuna signore si burlò di me dandomi il nome di un grande uomo mi chiamo schilder indi in poche parole mi narrò qual fosse il suo paese quale l'origine quali le guerre vedute e le ferite riportate capo 58 quando di un uomo che giudicamo da prima cattivo concepiamo migliore opinione allora badando al suo viso alla sua voce ai suoi modi ci pare di scoprire evidenti segni di onestà è questa scoperta una realtà? io la sospetto illusione questo stesso viso quella stessa voce quegli stessi modi ci pareano poc'anzi evidenti segni di bricconeria si è mutato il nostro giudizio sulle qualità morali e tosto mutano le conclusioni della nostra scienza fisionomica quante facce veneriamo perché sappiamo che appartennero a valentuomini le quali non ci sembrerebbero appunto atte ad aspirare venerazione se fossero appartenute ad altri mortali e così viceversa ho riso una volta di una signora che vedendo un'immagine di Cattelina e confondendolo con Collatino sognava di scorgervi il supplime dolore di Collatino per la morte di Lucrezia eppure se fatte illusioni sono comuni non già che non vi siano facce di buoni le quali portano benissimo impresso il carattere di bontà e non vi siano facce di ribaldi che portano benissimo impresso quello di ribalderia ma sostengo che molte avvene di dubbia impressione insomma entratomi alquanto in grazia al vecchio Schiller lo guardai più attentamente di prima e non mi dispiacque più a dir vero nel suo favellare in mezzo a certa rozzezza erano bianche tratti di anima gentile caporale qual sono diceva egli mi è toccato per lungo di riposo il tristo ufficio di carceriere e Dio sa se non mi costa assai più rincrescimento che il rischiare la vita in battaglia mi pentì di averli dimandato con alteriggia da bere mio caro Schiller gli dissi stringendogli la mano voi lo negate indarno io conosco che siete buono e poiché sono caduto in questa avversità ringrazio il cielo di avermi dato voi per guardiano egli ascoltò le mie parole scosse il capo indirispose fregandosi la fronte come uomo che ha un pensiero molesto io sono cattivo signore mi fecero prestare un giuramento a cui non mancherò mai sono obbligato a trattare tutti i prigionieri senza riguardo alla loro condizione senza indulgenza senza concessione di abusi e tanto più i prigionieri di stato l'imperatore sa quello che fa ed io devo obbedirgli voi siete un bravo uomo e io rispetterò ciò che reputate debito di coscienza chi opera per sincera coscienza può errare ma è puro innanzi a Dio povero signore abbia pazienza e mi compatisca sarò ferro nei miei doveri ma il cuore il cuore è pieno di rammarico di non poter sollevare gli infelici questa è la cosa che volevo dirle ambi eravamo commossi mi supplicò di essere quieto di non andare in furore come fanno spesso i condannati di non costringerlo a trattarmi duramente prese poscia un accento rubido quasi per celarmi una parte della sua pietà e disse or bisogna che io me ne vada poi tornò indietro chiedendomi da quanto tempo io tossissi così miseramente come facevo e scagliò una grossa maledizione contro il medico perché non veniva in quella sera stessa a visitarmi e là una febbre da cavallo soggiunse io me ne intendo avrebbe duopo almeno di un pagliariccio ma finché il medico non l'ha ordinato non possiamo darglielo uscì richiuse la porta e io mi sdraiai sulle dure tavole febbricitante sì e con forte dolore di petto ma meno fremente meno nemico degli uomini meno lontano da dio capo a sera venne il sopraintendente accompagnato da Schiller da un altro caporale e da due soldati per fare una perquisizione tre perquisizioni quotidiane erano prescritte una mattina una sera ed una mezzanotte visitavano ogni angolo della prigione ogni minuzia indi gli inferiori uscivano e il sopraintendente si fermava a conversare alquanto con me la prima volta che vidi quel trappello uno strano pensiero mi venne ignaro ancora di quei molesti usi e delirante dalla febbre immaginai che mi muovessero contro per trucidarmi e afferrai la lunga catena che mi stava vicino per rompere la faccia al primo che mi si appressasse che fa ella? disse il sopraintendente non veniamo per fare alcun male questa è una visita di formalità a tutte le carceri a fine di assicurarci che nulla sia vidi irregolare io esitava ma quando vidi Schiller avanzarsi verso di me e tendermi amicamente la mano il suo aspetto paterno mi ispirò fiducia lasciai andare la catena e presi quella mano fra le mie oh come arde disse egli al sovraintendente si potesse almeno dargli un pagliericcio pronunciò queste parole con espressione di sì vero affettuoso cordoglio che ne fu intenerito il sovraintendente mi tastò il polso mi compianse era uomo di gentili maniere ma non osava prendersi alcun arbitrio Schiller allungava le labbra e avrei scommesso che pensava tra sé se io fossi sovraintendente non porterei la paura fino a quel grado né il prendersi un arbitrio così giustificato dal bisogno e così innocuo alla monarchia potrebbe mai reputarsi gran fallo quando fui solo il mio cuore da qualche tempo incapace di profondo sentimento religioso si intenerì e pregò era una preghiera di benedizioni sul capo di Schiller e soggiungevo a Dio fa che io discerna pure negli altri qualche dote che loro mi affezioni io accetto tutti i tormenti del carcere ma Dè che io ami Dè liberami dal tormento di odare i miei simili a mezzanotte udì molti passi nel corridoio le chiavi stridono la porta si apre e il caporale con due guardie per la visita dov'è il mio vecchio Schiller dissi io col desiderio e si era firmato nel corridoio sono qua rispose e venuto presso al tavolaccio tornò a tastarmi il polso chinandosi inquieto a guardarmi ed or che me ne ricordo dimani è giovedì bruttava egli purtroppo giovedì e che volete dire con ciò che il medico non suol venire se non la mattina del lunedì del mercoledì e del venerdì e che dimani purtroppo non verrà non vi inquietate perciò che io non mi inquieti che io non mi inquieti in tutta la città non si parla d'altro che dell'arrivo di lor signori il medico non può ignorarlo perché diavolo non ha fatto lo sforzo straordinario di venire una volta di più chissà che non venga domani sebbene sia giovedì il vecchio non disse altro ma mi serrò la mano con forza bestiale quasi da storpiarmi benché mi facesse male ne ebbi piacere simile al piacere che prova un innamorato se avviene che la sua diletta ballando gli peste un piede capo 60 la mattina del giovedì dopo una pessima notte indebolito rotte le ossa dalle tavole fui preso da abbondante sudore venne la visita il sovraintendente non vi era siccome quell'ora gli era scomoda disse a Schiller sentite come sono inzuppato di sudore non si può gridò con voce brutale ma fecemi secretamente cenno con gli occhi e con la mano usciti il caporale le guardie tornò a farmi un cenno nell'atto che chiudeva la porta poco appresso ricomparve portandomi una delle sue camicie lunga due volte la mia persona per lei disse egli è un po' lunga ma or qui non ne ho altre le ringrazio amico ma siccome ho portato allo Spielberg un moule pieno di biancheria spero che non mi si ricuserà l'uso delle mie camicie abbiate la gentilezza di andare dal sovraintendente a chiedere una di quelle signore non è permesso di lasciarle nulla della sua biancheria ogni sabato le si darà una camicia della casa come agli altri condannati onesto vecchio disse voi vedete in che stato sono è poco verosimile che io esca vivo di qui non potrò mai ricompensarvi di nulla vergogna signore esclamò vergogna parlare di ricompensa a chi non può rendersi al vigi a chi appena può imprestare furtivamente a un infermo di chi asciugarsi il corpo grondante di sudore circa due ore più tardi mi portò un tozzo di pane nero questa disse è la porzione per due giorni poi si mise a camminare fremendo che avete gli dissi siete in collera con me oppure accettato la camicia che mi favoriste sono in collera col medico il quale benché oggi sia giovedì potrebbe pur degnarsi di venire pazienza disse io alle ore undici mi fu portato il pranzo da un condannato accompagnato da Schiller componevano il pranzo due pentolini di ferro l'uno contenente una pessima minestra l'altro legumi conditi con salsa provai di ingoiare qualche cucchiaio di minestra ma non mi fu possibile Schiller mi ripeteva si faccia animo procuri di avvezzarsi a questi cibi il venerdì mattina venne finalmente il dottor Bayer mi trovò febbre mi ordinò un pagliericcio e insisté perché io fossi tratto di quel sottorraneo e trasportato al piano superiore non si poteva non vi era luogo ma fatto né relazione al conte Mitrovski governatore delle due province questi rispose che stante la gravezza del mio male l'intento del medico fosse eseguito quella visita mi incantava o quanto sarei stato lieto se avessi potuto dividerla con maroncelli capo 61 ci si facevano intanto i vestiti da prigioniero di lì a cinque giorni mi portarono il mio consisteva in un paio di pantaloni di rubido panno a destra color grigio e a sinistra color cappuccino un giusta cuore e un giubbuttino di simili due colori le calze erano di grossa lana la camicia di tela di stoppa piena di pungenti stecchi gli stivaletti erano di cuoio non tinto allacciati il cappello bianco compivano questa divisa ai ferri ai piedi cioè una catena da una gamba all'altra i ceppi della quale furono firmati con chiodi che si ribadirono sopra un incudine il povero uomo strabalzò e si confuse poi disse spero che non sarò profeta e desidero che ella sia liberata da tutt'altro angelo piuttosto che vivere così non vi pare gli risposi che sia benvenuto anche quello della morte fece cenno di sì col capo e se ne andò compassionandomi io avrei veramente volentieri cessato di vivere ma non era tentato di suicidio un istante dopodiché il fabbro era uscito intesi suonare il martello sull'incudine nel sotterraneo Schiller era ancora nella mia stanza udite quei colpi gli dissi certo si mettono i ferri al povero maroncelli e ciò dicendo mi si serrò talmente il cuore che vacillai e se il buon vecchio non mi avesse sostenuto io sarei caduto il comando del sovraintendente e la vigilanza del guardia avevano tenuto fino allora tutte le vicine carcere in silenzio tre o quattro volte avevo inteso intonarsi qualche cantilena italiana ma tosto era soppressa dalle grida delle sentinelle un giorno verso sera le sentinelle per felice caso furono meno attente e intesi spiegarsi e proseguirsi con voce alquanto sommessa ma chiara una cantilena nella prigione contigua alla mia quale gioia quale commozione mi invase m'alzai dal pagliericcio tesi l'orecchio e quando tacque proruppi in irresistibile pianto chi sei sventurato gridai chi sei dimmi il tuo nome io sono silvio pellico oh silvio gridò il vicino io non ti conosco di persona ma tamo da gran tempo accostati alla finestra e parliamoci a dispetto degli scherri mi aggrappai alla finestra egli mi disse il suo nome e scambiamo qualche parola di tenerezza era il conte Antonio Roboni nativo di Fratta presso Rovigo giovine di 29 anni fummo tosti interrotti da minacciose urla delle sentinelle quella del corridoio picchiava forte col calcio dello schioppo ora all'uscio di Orboni ora al mio capo 62 speravamo che parlando più piano ci potremmo sentire e che talvolta capiterebbero sentinelle pietose le quali fingerebbero di non accorgersi del nostro cicaleggio a forza di inesprimenti imparammo un modo di emettere la voce tanto dimesso che bastava alle nostre orecchie e o sfuggiva alle altrui o si prestava ad essere dissimulato bensì avveniva a quando a quando che avessimo ascoltatori di udito più fino o che ci dimenticassimo di essere discreti nella voce a poco a poco perfezionammo tutte le cautele ci legammo di tenera amicizia mi narrò la sua vita io gli narrai la mia le angosce e consolazioni dell'uno divenivano angosce e consolazioni dell'altro di quanto conforto c'eravamo a vicenda ogni colloquio lasciava il bisogno di continuazione di schiarimenti era uno stimolo vitale perenne all'intelligenza alla memoria alla fantasia e al cuore a principio ricordandomi di Giuliano io diffidava della costanza di questo nuovo amico pensavo finora non ci è accaduto di trovarci discordi da un giorno all'altro posso dispiacirli in alcuna cosa ed ecco che mi manderà la malora questo sospetto ben presto cessò e combatteva i miei dubbi con giustissime riflessioni e con molto amore sentivo che egli aveva ragione e gliela dava ma i dubbi tornavano la mente vede un istante il vero ma siccome questo non le piace lo discrede l'istante appresso oruboni era valentissimo avvolgere la mia attenzione sui motivi che l'uomo ha di essere indulgente verso i nemici parecchi gli avea annosciuto e egli ne gemeva ma perdonava tutti e se poteva narrarmi qualche lodevole tratto di alcuno di loro lo faceva volentieri l'irritazione che dominava e mi rendea il religioso dalla mia condanna in poi durò ancora alcune settimane indi cessò affatto la virtù di ero buoni mi avea invaguito industriandomi di raggiungerla mi misi almeno sulle sue tracce capo 63 per dir vero se la pena era severissima e adatta a irritare avevamo nello stesso tempo la rara sorte che buoni fossero tutti coloro che vedevamo essi non potevano alleggerire la nostra condizione se non con indenevole e rispettose maniere ma queste erano usate da tutti se vi era qualche rovidezza nel vecchio Schiller quanto non era compensata dalla nobiltà del suo cuore persino il miserabile Kunda voleva che ci accorgessimo che ci compativa e ci spazzava la stanza due volte alla settimana il medico vedendo che nessuno di noi poteva mangiare quella qualità di cibi che ci avevano dato nei primi giorni ci mise tutti a quello che chiamano quarto di porzione cioè al vitto dell'ospedale erano tre minestrine leggerissime al giorno un pezzettino di arrosto di agnello da ingoiarsi in un boccone e forse tre once di pane bianco provai di tornare al cibo dei sani ma non vi era guadagno a fare giacché disgustava tanto che io non poteva mangiarlo convenne assolutamente che io mi attenessi al quarto per più di un anno conobbi quanto sia il tormento della fame e questo tormento lo patirono con vehemenza anche maggiore alcuni dei miei compagni per la città si dice che ai loro signori si dà poco da mangiare mi disse una volta il barbiere un giovanotto praticante del nostro chirurgo è verissimo risposi schiettamente il seguente sabato volle darmi di soppiatto una grossa pagnotta bianca Schiller finse di non vedere l'offerta io se avessi ascoltato lo stomaco l'avrei accettata per la stessa ragione io ricusava le offerte di Schiller più volte mi portò un pezzo di carne lessa pregandomi che la mangiassi e protestando che non gli costava niente che gli era avanzata che l'avrebbe davvero data ad altri se io non la prendeva mi sarei gettato a divorarla ma se io la prendeva non avrebbe egli avuto tutti i giorni il desiderio di darmi qualcosa fui pentito due volte solo di averla presa appunto perché da allora in poi non cessava più di offrirmene parte 15 capo 64 nei primi giorni fu stabilito che ciascuno di noi avesse due volte la settimana un'ora di passeggio in seguito questo sollievo fu dato un giorno sì e un giorno no e più tardi ogni giorno tranne le feste ciascuno era condotto a passeggio separatamente buon passeggio mi sussurravano tutti dallo sportello dei loro usci ma non mi era permesso di fermarmi a salutare nessuno si discendeva una scala si traversava un ampio cortile si andava sopra un terrapieno situato a mezzodì dove vedeasi la città di Brune e molto tratto di circostante paese nel cortile suddetto erano sempre molti dei condannati comuni che andavano o venivano dai lavori o passeggiavano in frotta conversando fra essi erano parecchi ladri italiani non è un birbone come noi eppure la sua prigionia è più dura della nostra infatti essi avevano molta più libertà di me io udiva queste altre espressioni e li risalutava con cordialità uno di loro mi disse una volta il suo saluto signore mi fa bene e proruppe in lacrime gli porsi la mano ma egli non me la pote stringere le mie guardie non per malignità ma per le istruzioni che aveano loro espinsero le parole che i qui condannati mi dirigevano fingeano per lo più di dirsele tra di loro passavano anche per quel cortile uomini di varie condizioni estranei al castello i quali venivano a visitare il sovraintendente o il cappellano il sergente o alcuno dei caporali capo 65 a un'estremità di quel terrapieno erano le stanze del sovraintendente all'altra estremità alloggiava un caporale con moglie e un figliolino la moglie del sovraintendente era ammalata da lungo tempo ed eperiva lentamente si faceva talvolta portare sopra un canapè all'aria aperta è indicibile quanto si commuovesse esprimendomi la compassione che provava per tutti noi e il suo sguardo era dolcissimo e timido e quantunque timido si attaccava di quando in quando con intensa interrogante fiducia allo sguardo di chi le parlava io le dissi una volta ridendo sapete signora che somigliate alquanto a una persona che mi fu cara arrossì e rispose con seria e amabile semplicità non vi dimenticate dunque di me quando sarò morta pregate per la povera anima mia e per i figliuoli che lascio sulla terra da quel giorno in poi non potei più uscire dal letto non la vidi più languì ancora alcuni mesi e poi morì mille volte mi sono ricordato di quel suo prego e di quelle lagrime quando ella non era più io abbracciavo talvolta quei fanciulli e mi intenerivo e ripetevo quel prego materno e pensavo alla madre mia agli ardenti voti che il suo amantissimo cuore alzava senza dubbio per me e con singhiozzi esclamavo ho più felice quella madre che morendo abbandona figliuoli in adulti di quella che dopo averli allevati con infinite cure se li vede rapire due buone vecchie solevano essere con quei fanciulli quanto siamo infelici dicevano con l'espressione del più vero dolore di non potervi giovare in nulla ma siate certo che pregheremo per voi e che se un giorno viene la vostra grazia sarà una festa per tutta la nostra famiglia la prima di esse che era quella che vedevo più sovente possedeva una dolce straordinaria eloquenza nel darmi consolazioni diceva cose che sapevo già e mi colpivano come cose nuove che la sventura non degrada l'uomo se non è da poco ma anzi lo sublima che se potessimo entrare nei giudizi di Dio vedremmo essere molte volte più da compiangersi i vincitori che i vinti che l'amicizia particolare mostrata dall'uomo Dio per gli sventurati è un gran fatto che dobbiamo gloriarci della croce dopo che fu portata da omeri divini capo 65 l'incomodo della catena ai piedi togliendomi di dormire contribuiva a ruminarmi la salute il medico disse che non giungevano ancora a tal grado le mie febbri che potesse ei appagarmi ed essere necessario che io mi abbezzassi ai ferri la risposta mi sdegnò ed epi rabbia di aver fatto quell'inutile domanda ecco ciò che guadagnai a seguire il vostro insistente consiglio disse a Schiller conviene che gli dicessi queste parole assai sgarbatamente quel ruvido buon uomo se ne offese a lei spiace gridò di essersi esposta a un rifiuto e a me spiace che ella sia amico superba poi continuò una lunga predica disse uscì e fece un fracasso infernale con le chiavi rimasi sbalordito eppure quella rozza schiettezza disse mi piace sgorga dal cuore come le sue offerte come i suoi consigli come il suo compianto all'ora di pranzo Schiller lasciò che il condannato Kunda portasse dentro i pantaloni e l'acqua e si fermò sulla porta lo chiamai non ho tempo rispose asciutto asciutto discesi dal tavolaccio veni a lui e gli dissi se volete che il mangiare mi faccia buon però non mi fate quel brutto ceffo e qual ceffo ho da fare dimandò rasserenandosi di uomo allegro d'amico risposi viva l'allegria esclamò e misesi a sgambettare con le sue magre lunghe pertiche si piacevolmente che scoppiai dalle risa io ridea e avea il cuore commosso capo 67 una sera Oroboli ed io stavamo alla finestra e ci dovevamo a vicenda di essere affamati Schiller venne con grandira allagnarsene da me e mi intimò di non parlare più mai dalla finestra voleva che io glielo promettessi no risposi non ve lo voglio promettere lui gridò a me sa dire non voglio a me che ricevo una maledetta strapazzata per causa di lei mi incresce caro Schiller della strapazzata che avete ricevuta ma mi incresce davvero ma non voglio promettere ciò che sento che non manterrei e perché non lo manterrebbe perché non potrei perché la solitudine continua e tormento si crudele per me che non resisterò mai al bisogno di mettere qualche voce dei polmoni di invitare il mio vicino a rispondermi trasse di tasca il fazzoletto si asciugò gli occhi poi li tenne alzati giungendo le mani in atto di preghiera io giunsi le mie e pregai al pari di lui in silenzio andando via mi disse sottovoce quando ella conversa col conte Roboni parli sommesso più che può farà così due beni uno di risparmiarmi le grida del signor sovrintendente l'altro di non far forse capire qualche discorso devo dirlo qualche discorso che riferito e ritasse sempre più chi può pevunire capo 68 io tornavo un mattino dal passeggio era il 7 agosto la porta del carcere di Roboni stava aperta e dentro era vi Schiller il quale non mi aveva inteso venire Schiller fu sbalordito disse der tiffel der tiffel e alzò il dito per minacciarmi ma gli occhi gli si empirono di lagrime e gridò singhiozzando oh mio dio fate misericordia a questi poveri giovani e a me e a tutti gli infelici voi che foste tanto infelice sulla terra le due guarde piangevano pure la sentinella del corridoio ivi a corsa piangeva anch'essa Roboni mi diceva Silvio Silvio questo è uno dei più cari giorni della mia vita io non so che gli dicessi era fuori di me dalla gioia e dalla tenerezza quando Schiller ci scongiurò di separarci fu forza obbedirgli Roboni proruppe impianto dirottissimo e non lo rividi mai più alcuni mesi dopo la sua stanza era vuota e Roboni giaceva in quel cimitero che io aveva dinanzi alla mia finestra da che ci eravamo veduti quell'istante pareva che ci amassimo anche più dolcemente egli era un bel giovane di nobile aspetto ma palido e di misera salute fra pochi giorni egli ammalò io non facevo altro che gemere e pregare per lui dopo alcune febbri riacquistò un poco di forze e poté tornare ai colloqui amicali in quei giorni si volle dare il bianco alle pareti delle nostre carceri e ci trasportarono frattanto nei sotterranei avessi almeno avuto la fortuna di essere vicino in quell'occasione al mio caro Maroncelli udì peraltro la voce di questo cantando ci salutammo a dispetto dei garriti delle guardie venne in quel tempo a vederci il protomedico di Brun mandato forse in conseguenza delle relazioni che il soprintendente faceva a Vienna sull'estrema debolezza a cui tanta scarsità di cibo ci aveva tutti ridotti non sapendo io il perché di questa visita mi immaginai che fosse per una nuova malattia di Oroboni il timore di perderlo mi dava un'inquietudine indicibile mi era stato detto che non aveva guai in uno di quei telebrosi covili un vecchio boemo si era ucciso spaccandosi la testa alle pareti io non potevo cacciare dalla fantasia la tentazione di imitarlo non so se il mio delirio non sarebbe giunto a quel segno ovvero uno sbocco di sangue dal petto non mi avesse fatto credere vicino alla mia morte ringraziai Dio di volermi essere uccidere in questo modo risparmiandomi un atto di disperazione che il mio intelletto condannava ma Dio invece volle conservarmi capo 69 gli confidai la tremenda melanconia che io avevo provato diviso da lui ed egli mi disse aver dovuto ugualmente combattere il pensiero del suicidio profittiamo diceva egli del poco tempo che di nuovo ci è dato per confortarci a vicenda con la religione parliamo di Dio eccitiamoci ad amarlo ci sovvenga che egli è la giustizia la sapienza la bontà la bellezza io ti dico davvero che la morte non è lontana da me ti sarò grato eternamente se contribuirai a rendermi in questi ultimi giorni tanto religioso quanto avrei dovuto essere tutta la vita e i nostri discorsi non volgevano più sovaltro che sulla filosofia cristiana ambi esultavamo di scorgere tanta consonanza tra il cristianesimo e la ragione ambi nel confronto delle diverse comunioni evangeliche vedevamo essere la sola cattolica quella che può veramente resistere alla critica e la dottrina della comunione cattolica consistere in dogmi purissimi e in purissima morale e non in meseri sovrappiù prodotti dall'umana ignoranza e se per accidente poco separabile ritornassimo nella società dicevo Roboni saremmo noi così pusillanimi da non confessare il Vangelo Roboni mio gli disse la tua domanda mi svela la tua risposta e questa è anche la mia la somma della viltà è di essere schiavo dei giudizi altrui quando assi la persuasione che sono falsi non credo che tua viltà né tu né io l'avremo mai capo 70 le conversazioni di cui parlo quali con Roboni quali con Schiller o altri occupavano tuttavia poca parte delle mie lunghe 24 ore della giornata e non rade erano le volte che nessuna conversazione riusciva possibile col primo che facevo io in tanta solitudine ecco tutta quanta la mia vita in quei giorni io mi alzavo sempre all'alba e salito in capo del tavolaccio mi aggrappavo alle sbarre della finestra e diceva le orazioni Roboni già era la sua finestra o non tardava di venirvi ci salutavamo e l'uno e l'altro continuava tacitamente i suoi pensieri a Dio quanto erano orribili i nostri covili altrettanto era bello lo spettacolo esterno per noi veniva la visita a mattutina delle guardie queste davano un'occhiata alla stanza per vedere se tutto era in ordine e osservavano la mia catena anello per anello a fine di assicurarsi che qualche accidente o malizia non l'avesse spezzata finito il giro delle nostre carceri tornava Schiller e accompagnava Kunda il quale aveva l'ufficio di pulire ciascuna stanza un breve intervallo e ci portavano la colazione dopo ciò mi ponevo a studiare Maroncelli aveva portato d'Italia molti libri e tutti i nostri compagni mi avevano pure portati chi più chi meno un altro tratto di tempo restavami quindi per lo studio fino alle undici che era l'ora del pranzo fino al tramonto non avevo più visite e tornavo a studiare allora Schiller e Kunda venivano per mutarmi l'acqua e un istante appresso veniva il sovraintendente con alcune guardie per l'isprezione vespertina a tutta la stanza e ai miei ferri qualche volta le sentinelle erano così piettose che ci dicevano un po' più piano signori altrimenti il castigo cadrà su di noi altre volte fingevano di non accorgersi che parlassimo poi vedendo spuntare il sergente ci pregavano di tacere finché questi fosse partito capo 71 una sera avevamo sentinelle benignissime e quindi Oroboni e io non ci davamo la pena di comprimere la voce ma Roncelli nel suo sotterraneo arrampicatosi alla finestra chiudì e distinse la voce mia non poté frenarsi mi salutò cantando questa grazia l'aveva io pure dimandata ma se il sovraintendente di Spielberg né il governatore di Brion non avevano l'arbitrio di concederla la nostra vicendevole brama era stata significata all'imperatore e nessuna risposta era nel fino all'ora venuta oltre quella volta che ci salutammo cantando nei sotterranei avevo inteso parecchie volte dal piano superiore le sue cantilene ora alzò molto più la voce non fu così presto interrotto e capì tutto non vi attermini per dire l'emozione che provai gli risposi e continuammo il dialogo circa un quarto d'ora finalmente si mutarono le sentinelle sul terrapieno e quelle che vennero non furono compiacenti io mi rappresentavo maroncelli giacente da si lungo tempo in cui il caccio era tanto peggiore del mio potei al fine piangere ma il pianto non mi sollevò il di seguente la febbre era cessata ed il petto stato meglio ma parea me di aver fuoco nel cervello dissi adoroboni il mio stato egli pure si sentiva più male del solito amico disse egli non è lontano il giorno che uno di noi due non potrà più venire alla finestra ogni volta che ci salutiamo può essere l'ultima teniamoci dunque pronti l'uno e l'altro sia a morire sia a sopravvivere all'amico la sua voce era intenerita io non potevo risponderli stemmo un istante in silenzio indi ei riprese te beato che sei il tedesco potrei almeno confessarti io ho domandato un prete che sappia l'italiano mi dissero che non vi è ma dio vede il mio desiderio e da che mi sono confessato a venezia in verità mi pare di non aver più nulla che mi aggravi la coscienza io invece a venezia mi confessai e dissi con animo pieno di lancore e feci peggio che se avessi ricusato i sacramenti ma se ora mi si concede un prete ti assicuro che mi confesserò di cuore e perdonando a tutti il cielo ti benedica esclamò tu mi dai una grande consolazione facciamo sì facciamo il possibile entrambi per essere eternamente uniti nella felicità come lo fummo in questi giorni di sventura il giorno appresso l'aspettai alla finestra e non venne seppi da Schiller che egli era ammalato gravemente otto o dieci giorni dopo stava meglio e tornò a salutarmi io dolorava ma mi sosteneva parecchi mesi passarono sì per lui che per me in queste alternative di meglio e di peggio parte 16 capo 72 potei reggere sino al giorno 11 di gennaio 1823 la mattina mi alzai con il mal di capo non forte ma con disposizione al deliquio mi tremavano le gambe e stentava a trarre il fiato anche Oroboni da due o tre giorni stava male e non si alzava qualche tempo dopo la sentinella del corridoio guardò per accidente dallo sportello e vedendomi giacente a terra col pentolino rovesciato accanto a me mi credette morto e chiamò Schiller venne anche il sovraintendente fu chiamato subito il medico e mi misero a letto rinvenne a stento fu fatta immediata relazione al governatore il quale spedì un corriere a Vienna si rispose che non mi ponessero nell'infermeria ma che mi servissero nel carcere con la stessa diligenza che se fossi nell'infermeria di più autorizzavasi il sovraintendente a fornirmi i brodi e minestre della sua cucina finché durava la gravizza del male quest'ultimo provvedimento mi fu a principio inutile nessun cibo nessuna bevanda mi passava peggiorai per tutta una settimana e deliravo giorno e notte Kral e Kubitsky mi furono dati per infermieri ambi mi servivano con amore ogni volta che ero alquanto in senno Kral mi ripeteva abbia fiducia in Dio Dio solo e buono pregate per me gli dicevo io non che mi risani ma che accetti le mie sventure e la mia morte in espiazione dei miei peccati mi confessai comunicai e presi l'olio santo fui contento di quel sacerdote che si chiamava Sturm le riflessioni che mi fece sulla giustizia di Dio sull'ingiustizia degli uomini sul dovere del perdono la vanità di tutte le cose del mondo non erano trivialità avevano l'impronta di un intelletto elevato e colto e di un sentimento caldo di vero amore di Dio e del prossimo capo 73 lo sforzo di attenzione che feci per ricevere i sacramenti sembrò esaurire la mia vitalità ma invece mi giovò gettandomi in un letargo di parecchie ore che mi riposò mi destai alquanto sollevato e vedendo Schiller e Krall vicini a me presi le loro mani e li ringraziai delle loro cure Schiller mi disse l'occhio mio è esercitato a vedere malati scommetterei che ella non muore non parvi di farmi un cattivo presagio disse io no rispose le miserie della vita sono grandi è vero ma chi le sopporta con umiltà d'anima con umiltà ci guadagna sempre vivendo poi aggiunse se la vive spero che avrà fra qualche giorno una gran consolazione e l'ha dimandato di vedere il signor Maroncelli tante volte ho dimandato sì e in vano non ardisco più sperarlo speri invece signore speri e ripete la domanda la ripetei infatti quel giorno il sovraintendente disse ai parimenti che io dovevo sperare e soggiunse di essere verisimile che non solo Maroncelli potesse vedermi ma che mi fosse dato per infermiere e inappresso per indivisibile compagno siccome quanti eravamo prigionieri di stato avevamo più o meno tutti la salute rovinata il governatore aveva chiesto a Vienna che potessimo essere messi tutti e due affinché uno servisse d'aiuto all'altro quando un mattino si aprì la porta e vedi entrare festosi il sovraintendente Schiller e il medico il primo corse da me e mi disse abbiamo il permesso di darle per compagno Maroncelli e di lasciarle scrivere una lettera ai parenti la gioia mi tolse il respiro e il povero sovraintendente che per impieto di buon cuore aveva mancato di prudenza mi credette perduto quando riacquistai i sensi e mi sovvenne dell'annuncio udito pregai che non mi si ritardasse un tanto bene il medico consentì e Maroncelli fu condotto nelle mie braccia capo 74 mi fu portato un foglio di carta e il calamaio affinché io scrivessi ai parenti siccome propriamente la permissione era sidata a un moribondo che intendea di volgere alla famiglia l'ultimo addio temevo che la mia lettera essendo ora ad altro tenore più non venisse spedita mi limitai a pregare con la più grande tenerezza genitori fratelli e sorelle che si rassegnassero alla mia sorte protestando loro di essere rassegnato quella lettera fu non di meno spedita come poi seppi all'orché dopo tanti anni riviri il tetto paterno l'unica fu dessa che in sì il lungo tempo della mia captività i cari parenti potessero avere da me io da loro non ebbi mai alcuna quelle che mi scriveano furono sempre tenute a Vienna egualmente privati di ogni relazione con le famiglie erano gli altri compagni di sventura dimandammo infinite volte la grazia di avere almeno carta e calamaio per studiare e quella di far uso dei nostri denari per comprare libri non fummo esauditi mai il governatore continuava a far tanto a permettere che leggessimo i libri nostri avemmo anche per bontà di lui qualche miglioramento di cibo maimè non fu durevole egli aveva consentito che invece di essere provveduti dalla cucina del trattore delle carceri fossimo da quella del sovraintendente qualche fondo di più era da lui stato assegnato a tal uso la conferma di queste disposizioni non venne ma intanto che durò il beneficio io ne provai molto giovamento anche Maroncelli riacquistò un po' di vigore per l'infelice Oroboni era troppo tardi quest'ultimo era stato accompagnato prima con l'avvocato Solera indico il sacerdote di Fortini quando fummo appaiati in tutte le carceri il divieto di parlare alle finestre ci fu rinnovato con minaccia a chi contravenisse di essere riposto in solitudine capo 75 Oroboni dopo aver molto dolorato nell'inverno e nella primavera si trovò assai peggio l'estate sputò sangue e andò in idropisia lascio pensare quale fosse la nostra afflizione quando lei si stava estinguendo si presso di noi senza che potessimo rompere quella crudele parete che ci impediva di vederlo e prestarle i nostri amichevoli servigi Schiller ci portava le sue nuove l'infelice giovane patì atorocemente ma l'animo suo non si abili mai morì nel suo dio onomastico il 13 giugno 1823 qualche ora prima di ispirare parlò dell'ottogenario suo padre si intenerì e pianse poi si riprese dicendo ma perché piango il più fortunato dei miei cari poiché egli è alla vigilia di raggiungermi all'eterna pace le sue ultime parole furono io perdono di cuore ai miei nemici gli chiuse gli occhi furtini suo amico dall'infanzia uomo a tutto religione e carità povero ruboni qual gelo ci corse per le vene quando ci fu detto che ei non era più ed udimmo le voci e i passi di chi venne a prendere il cadavere e vedemmo dalla finestra il carro in cui veniva portato al cimitero traevano quel carro due condannati comuni lo seguivano quattro guardie accompagnammo con gli occhi il triste convoglio fino al cimitero entrò nella cinta si fermò in un angolo là era la fossa l'ultima mattina della sua vita disse ancora baciando un crocifisso che cralla gli porgea tu che eri divino avevi pure orrore della morte dicevai si possibile est transiat a me cal esiste perdona se lo dico anch'io ma ripeto anche le altre tue parole capo 76 dopo la morte di Oroboni ammalai di nuovo credeva di raggiungere presto l'istinto amico e ciò bramava se non che mi sarei io separato senza l'increscimento da maruncelli più volte mentre ei sedendo col pagliericcio leggeva o poetava o forse fingeva al pari di me di distrarsi con tali studi e meditava sulle nostre sventure io lo guardava con affanno e pensava quanto più triste non sarà la tua vita quando il soffio della morte mi avrà a tocco quando mi vedrai portare via di questa stanza quando mirando il cimitero dirai anche Silvio è là io non noto quante volte le mie malattie sgombrarono e ricomparvero l'assistenza che in esse facea a mimare un celli era quella del più tenero fratello ei si accorgea quando il parlare non mi convenisse e allora stava in silenzio ei si accorgea quando i suoi detti potessero sollevarmi e allora trovava sempre soggetti confacentisi alla disposizione del mio animo spiriti più nobili del suo io non ne aveva mai conosciuti pari il suo pochi un grande amore per la giustizia una grande tolleranza una grande fiducia nella virtù umana negli aiuti della provvidenza un sentimento vivissimo del bello in tutte le arti una fantasia ricca di poesia tutte le più amabili doti di mente e di cuore si univano per rendermelo caro io non dimenticavo Roboni ed ogni di gemea della sua morte maia gioivami spesso il cuore immaginando che quel diletto libero di tutti i mali e in seno alla divinità dovesse pure annoverare fra le sue contentezze quella di vedermi con un amico non meno affettuoso di lui una voce pareva assicurarmi nell'anima che Roboni non fosse più in luogo di espiazione non di meno io pregava sempre per lui sarebbe cosa ridicola se riferissi la vivezza di tali sogni e la suavità che realmente in me lasciavano per intere giornate ma i sentimenti religiosi e l'amicizia mia per Maroncelli alleggerivano sempre più le mie afflizioni l'unica idea che mi spaventava era la possibilità che questo infelice di salute ha già assai rovinata sebbene meno minacciante della mia mi precedesse nel sepolcro capo 77 avrei bramato che il cappellano ci fosse stato conceduto per confessare e che potessimo vederlo a quando a quando anche senza trovarci gravemente infermi invece di dare questo incarico a lui il governatore ci destinò a un agostegnano per nome Battista intanto che venisse da Vienna o la conferma di questo o la nomina di un altro temevo di perderci nel cambio mi ingannava il P. Battista era un angiolo di carità i suoi modi erano educatissimi anzi eleganti lo pregamo di visitarci spesso veniva ogni mese e più frequentemente se poteva ci portava anche col permesso del governatore qualche libro dopo la confessione E. si fermava lungamente a conversare e da tutti i suoi discorsi appariva un'anima retta dignitosa innamorata della grandezza e della santità dell'uomo a principio per dir vero io diffidavo di lui mi aspettavo di vederlo volgere la finezza del suo ingegno a indagini sconvenienti in un prigioniero di stato simile di fidenza e purtroppo naturale ma oh quanto si resta sollevato allorché svanisce allorché si scopre nell'interprete di Dio nessun altro zelo che è quello della causa di Dio e dell'umanità ogni volta che avevo udito quegli amorevoli rimproveri e quei nobili consigli ardevo di amore della virtù non abordivo più alcuno avrei dato la vita per il minimo dei miei simili benedicevo Dio di avermi fatto uomo a infelice chi ignora la sublimità della confessione infelice chi per non parer volgare si crede obbligato di guardarla con scherno nel fratello che parla e una vita e un'opportunità che sovente in Darno si cercherebbero nei libri e nei nostri propri pensieri parte 17 capo 78 nel principio del 1824 il sovraintendente il quale aveva fatto la sua cancelleria uno dei capi del nostro corridoio trasportossi altrove e le stanze di cancelleria con altre annesse furono ridotte a carcere ah capimbo che nuovi prigionieri di stato doveano aspettarsi d'Italia giunsero infatti in breve quelli di un terzo processo tutti amici e conoscenti miei o quando seppi i loro nomi qual fu la mia tristezza Borsieri era uno dei più antichi miei amici a Confalonieri io ero affezionato da me in lungo tempo ma pur con tutto il cuore se avessi potuto passando al carcere durissimo a qualunque inimmaginabile tormento scontare la loro pena e liberarmi Dio sa se non l'avrei fatto non dico solo dar la vita per essi che cos'è il dare la vita soffrire ben di più avrei avuto allora tanto duopo delle consolazioni del Battista non gli permisero più di venire nuovi ordini vennero per il mantenimento della più severa disciplina quel terrapieno che ci serviva di passeggio fu da prima cinto disteccato sicché nessuno nemmeno in lontananza con i telescopi potesse pur vederci ciò non bastò per andare a quel terrapieno conveniva attraversare come dissi il cortile e in questo molti avevano campo di scorgerci non posso esprimere quanto questo cambiamento di passeggio ci affliggesse non ho notato tutti i conforti che avevamo nel luogo che ci veniva tolto la vista dei figlioli del sovraintendente i loro cari amplessi dove avevamo veduta inferma nei suoi ultimi giorni la loro madre qualche chiacchiera col fabbro che aveva purivi il suo alloggio negli eti canzoncini e le armonie di un caporale che suonava la chitarra e per ultimo un innocente amore un amore non mio né del mio compagno ma di una buona caporalina ungherese venditrice di frutta e la erasi invaghita di maroncelli già prima che fosse posto con me esso e la donna vedendosi ivi quasi ogni giorno aveano fatto un poco d'amicizia egli era anima si onesta si dignitosa si semplice nelle sue viste che ignorava affatto di aver innamorato la pietosa creatura siccome la finestra della stanza di lei era alta appena un braccio dal suolo del terrapieno e la balzava dal nostro lato per l'apparente motivo di stendere al sole qualche pannolino o fare alcun'altra faccenduola e stava lì a guardarci e se poteva attaccava discorso le povere nostre guardie sempre stanche di avere poco o niente dormito la notte coglievano volentieri l'occasione di essere in quell'angolo dove senza essere vedute dai superiori potevano sedere sull'erba e sonnecchiare maggiore era l'imbarazzo mio di quello di maroncelli non di meno simili scene che sarebbero state assai risibili se la donna ci avesse ispirato poco rispetto erano per noi serie e potrei dire patetiche se fosse mio proposito di scrivere d'amore ne resterebbero non brevi cose a dire di quella misera e virtuosa donna ora morta ma basti l'avere accennato uno dei pochi avvenimenti del nostro carcere capo 79 i cresciuti rigori rendevano sempre più monotona la nostra vita tutto il 1824 il 25 il 26 il 27 in che modi passarono per noi ci fu tolto quell'uso dei nostri libri che per interim c'era stato conceduto dal governatore il carcere divenneci una vera tomba nella quale neppure la tranquillità della tomba c'era lasciata ogni mese veniva in un giorno indeterminato a farvi una diligente perquisizione il direttore di polizia ci spogliavano nudi esaminavano tutte le cuciture dei vestiti nel dubbio che vi si tenesse celata qualche carta o altro si scucivano i pagnericci per frugarvi dentro gli anni precedenti mi erano sembrati si infelici ed ora pensavo ad essi con desiderio come a un tempo di care dolcezze dove erano le ore che io mi ingolfava nello studio della bibbia o di omero a forza di leggere omero nel testo quella poca cognizione di greco che avevo si era aumentata ed erami appassionato per quella lingua quanto incresceam e di non poterne continuare lo studio Dante Petrarch Shakespeare Byron Walter Scott Schiller Goethe eccetera quanti amici mi erano involati fra si fatti annoverava pure alcuni libri di cristiana sapienza come il Bordalot il Pascal l'Imitazione di Gesù Cristo la Filotea eccetera libri che se si leggono con critica ristretta e liberale esultando a ogni irreperibile difetto di gusto a ogni pensiero non valido si gettano là e non si ripigliano alcuni di si fatti libri di religione ci furono poscia mandati in dono dall'imperatore ma con esclusione assoluta di libri di altra specie servienti a studio letterario questo dono di opere ascetiche venneci impetrato nel 1825 da un confessore d'almata inviatoci da Vienna il P. Stefano Polovic fatto due anni appresso vescovo di Cattaro a lui fummo debitori di avere finalmente la messa che prima ci si era sempre negata dicendosi che non poteano condurci in chiesa e tenerci separati a due a due siccome era prescritto capo 80 nel 1825 Schiller fu riputato ormai troppo indebolito dagli acciacchi della vecchiaia e gli dietero la custodia di altri condannati per i quali sembrassero richiedersi tanta vigilanza per successore ebbe egli da prima Krall uomo non inferiore a lui in bontà ma anche a questo venne data in breve un'altra destinazione e ce n'è capito uno non cattivo ma burbero ed estraneo ad ogni dimostrazione di affetto questi mutamenti mi affliggevano profondamente Schiller Krall e Kubitsky ma in particolar modo i due primi ci avevano assistiti nelle nostre malattie come un padre e un fratello avrebbero potuto fare incapaci di mancare al loro dovere sapeano eseguirlo senza durezza di cuore se vi era un po' di durezza nelle forme era quasi sempre involontaria e riscattavano pienamente i tratti amorevoli che ci usavano mi adirai talvolta contro di essi ma come mi perdonavano cordialmente da qui fu lontano da noi più volte Schiller si ammalò e si riebbe domandavamo contezza di lui con ansietà filiale quando egli era convalescente veniva talvolta a passeggiare sotto le nostre finestre talvolta Ehi siedeva lì sull'erba e leggea erano libri che Ehi mi aveva prestati e affinché io li riconoscessi Ehi ne diceva il titolo alla sentinella o ne ripeteva qualche squarcio per lo più tra i libri erano novelle da calendari o altri romanzi di poco valore letterario ma morali dopo varie ricadute da polplessia si fece portare all'ospedale dei militari era già in pessimo stato e Colà in breve morì possedeva alcune centinaia di fiorini frutto dei suoi lunghi risparmi queste erano da lui state date in prestito da alcuni suoi conmelitoni allorché si vide presso il suo fine appellò a sé con gli amici e disse non ho più congiunti ciascuno di voi si tenga ciò che ha nelle mani mi domando solo di pregare per me uno di tali amici aveva una figlia di diciotto anni la quale era piglioccia di Schiller poche ore prima di morire il buon vecchio la mandò a chiamare e non poteva più proferire parole distinte si cavò di dito un anello d'argento ultima sua ricchezza e lo mise in dito a lei poi la baciò e pianse baciandola la fanciulla urlava e lui non dava di lacrime egli le asciugava col fazzoletto prese le mani di dei e se le pose sugli occhi quegli occhi erano chiusi capo 81 le consolazioni umane ci andavano mancando una dopo l'altra gli affanni erano sempre maggiori mi rassegnavo al volere di dio ma mi rassegnavo cemendo una volta mi fu clandestinamente recato un foglio della gazzetta d'Augsburgo nel quale spacciavasi stranissima cosa di me a proposito della monacazione di una delle mie sorelle diceva la signora Maria Angiola Pellico figlia eccetera eccetera prese a di eccetera il velo nel monastero della visitazione in Torino eccetera ed essa sorella dell'autore della Francesca da Rimini Silvio Pellico il quale uscì recentemente dalla fortezza di Spielberg graziato da sua maestà l'imperatore tratto di credenza degnissimo di si magnanimo sovrano e che rallegrò tutta Italia stant'enché eccetera eccetera e qui seguivano le mie lodi la frottola della grazia non sapeva immaginarmi perché fosse stata inventata un puro divertimento del giornalista era forse qualche astuzia delle polizie tedesche chi lo sa ma i nomi di Maria Angiola erano precisamente quelli di mia sorella minore doveano senza dubbio essere passati dalla gazzetta di Torino e altre del gazzette dunque quell'ottima fanciulla c'era veramente fatta monaca forse ella prese quello stato perché ha perduto i genitori povera fanciulla non ha voluto che io solo patissi le angustie del carcere anche ella ha voluto recludersi il signore le dia più che non dà a me le virtù della pazienza e della plegazione quante volte nella sua cella quell'angelo penserà a me quanto spesso farà dure penitenze per ottenere da Dio che alleggerisca i mali del fratello maroncelli non era meno commosso di me qualche giorno appresso ei diedesi a comporre un lamento poetico sulla sorella del prigioniero riuscì un bellissimo poemetto ospirante melanconia e compianto quando l'ebbe terminato me lo recitò come gli fu grato della sua gentilizia fra tanti milioni diversi che fino allora si erano fatti per monache probabilmente quelli erano i soli che si componessero in carcere per il fratello della monaca da un compagno di ferri qual concorso di idee patetiche e religiose capo 82 l'essermi venuta clandestinamente quella gazzetta non faccia immaginare al lettore che frequenti fossero le notizie del mondo che riuscissi a procurarmi no tutti erano buoni intorno a me ma tutti legati da somma paura se avvenne qualche lieve clandestinità non fosse non quando il pericolo potea veramente parer nullo non mi fu mai dato di avere nascostamente notizia dei miei cari lontani tranne il sorriferito cenno relativo a mia sorella il timore che io avevo che i miei genitori non fossero più in vita venne di lì a qualche tempo piuttosto aumentato che diminuito dal modo con cui una volta il direttore di polizia venne ad annunciarmi che a casa mia stavano bene su amestà l'imperatore comanda disse egli che io le partecipi buone e nuove di quei congiunti che ella ha a Torino trabalzai dal piacere e dalla sorpresa lasciai gli disse io genitori, fratelli e sorelle a Torino vivono tutti se ella ha una lettera di alcuno di loro la supplico di mostrarmela non posso mostrare niente e la deve contentarsi di ciò è sempre una prova di benignità dell'imperatore il farle dire queste consolanti parole ciò non si è ancora fatto a nessuno concedo essere prova di benignità dell'imperatore ma ella sentirà che mi è impossibile trarre consolazione da parole così indeterminate non ne ho perduto io alcuno? signore mi rincrescio di non poterle dire di più di quel che mi è stato imposto e così se ne andò l'intenzione era certamente stata di recarmi un sollievo con quella notizia ma io mi persuasi che nello stesso tempo che l'imperatore aveva voluto cedere alle istanze di qualche mio congiunto e consentire che mi fosse portato quel cenno e io non volea che mi si mostrasse alcuna lettera affinché io non vedessi quali dei miei cari mi fossero mancati indi a parecchi mesi un annuncio simile al suddetto mi fu recato nessuna lettera nessuna spiegazione di più videro che io non mi contentava di tanto e che rimaneva più afflitto e nulla mai più mi dissero della mia famiglia alcune volte assalito fortemente dalle solite infermità o da infermità nuove come coliche orrende con sintomi dolorosissimi e simili a quelli del morbo colera sperai di morire sì l'espressione è esatta sperai e non di meno o contraddizioni dell'uomo dando un'occhiata all'anguente mio compagno mi si straziava il cuore al pensiero di lasciarlo solo e desiderava di nuovo la vita capo 83 tre volte vennero di Vienna personaggi di alto grado a visitare le nostre carceri per assicurarsi che non ci fossero abusi di disciplina la prima fu del barone von Munch e questo impietosito dall'epoca luce che avevamo disse che avrebbe implorato di poter prolungare la nostra giornata facendoci mettere per qualche ora della sera una lanterna alla parte esteriore dello sportello la seconda visita fu del barone von Vogel egli mi trovò in pessimo stato di salute e udendo che sebbene il medico riputasse a me giovevole il caffè non si attentava di ordinarmelo perché oggetto di lusso disse una parola di consenso a mio favore e il caffè mi venne ordinato la terza visita fu di non so quale altro signore della corte uomo fra i 50 e i 60 che ci dimostrò con i modi e con le parole la più nobile compassione la somma solitudine può tornare vantaggiosa all'ammendamento di alcune anime ma credo che in generale lo sia assai più se non ispinta all'estremo se mescolata di qualche contatto con la società io almeno sono fatto così se non vedo i miei simili concentro il mio amore sì un troppo piccolo numero di essi e disamo gli altri se posso vederne non dirò molti ma un numero discreto amo con tenerezza tutto il genere umano mille volte mi sono trovato col cuore sì unicamente amante di pochissimi e pieno d'odio per gli altri che io me ne spaventava allora andavo alla finestra sospirando di vedere qualche faccia nuova mi estimava felice se la sentinella non passeggiava troppo rasente il muro quando mi pare a scorgervi i sensi di pietà un dolce palpito prendeami come se quello sconosciuto soldato fosse un intimo amico se i si allontanava io aspettavo con innamorata inquietudine che i ritornasse e se i ritornava guardandomi ne gioivo come di una grande carità se non passava più in guisa che io lo vedessi restavo mortificato come uomo che ama e conosce che altri non cura parte 18 capo 84 nel carcere contiguo Già Doroboni stavano ora di Marco Fortini e il signor Antonio Villa quest'ultimo altre volte robusto come un Ercole patì molto la fame il primo anno e quando ebbe più cibo si trovò senza forze per digerire fu assistito dal concaptivo di Fortini e dall'abate Paolovic venuto in fretta da Vienna quando si seppe che era moribondo bench'io non mi fossi vincolato con lui così strettamente come con Oroboni pur la sua morte mi afflisse molto sapevo che egli era amato con la più viva tenerezza dai genitori e da una sposa per lui era più da invidiarsi che da compiangersi ma quei superstiti egli era anche stato mio vicino sotto i piombi Tremerello mi aveva portato parecchi versi di lui e gli aveva portato dei miei ei non aveva il coraggio di Oroboni ma lo imitò protestando di perdonare i nemici alla fine di quell'anno il 1826 udimmo una sera nel corridoio il rumore mal compresso di parecchi camminanti i nostri orecchi erano divenuti sapientissimi a discernere mille generi di rumori una porta viene aperta conosciamo essere quella ov'era l'avvocato di Solera se ne apre un'altra è quella di Fortini fra alcune voci di messe distinguiamo quella del direttore di polizia che sarà una perquisizione ad ora si tarda e perché ma in breve escono di nuovo nel corridoio quando ecco la cara voce del buon Fortini hop vereto mi la scusi sala o demestmente che ha un tomo del breviario e lesto lesto ei correva indieto a prendersi quel tomo poi raggiungeva il drappello la porta della scala si aperse intendemmo i loro parsi fino al fondo capimmo che i due felici avevano ricevuto la grazia e sebbene ci increscesse di non seguirli ne esultammo capo 85 era la liberazione di quei due compagni senza alcuna conseguenza per noi come uscivano essi quali erano stati condannati al pari di noi uno a vent'anni l'altro a quindici e su noi e su molti altri non risplendeva la grazia contro i non liberati esistevano dunque prevenzioni più ostili verso la fine del 1827 pensammo che il dicembre potesse essere determinato per anniversario delle grazie ma il dicembre passò e nulla accadde protreammo l'aspettativa sino all'estate del 1828 terminando allora per me i sette anni e mezzo di pena equivalenti secondo il detto dell'imperatore e i quindici oveppure la pena si volesse contare dall'arresto tutti i termini calcolabili passarono e grazia non rifulse intanto già prima dell'uscita di solera e fortini era venuto al mio povero maroncelli un tumore al ginocchio sinistro in principio il dolore era mite e lo costringeva soltanto a zuppicare poi stentava a trascinare i ferri e di rado usciva a passeggio lo portammo sul suo letto e non era più in grado di reggersi quando il medico lo vide si decise finalmente a fargli levare i ferri il tumore peggiorò di giorno in giorno e divenne enorme e sempre più doloroso quando egli era necessità muoversi alzarsi porsi a giacere io doveva prendere con la maggiore delicatezza possibile la gamba malata e trasportarla lentissimamente nella guisa che occorreva talvolta per fare il più piccolo passaggio da una posizione all'altra ci volevano quarti d'ora di spasimo sanguisugue fontanelle pietre caustiche fomenti ora asciutti ora umidi tutto fu tentato dal medico erano accrescimenti di strazio e niente di più ma Roncelli era mille volte più infelice di me non di meno quanto io pativo con lui le cure di infermiere mi erano dolci perché usate a sì degno amico ma vederlo così deperire fra sé lunghi atroci tormenti e non poterli regare salute quanto m'angosciava capo 86 in quel deplorabile stato ei poteva ancora ei cantava e discorreva ei tutto facea per illudermi per nascondermi una parte dei suoi mali non potea più digerire né dormire dimagrava spaventosamente andava frequentamente in deliqui e tuttavia in alcuni istanti raccoglieva la sua vitalità e faceva animo a me ciò che egli patì per nove lunghi mesi non è descrivibile finalmente fu un conceduto che si tenesse un consulto venne il protomedico approvò tutto quello che il medico aveva tentato e senza pronunciare la sua opinione sull'infermità e su ciò che restasse a fare se ne andò un momento appresso viene il sottointendente e dice a Maroncelli il protomedico non si è avventurato di spiegarsi qui in sua presenza teneva che ella non avesse la forza di dirsi annunziare una dura necessità io l'ho assicurato che a lei non manca il coraggio spero disse Maroncelli di averne dato qualche prova in soffrire senza urli questi strazi sì signore bene si prevede l'amputazione se non che il protomedico vedendo un corpo così emunto esita a consigliarla in tanta debolezza si sentirà ella capace di sostenere l'amputazione vuolella esporsi al pericolo di morire e non morrei in breve ugualmente se non si mette termine a questo male dunque faremo subito relazione a Vienna di ogni cosa e appena venuto il permesso di amputarla che ci vuole un permesso sì signore di lì a otto giorni l'aspettato consentimento giusse il malato fu portato in una stanza più grande dimandò che io lo seguissi potrei ispirare sotto l'operazione disse egli che io mi trovi almeno fra le braccia dell'amico la mia compagnia gli fu conceduta l'abate Hurba nostro confessore venne ad amministrare i sacramenti all'infelice i chirurghi vennero al fine erano due il malato fu seduto sulla sponda del letto con le gambe giù io lo tenea fra le mie braccia al di sopra del ginocchio dove la coscia cominciava ad essere sana fu stretto un legaccio segno del giro che doveva fare il coltello il vecchio chirurgo tagliò tutto intorno la profondità di un dito poi tirò in su la pelle tagliata e continuò il taglio sui muscoli scorticati il sangue fluiva a torrenti dalle arterie ma queste vennero tosto legate con un filo di seta per ultimo si segò l'osso ma Roncelli non mise un grido quando vide che gli portavano via la gamba tagliata le diede un'occhiata di compassione poi voltosi al chirurgo operatore gli disse e l'ha maliberato di un nemico e non ho modo di rimunerarla bere in un bicchiere sopra la finestra una rosa ti prego di portarmi quella rosa mi disse gliela portai e Deil offerse al vecchio chirurgo dicendogli non ho altro a presentarla in testimonianza della mia gratitudine quegli prese la rosa e pianse capo 87 i chirurghi avevano creduto che l'infermiera di Spilger provvedesse a tutto l'occorrente eccetto i ferri che essi portarono ma fatta l'amputazione si accorsero che mancavano diverse cose necessarie tela incerata ghiaccio bende il misero mutilato dovette aspettare due ore che tutto questo fosse portato dalla città il di seguente liberarono il tronco dai grumi di sangue formatisi lo lavarono tirarono giù la pelle e fasciarono per parecchi giorni non si diede al malato se non qualche mezza chicchera di brodo con torlo d'uovo sbattuto l'imperatore aveva ordinato che finché le forze fossero ristabilite gli si desse buon cibo dalla cucina del sovraintendente la guarigione si operò in 40 giorni dopo i quali fumo ricondotti nel nostro carcere questo peraltro ci venne ampliato facendo cioè un'apertura al muro e unendo la nostra antica tana a quella già abitata da Oroboni e da Villa io trasportai il mio letto al luogo medesimo ovvero stato quello di Oroboni Ovegli era morto sognava spesso di lui e pariami che il suo spirito veramente mi visitasse e mi rasserenasse con celesti consolazioni ebbi parecchi tumori glandulari dolorosissimi ne risanai e a questi successero affani di petto già provati altre volte ma ora più soffocanti che mai vertigini e dissenterie spasmodiche è venuta la mia volta diceva tra me sarò io meno paziente del mio compagno? mi applicai quindi a imitare quant'io sapea la sua virtù non vi è dubbio che ogni condizione umana ha i suoi doveri quelle di un infermo sono la pazienza il coraggio e tutti gli sforzi per non essere inamabile a coloro che gli sono vicini quantunque egli avesse ripigliato forza Maroncelli non era però senza incomodi Ehi pativa come tutti gli amputati sensazioni dolorose nei nervi quasi che la parte tagliata vi desse ancora gli doleano il piede la gamba il ginocchio che Ehi più non avea aggiungeasi che l'osso era stato malsegato e sporgeva nelle nuove carni e facea frequenti piaghe soltanto dopo circa un anno il tronco fu abbastanza indurito e più non si è perse capo 88 ma nuovi mali assalirono l'infelice e quasi senza intervallo da prima un artritide che cominciò per le giunture delle mani e poi gli martirò per mesi tutta la persona io cercavo di consolarmi pensando tra me poiché conviene morire qua dentro e meglio che sia venuto ad uno dei due lo scorbuto e male attaccaticcio e ne condurrà nella tomba ci preparavamo entrambi alla morte ed eravamo tranquilli nove anni di prigione e gravi patimenti ci avevano finalmente addimesticati con l'idea del totale disfacimento di due corpi così rovinati e bisognosi di pace e le anime fidavano nella bontà di Dio e credevano di riunirsi entrambe in luogo ove tutte le ire degli uomini cessano e ove pregavamo che a noi si riunisse anche un giorno placati coloro che non ci amavano lo scorbuto negli anni precedenti aveva fatto molta strage in quelle prigioni io come contubernale di questo e anche infermo di discrasia godetti lo stesso vantaggio in tutte quelle ore che il passaggio non era occupato da altri cioè da mezz'ora avanti l'alba per un paio d'ore se così si piaceva indi per tre ore dalla sera sin dopo il tramonto stavamo fuori cioè per i giorni feriali né festivi non essendovi il passaggio consueto degli altri stavamo fuori da mattina a sera eccettuato il pranzo un altro infelice di salute da l'iniziatissima di circa 70 anni fu aggregato a noi era il signor Costantino Munari amabile vecchio dilettante di studi letterari e filosofici e la cui società ci fu assai piacevole passato l'agosto e poi il settembre io Maroncelli e Munari ci avvezzammo a non isperare più nulla sopra la terra tranne l'inalterabile continuazione della reciproca nostra amicizia e l'assistenza di Dio per consumare degnamente il resto del nostro lungo sacrificio ah l'amicizia e la religione due beni inestimabili capo 89 dopo la morte di Villa all'abate Paolovic che fu fatto vescovo seguì per nostro confessore l'abate Hurba morovo professore di testamento nuovo a Brün quest'istituto è una congregazione fondata dal celebre Frint allora parroco di corte Hurba stando a Brün poteva darci molta più parte del suo tempo che Paolovic e divenne per noi ciò che era il pibattista tranne che non gli era lecito di prestarci alcun libro facevamo spesso insieme e lunghe conferenze e la mia religiosità ne traeva grande profitto nell'anno 1829 a Malò poi dovendo assumere altri impegni non pote più venire da noi ce ne spiacque altamente ma avemmo la buona sorte che a lui seguisse l'altro dotto ed egregio uomo abate Ziak vice curato di quei parecchi sacerdoti tedeschi che ci furono destinati non capitarne uno cattivo non uno che scoprissimo volersi fare strumento alla politica non uno anzi che non avesse riuniti meriti di molta dottrina di dichiaratissima fede cattolica e filosofia profonda quanto i ministri della chiesa si infatti sono rispettabili quei pochi che io conobbi mi fecero concepire un'opinione assai vantaggiosa del clero cattolico tedesco anche l'abate Ziak teneva lunghe conferenze con noi egli pure mi serviva di esempio per sopportare con serenità i miei dolori incessanti flussioni ai denti alla gola agli orecchi lo tormentavano ed era non di meno sempre sorridente intanto la multaria aperta fece scomparire a poco a poco le macchie scorbutiche di maroncelli e pari menti munari ed io stavamo meglio parte 19 capo 90 spunto il primo d'agosto del 1830 volgevano dieci anni che io aveva perduta la libertà otto anni e mezzo che io scontavo il carcere duro era giorno di domenica andammo come le altre feste nel solito recinto ci assidemmo ancora sulla solita panca ad aspettare che le povere condannate venissero alla messa che si diceva prima della nostra queste erano condotte nel medesimo oratorietto dove per la messa seguente andavamo noi è uso in tutta la Germania che durante la messa il popolo canti inni in lingua viva siccome l'impero d'Austria è paese misto di tedeschi e slavi e nelle prigioni di Spielberg il maggior numero dei condannati comuni appartiene all'uno o all'altro di quei popoli gli inni vi si cantano una festa in tedesco e l'altra in islavo fra le donne ve ne avea la cui voce andava al cuore infelici alcune erano giovanissime un amore una gelosia un male esempio le avea trascinate al delitto mi suona ancora nell'anima il loro religiosissimo canto del santus alle ore dieci le donne si ritirarono e andammo alla messa noi vidi ancora quelli dei miei compagni di sventura che udivano la messa sulla tribuna dell'organo dai quali una sola grata ci separava tutti pallidi dopo la messa tornammo nei nostri covidi un quarto d'ora dopo ci portarono il pranzo apparecchiavamo la nostra tavola il che consisteva nel mettere una sticella sul tavolaccio e prendere i nostri cucchiai di legno mi incresce di disturbare il loro pranzo disse il signor Wegrath sottintendente ma si compiacciano di seguirmi via e di là il signor direttore di polizia siccome questi soleva venire per cose molestre come perquisizioni o inquisizioni seguimmo assai di malumore il buono sottintendente fino alla camera d'udienza la trovamo il direttore di polizia il sovraintendente e il primo ci fece un inchino gentile più del consueto prese una carta in mano e disse con voci tronche forse temendo di produrci troppo forte sorpresa se si esprimeva più nettamente signori ho il piacere ho l'onore di significare loro che sua maestà l'imperatore ha fatto ancora una grazia ed esitava a dirci quale grazia fosse noi pensavamo che fosse qualche minoramento di pena come di essere esenti dalla noia del lavoro di avere qualche libro di più di avere alimenti men disgustosi ma non capiscono disse no signore abbia la bontà di spiegarci quale specie di grazia sia questa è la libertà per loro due e per un terzo che fra poco abbracceranno parrebbe che quest'annuncio avesse dovuto farci prorompere in giubilo il nostro pensiero corse subito ai parenti dei quali da tanto tempo non avevamo notizia e il dubbio che forse non li avremmo più trovati sulla terra ci accorò tanto che annullò il piacere suscitabile dall'annuncio della libertà amutoliscono disse il direttore di polizia io mi aspettavo di vederli esultanti la prego risposi di far nota all'imperatore la nostra gratitudine ma se non abbiamo notizia delle nostre famiglie non c'è possibile di non paventare che a noi siano mancate persone carissime questa incertezza ci opprime anche in un istante che dovrebbe essere quello della massima gioia diede allora a Maroncelli una lettera di suo fratello che lo consolò a me disse che nulla c'era della mia famiglia e ciò mi fece via più temere che qualche disgrazia fosse in essa avvenuta badano proseguì nella loro stanza e fra poco manderò loro quel terzo che pure è stato graziato andammo ed aspettavamo con ansietà quel terzo avremmo voluto che fossero tutti eppure non poteva essere che uno fosse il povero vecchio Munari fosse quello fosse quell'altro niente uno era per cui non facessimo voti finalmente la porta si apre e vediamo quel compagno essere il signor Andrea Tonelli da Brescia ci abbracciavamo non potevamo più pranzare famellammo sino a sera compiangendo gli amici che restavano era un bellissimo lume di luna le strade le case la gente che incontravamo tutto mi pareva si gradevole e si strano dopo tanti anni che non aveva più veduto simile spettacolo capo 91 aspettammo nelle carceri di polizia un commissario imperiale che doveva venire da Vienna per accompagnarci sino ai confini intanto siccome i nostri bauli erano stati venduti ci provvedemmo di biancheria e vestiti e devonemmo la divisa carceraria dopo cinque giorni il commissario arrivò e il direttore di polizia ci consegnò a lui rimettendogli nello stesso tempo il denaro che avevamo portato sullo Spielberg e quello che si era ricavato dalla vendita dei bauli e dei libri la spesa del nostro viaggio fu fatta dall'imperatore senza risparmio e il commissario era il signor von Nau gentiluomo impiegato nella segreteria del ministro della polizia non poteva esserci destinata persona di più compita educazione ci trattò sempre con tutti i riguardi ma io partì da Brun con una difficoltà di respiro penosissima e il moto della carrozza tanto crebbe il male che a sé ranzava in guisa spaventosa e temeasi da un istante all'altro che restassi soffocato giunsi a Vienna semivivo ci diedero un buon alloggio nella direzione generale di polizia mi posero a letto si chiamò un medico questi mi ordinò una cavata di sangue ne sentì giovamento perfetta dieta e molta digitale fu per otto giorni la mia cura e risanai io avevo la più grande ansietà di partire tanto più che era a noi penetrata la notizia delle tre giornate di Parigi nello stesso giorno che scoppiava la rivoluzione l'imperatore aveva firmato il decreto della nostra libertà certo non l'avrebbe ora rievocato ma era pur cosa non inverisimile che i tempi tornando ad essere critici per tutta Europa si temessero movimenti popolari anche in Italia e non si volesse dall'Austria in quel momento lasciarci ripartire mi mostrai anche più risanato che non era e pregai che si sollecitasse la partenza intanto era mio desiderio ardentissimo di presentarmi a sua eminenza il signor conte di Pralormo inviato della corte di Torino alla corte austriaca alla bontà del quale io sapeva di quanto andassi debitore appena fui coinvalescente ci si fece la gentilezza di mandarci per qualche giorno la carrozza perché girassimo un poco per Vienna il commissario aveva l'obbligo di accompagnarci e non lasciarci parlare con nessuno vedemmo la bella chiesa di Santo Stefano i deliziosi passeggi dalla città la vicina villa Lichtenstein e per ultimo la villa imperiale di Chandrun mentre eravamo nei magnifici viali di Chandrun passò l'imperatore e il commissario ci fece ritirare perché la vista delle nostre sparute persone non l'attristasse capo 92 partimmo finalmente da Vienna e potei reggere fino a Brooke ivi l'asma tornava ad essere violenta chiamammo allora il medico era un certo signor Yudman uomo di molto garbo mi fece cavar sangue stare a letto e continuare la digitale dopo due giorni feci istanza perché il viaggio fosse proseguito traversammo l'Austriais la Stiria ed entrammo in Carintia senza novità ma giunti a un villaggio per nome Feldrichen poco distante da Klagenfurt ecco giungere un contrordine dovevamo ivi fermarci sino a nuovo avviso stemmo cinque giorni a Feldrichen ed ivi pure il commissario fece il possibile per ricrearci vi era un teatrino di commedianti e vi ci condusse ci diede un giorno il divertimento di una caccia finalmente venne un corriere da Vienna con ordine al commissario che ci conducesse pure il nostro destino esultai coi miei compagni di questa felice notizia ma nello stesso tempo tremava che si avvicinasse per me il giorno di una scoperta fatale che io non avessi più né padre né padre né chissà quali altri dei miei cari e la mia mestizia cresceva a misura che ci inoltravamo verso Italia da quella parte l'entrata in Italia non è dilettosa all'occhio e anzi si scende da bellissime montagne del paese tedesco a pianura itala per lungo tratto sterile e in amena la bruttezza di quel suolo contribuiva a rendermi più tristo e il rivedere il nostro cielo l'incontrare facce umane di forma non settentrionale l'udire da ogni labbro voci del nostro idioma mi inteneriva ma era un'emozione che mi invitava più al pianto che alla gioia ah se lunghi anni di sepoltura non avevano spenta però l'energia del mio sentire questa energia però era si poca per la gioia e tanto per il dolore come avrei voluto rivedere udine e quella locanda dove quei generosi avevano finto di essere camerieri e ci avevano stretto furtivamente la mano lasciamo quella città a nostra sinistra e oltrepassammo capo 93 Pordenone Conegliano un spedaletto Vicenza Verona Mantova mi ricordavano tante cose nel primo luogo era nativo un valente giovane stato mio amico e perito nelle stragi di Russia Conegliano era il paese dove i secondini dei piombi mi avevano detto essere stata condotta alla Zanzer in ospedaletto era stata maritata ma ora non mi aveva più una creatura angelica e infelice che io aveva già tempo venerato e che era venerata ancora da me mi parea ieri che io vi era venuto con Lodovico nel 1815 a Mantova mi parea ieri che io vi era venuto con Porro nel 1820 le stesse strade le stesse piazze gli stessi palazzi e tante differenze sociali tanti miei conoscenti involati da morte tanti esuli una generazione di adulti i quali io aveva veduti nell'infanzia e per colmo d'affanno Mantova era il punto di separazione per Maroncelli e per me vi pernottammo tristissimi entrambi e era agitato come un uomo alla vigilia di udire la sua condanna la mattina mi lavai la faccia e guardai nello specchio se si conoscesse ancora che io avessi pianto presi quanto meglio potei l'aria tranquilla e sorridente disse a Dio una piccola preghiera ma per verità molto distratto e udendo che già Maroncelli muoveva le sue grucce e parlava col cameriere andai ad abbracciarlo conobbi molti uomini egregi ma nessuno più affettuosamente socievole di Maroncelli nessuno più educato a tutti i riguardi della gentilezza più esente da eccessi di Selvaticume più costantemente memore che la virtù si compone di continui esercizi di tolleranza generosità e senno mio socio di tanti anni di dolore il cielo ti benedica ovunque tu respiri e ti dia amici che mi agguaglino in amore e mi superino in bontà capo capo 94 quest'opera dico al cameriere chi l'abbia chi l'abbia messa in versi e chi in musica non lo so risponde ma insomma è sempre quella francesca da rimini che tutti conoscono tutti vi ingannate io che vengo di germania che cosa ho da sapere delle vostre francesche il cameriere mi guardò con disprezzante pietà che cosa ha da sapere signore non si tratta di francesche si tratta di una francesca da rimini unica voglio dire la tragedia del signor silvio pellico qui l'hanno messa in opera guastandola un pochino ma tutt'uno è sempre quella ah silvio pellico si mi pare di aver inteso a nominarlo non è quel cattivo mobile che fu condannato a morte e poi a carcere duro otto o nove anni sono non avessi mai letto questo scherzo si guardò intorno poi guardò me digrignò trentadue bellissimi denti e se non avessi udito il rumore credo mi accoppava se ne andò borbottando cattivo mobile ma prima che io partissi scoperse chi mi fossi e non sapeva più né interrogare né rispondere né servire né camminare non sapea più altro che pormi gli occhi addosso fregarsi le mani e dire a tutti senza proposito si orsi si orsi che parea che star notisse due giorni dopo a di nove settembre giunsi col commissario a milano all'avvicinarmi a questa città al rivedere la cupola del duomo al ripassare in quel viale di loreto già mai passeggiata si frequenta e si cara provai i più dolci e più tormentosi sentimenti uno smanioso desiderio di fermarmi alcun tempo in milano e riabbracciarvi quegli amici che io vi avrei rinvenuti ancora oh commoventi memorie ho passato sì cosparso di piaceri e dolori e sì rapidamente fuggito i camerieri dell'albergo scopersero subito chi fossi io la voce si diffuse e verso sera vidi molti fermarsi sulla piazza e guardare alle finestre uno ignoro chi fosse egli parve riconoscermi e mi salutò alzando ambe le braccia ah dove erano i figli di porro i miei figli perché non li vidi io capo 95 il commissario mi condusse alla polizia per presentarmi al direttore qual sensazione nel rivedere quella casa a mio primo carcere quanti affanni mi ricorsero alla mente ah mi sovvenne con tenerezza di te melchiore gioia e dei passi precipitati che io ti vedea muovere su e giù fra quelle sterette pareti e delle ore che stavi immobile al tavolino scrivendo i tuoi nobili pensieri e dei cenni che mi facevi col fazzoletto e della mistizia con cui mi guardavi quando il farmi cenni ti fu vietato e immaginai la tua tomba forse ignorata dal maggior numero di coloro che ti amarono siccome era ignorata da me e implorai pace al tuo spirito mi sovvenne anche del mutolino della patetica voce di Maddalena dei miei palpiti di compassione per essa deve ladri i miei vicini del preteso Luigi XVII del povero condannato che si lasciò cogliere il biglietto e sembrò mi aver urlato sotto il bastone tutte queste altre memorie mi opprimeano come un sogno angoscioso ma più mi opprimea quelle delle due visite fatte ai miei Ivi dal mio povero padre dieci anni addietro oh dubbio tormentatissimo e sempre rinascente io era per così dire alle porte di casa e non sapeva ancora se i genitori fossero in vita se fosse in vita pur uno della mia famiglia il direttore della polizia mi accolse gentilmente e permise che io mi fermassi alla bella Venezia col commissario imperiale invece di farmi custodire altrove ottenni però di vedere soltanto il console piemontese per chiedergli contezza dei miei congiunti sarei andato da lui ma essendo preso da febbre e dovendo pormi in letto lo feci pregare di venire da me ebbe la compiacenza di non farsi aspettare quanto gliene fui grato e mi diede buone nuove di mio padre e mio fratello primogelito circa la madre l'altro fratello e le due sorelle rimasi in crudele incertezza in parte confortato ma non abbastanza avrei voluto per sollevare l'anima mia prolungare molto la conversazione col signor console ehi non fu scarso della sua gentilezza ma dovette pure lasciarmi restato solo avrei avuto bisogno di lacrime e non ne aveva perché talvolta mi fa il dolore prorompere in pianto e altre volte anzi il più spesso quando paremi che il piangere mi sarebbe si dolce ristoro lo invoco inutilmente chiesi da bere a Stundberger questo buon uomo era un sergente della polizia di Vienna facente a funzione di cameriere del commissario non era vecchio ma diedesi il caso che mi forse da bere con mano tremante quel tremito mi ricordò Schiller il mio amato Schiller quando il primo giorno del mio arrivo a Spielberg gli dimandai con imperioso orgoglio la brocca dell'acqua e me la porse cosa strana tal rimembaranza aggiunta alle altre ruppe la selce del mio cuore e le lacrime scaturirono capo 96 la mattina del 10 settembre abbracciai il mio eccellente commissario e partii ci conoscevamo solamente da un mese e mi pareva un amico di molti anni l'anima sua piena di sentimento del bello e dell'onesto non era investigatrice non era artificiosa non perché non potessi avere l'ingegno di esserlo ma per quell'amore di nobile semplicità che è negli uomini retti taluno durante il viaggio in un luogo dove c'eravamo fermati mi disse ascosamente guardatevi di quell'angelo custode se non fosse di quei neri non ve l'avrebbero dato eppur vi ingannate gli dissi ho la più intima persuasione che vi ingannate i più astuti riprese quelli sono coloro che appaiono più semplici se così fosse non bisognerebbe mai credere alla virtù di alcuno ma fummo interrotti e mi sovvenne il cavea consequentiaris di Leibniz purtroppo la più parte degli uomini ragiona con questa falsa e terribile logica io seguo lo stendardo A che sono certo essere quello della giustizia colui seguo lo stendardo B che sono certo essere quello dell'ingiustizia dunque egli è un malvagio ah no o logici fuori bondi di qualunque stendardo voi siate non ragionate così disunamanamente pensate che partendo da un lato svantaggioso qualunque procedendo con rabbioso regore di conseguenze in conseguenze è facile a chi che sia il giungere a questa conclusione fuori di noi quattro tutti i mortali meritano di essere arsi vivi e se si fa più sagace scrutinio ciascuno dei quattro dirà tutti i mortali meritano di essere arsi vivi fuori di me questo volgare rigorismo è sommamente antifilosofico una diffidenza moderata può essere savia una diffidenza oltrespinta non mai l'essi di un quacchero che aveva orrore dei soldati vide una volta un soldato gettarsi del tamigi e salvare un'infelice che si annegava e gli disse sarò sempre quacchero ma anche i soldati sono buone creature capo 97 Stunberger mi accompagnò sino alla vettura dove montai col brigadiere di gendarmeria al quale io era stato affidato pioveva e ispirava aria fredda si avvolga bene nel mantello dicea mi Stunberger si copra meglio il capo procuri di non arrivare a casa ammalato ci vuol così poco per lei a raffreddarsi e tutto ciò dicea mi egli si cordialmente con voce commossa d'or innanzi ella non avrà forse più mai alcun tedesco vicino a sé soggiunsegli non udrà forse più mai parlare questa linga che gli italiani trovano si dura e poco le importerà probabilmente fra i tedeschi ebbe tante sventure a patire che non avrà troppa voglia di ricordarsi di noi e non di meno io di cui ella dimenticherà presto il nome io signore pregherò sempre per lei ed io per te gli dissi toccandogli l'ultima volta la mano e povero uomo gridò ancora guten morgen guten reis leben sie wohl che significa buongiorno buon viaggio stia bene furono le ultime parole tedesche che udì pronunciare e mi suonarono care come se fossero state della mia lingua io amo appassionatamente la mia patria ma non odio alcun'altra nazione la civiltà la ricchezza la potenza la gloria sono diverse nelle diverse nazioni ma in tutte hanno anime obbedienti alla gran vocazione dell'uomo di amare con piangere e giovare il brigadiere che mi accompagnava mi raccontò essere stato uno di quelli che arrestarono il mio infelicissimo confalonieri mi disse come questi avea tentato di fuggire come il colpo gli era fallito e come strappato dalle braccia di sua sposa confalonieri ed essa fossero inteneriti e sostenessero con dignità quella sventura io ardeva di febbre udendo questa misera storia ed una mano di ferro pare astringermi il cuore il narratore uomo alla buona e conversante per fiduciale socievolezza non si accorgeva che sebbene io non avessi nulla contro di lui pur non poteva meno di raccapricciare guardando quelle mani che si erano scagliate sul mio amico esultai di vedere terminato il bel ponte i cui materiali io aveva veduti sparsi sulla riva lombarda con opinione allora comune che dal lavoro non si facesse più esultai di ritraversare quel fiume e di ritoccare la terra piemontese ma benché io ami tutte le nazioni Dio sa quanto io prediliga l'Italia e benché io sia così invaghito dell'Italia Dio sa quanto più dolce di ogni altro nome d'italico paese mi sia il nome del Piemonte del paese dei miei padri capo 98 di rimpetto a Buffalora e San Martino qui il brigadiere lombardo parlò a carabinieri piemontesi indi mi salutò e ripassò il ponte andiamo a Novara disse al vetturino abbia la bontà di aspettare un momento disse un carabiniere vedi che io non era ancora libero e me ne afflissi temendo che avesse ad essere ritardato il mio arrivo alla casa paterna dopo più di un quarto d'ora comparve un signore che mi chiese il permesso di venire a Novara con me un'altra occasione gli era mancata ora non vi era altro legno che il mio egli era ben felice che io gli concedessi di profittarne eccetera eccetera questo carabiniere travestito era di amabile umore e mi tenne buona compagnia sino a Novara giunti in questa città fingendo di voler che smontassimo un albergo feci andare il legno nella caserma dei carabinieri e qui mi fu detto esservi un letto per me nella camera di un brigadiere e dover aspettare gli ordini superiori io pensavo di poter partire il di seguente mi posi a letto e dopo aver chiacchierato alquanto con l'ospite e brigadiere mi addormentai profondamente da lungo tempo non avea più dormito così bene mi svegliai verso il mattino ma alzai presto e le prime ore mi sembrarono lunghe feci colazione chiacchierai passeggiai in istanza e sulla loggia diedi un'occhiata ai libri dell'ospite e finalmente mi si annuncia una visita un gentile uffiziale mi viene a dar nuove di mio padre e a dirmi esservi di esso innovare una lettera la quale mi sarà in breve portata gli fui sommamente tenuto di questa amabile cortesia volsero alcune ore che pur mi sembrarono eterne la lettera al fin comparve oh quale gioia nel rivedere quegli amati caratteri quale gioia nell'intendere che mia madre l'ottima mia madre viveva e vivevano i miei due fratelli e la sorella maggiore a la minore quella marietta fattasi monaca della visitazione della quale erami clandestinamente giunto notizia del carcere aveva cessato di vivere nove mesi prima mi è dolce credere essere debitore della mia libertà a tutti coloro che mi amavano e che intercedevano incessantemente presso Dio per me e in particolar guisa a una sorella che morì con indizi di somma pietà Dio la compensi di tutte le angosce che il suo cuore soffersi a cagione dalle mie sventure i giorni passavano e la permissione di partire di Novara non veniva alla mattina del 16 settembre questa permissione finalmente mi fu data e ogni tutela di carabinieri cessò oh da quanti anni non mi era più avvenuto di andare dove mi piaceva senza accompagnamento di guardie riscossi qualche denaro ricevetti le gentilezze di persone conoscente di mio padre e partì verso le tre pomeridiane aveva per compagni di viaggio una signora un negoziante un incisore e due giovani pittori uno dei quali era sordo e muto questi pittori venivano da Roma e mi fece piacere l'intendere che conoscessero la famiglia di Maroncelli e si soave cose il poter parlare di coloro che amiamo con alcuno che non si è indifferente per nottammo a Vercelli il felice giorno 17 settembre spuntò si proseguì il viaggio oh come le vetture sono lente non si giunse a Torino che a sera chi mai chi mai potrebbe descrivere la consolazione del mio cuore e dei cuori a me diletti quando rividi e riabbracciai padre madre fratelli non vi era la mia cara sorella Giuseppina che il dover suo teneva a chi eri ma udita la mia felicità si affrettò a venire per alcuni giorni in famiglia renduto a quei cinque carissimi oggetti della mia tenerezza io era io sono il più invidiabile dei mortali ah delle passate sciagure della contentezza presente come di tutto il bene e il male che mi sarà serbato si è benedetta la provvidenza della quale gli uomini e le cose si voglia o non si voglia sono mirabili strumenti che la sa adoprare a fini degni di sé